Libro dodicesimo. Un errore giudiziario. Il giorno fatale. Il giorno seguente agli avvenimenti da me descritti, alle 10 di mattina, nel nostro tribunale distrittuale, ebbe inizio la prima udienza del processo a carico di Dmitry Karamazov. Mi affretto a dichiarare, e a dichiarare con enfasi, che sono lungi da considerarmi in grado di riferire tutto quello che avvenne al processo, sia riguardo ai dettagli, sia riguardo all'ordine reale degli eventi. Ho sempre l'impressione che se si volesse menzionare tutto e chiarire ogni cosa a dovere, occorrerebbe un libro intero e anche piuttosto voluminoso. Che non mi si rimproveri dunque di aver riportato solo quello che mi colpì personalmente, o che mi è rimasto particolarmente impresso. Potrei aver recepito fatti secondari come fatti di primo piano, o persino aver omesso i tratti più rilevanti ed essenziali. Ma, del resto, mi rendo conto che farai meglio a non scusarmi. Farò quello che posso, e i lettori capiranno da soli che ho fatto del mio meglio. E in primo luogo, prima ancora di entrare nell'aula del processo, menzionerò ciò che in quel giorno mi stupì sopra ogni altra cosa. Del resto non suscitò stupore soltanto in me, ma pure in tutti gli altri, come risultò in seguito. Tutti sapevano che il caso aveva suscitato un enorme interesse. Tutti bruciavano dall'impazienza che il processo avesse inizio. In società, quel caso era stato oggetto di conversazioni, congetture, esclamazioni, ipotesi per ben due mesi. Tutti sapevano pure che quel caso era diventato noto in tutta la Russia. Eppure non immaginavamo che avesse scosso tutti e ciascuno in maniera così acuta e desasperata, non soltanto da noi, ma nel resto del paese, come risultò chiaro il giorno della prima udienza. Per quell'occasione erano arrivati ospiti non solo dalla capitale del nostro distretto, ma perfino da altre città della Russia, anche da Mosca e Pietroburgo. Erano arrivati giuristi, addirittura personalità e anche delle signore. Era stata fatta incetta di tutti i biglietti d'ingresso disponibili. Avevano allestito persino dei posti speciali, dietro al tavolo della corte, per i visitatori più noti e importanti. Era stata sistemata una fila intera di poltrone, occupate da diverse personalità, e che in precedenza non era mai stato consentito da noi. Particolarmente numerose erano le signore, sia della nostra città sia forestiere. Penso che costituissero la metà di tutto il pubblico presente. I giuristi erano affluiti così numerosi da tutte le parti della Russia che non si sapeva nemmeno dove sistemarli, dal momento che tutti i biglietti erano stati già distribuiti, ricercati e implorati da un pezzo. Vi dico nei miei occhi, allestire in fretta e furia, in fondo all'aula, al di là della pedana, un recinto speciale dietro il quale fecero accomodare tutti i giuristi convenuti, e quelli si ritennero persino fortunati di poter stare lì, seppure in piedi, visto che per guadagnare spazio erano state levate tutte le sedie, e così gli spettatori, che lì si accalcavano, dovettero restare in piedi, per tutto il tempo, stretti come sardine, spalla a spalla, alcune delle signore, soprattutto fra le forestiere, fecero la loro apparizione in galleria, sfarzosamente abbigliate, ma la maggior parte delle signore era incurante persino dell'abbigliamento. Sui loro visi si leggeva un'isterica, avida, persino morbosa curiosità, una particolarità caratteristica di tutta quella gente riunitasi in aula, e che è degna di nota, consisteva nel fatto che, come fu osservato da molti in seguito, quasi tutte le signore, o perlomeno la stragrande maggioranza di esse, erano dalla parte di Mitia, ed erano favorevoli alla sua assoluzione, forse soprattutto perché egli si era fatto la reputazione di conquistatore di cuori femminili. Sapevano che sarebbero comparse due donne rivali, in particolare una di esse, Caterina Ivanovna, suscitava l'interesse generale. Sul suo conto si raccontavano molte cose straordinarie, sulla sua passione per Mitia, a dispetto del delitto da questi perpetrato, si raccontavano aneddoti sbalorditivi. In particolare si menzionava l'orgoglio della giovane donna, ella non faceva visite quasi a nessuno nella nostra città, e i suoi contatti in alto loco. Si diceva che avesse intenzione di presentare una petizione al governo per ottenere il permesso di seguire il criminale in deportazione e sposarsi con lui da qualche parte, nelle miniere sottoterra. Con trepidazione non inferiore si attendeva l'apparizione al processo anche di Grushenka, in qualità di rivale di Caterina Ivanovna. Con curiosità spasmodica attendevano l'incontro delle due rivali davanti ai giudici, l'orgogliosa ragazza aristocratica da una parte e l'etera dall'altra. Del resto le signore della nostra città conoscevano molto meglio Grushenka di Caterina Ivanovna. Avevano visto anche in passato la donna che aveva portato alla rovina Fiodor Paolovic e il suo disgraziato figlio, e tutte, quasi senza eccezione, si meravigliavano che padre e figlio potessero aver perso la testa a quel modo per una borghesuccia russa delle più ordinarie e per di più bruttina. Insomma, si faceva un gran parlare. Ho saputo da fonte certa che nella nostra città si verificarono persino alcune liti familiari a causa di mitia. Molte signore litigarono vivacemente con i loro mariti per via delle divergenze di vedute su questo raccapricciante caso. Ed era naturale, dopo un tale fatto, che tutti i mariti di quelle signore fossero convenuti in quell'aula non soltanto maldisposti nei confronti dell'imputato, ma persino risentiti contro di lui. E del resto si può affermare con sicurezza che al contrario della componente femminile, la componente maschile del pubblico fosse prevenuta contro l'imputato. Si vedevano facce severe, accigliate e molte addirittura piene di rancore. Vero è che mitia era riuscito ad offendere personalmente molte di quelle persone durante il suo soggiorno nella nostra città. Indubbiamente alcuni dei visitatori erano persino allegri e del tutto indifferenti a livello personale al destino di mitia, ma non certo al processo in corso. Attendevano, con interesse, l'esito del processo e la maggioranza degli uomini desiderava decisamente la condanna del criminale, fatta eccezione forse per i giuristi, ai quali stava a cuore non tanto l'aspetto morale del caso, quanto quello, diciamo così, di attualità giuridica. Erano tutti accitati per l'arrivo del famoso avvocato Fetiukovie. Il suo talento era generalmente noto e quella non era la prima volta che veniva in provincia ad assumere la difesa in casi penali così clamorosi. E quando la difesa era nelle sue mani, quei casi diventavano illustri in tutta la Russia e venivano a lungo ricordati. Circolavano alcuni aneddoti anche sul nostro procuratore e sul presidente del tribunale. Si diceva che il nostro procuratore temesse l'incontro con Fetiukovie, che i due fossero nemici di lunga data, sin dal tempo di Pietroburgo, cioè dagli inizi della loro carriera, che il nostro permaloso Ippolit Kirillovic, che si considerava costantemente danneggiato da qualcuno sin dai tempi di Pietroburgo per il fatto che le sue qualità non erano adeguatamente apprezzate, si fosse molto risollevato di spirito, per il caso dei Karamazov, e con esso sperasse addirittura di ridare vigore alla sua carriera sfiorita. Ma quello che lo spaventava era soltanto Fetiukovie. Ma riguardo al timore nei confronti di Fetiukovie, i commenti non erano del tutto giusti. Il nostro procuratore non era tipo da abbattersi dinnanzi al pericolo. Al contrario, era uno di quelli per i quali la sicurezza in se stessi cresce e prende il volo proprio nella misura in cui aumenta il pericolo. Comunque, va detto che il nostro procuratore era troppo impulsivo e morbosamente impressionabile. A volte ci metteva tutta l'anima in un caso e lo conduceva come se tutto il suo destino e la sua fortuna dipendessero da esso. Nell'ambiente dei magistrati ne ridevano un po', giacché il nostro procuratore, per questa sua caratteristica, si era conquistato anche una certa notorietà, se non del tutto universale, certo superiore a quella che si poteva supporre dalla sua modesta posizione nel nostro tribunale. Soprattutto, lo prendevano in giro per la sua passione per la psicologia. Secondo me, sbagliavano tutti. A me sembra che il nostro procuratore avesse una personalità e un carattere di gran lunga più profondi di quello che molti pensavano. Solo che quest'uomo cagionevole di salute non aveva saputo affermarsi nei primi passi della carriera e poi nemmeno in seguito, per il resto della sua vita. Quanto al presidente della nostra corte, di lui si può dire che era una persona raffinata, umana, esperta della sua professione e di idee progressiste. Era abbastanza ambizioso, ma non si preoccupava molto della propria carriera. Lo scopo principale della sua vita era essere un uomo di idee avanzate. Era anche un uomo agiato e con molte relazioni sociali. In caso Karamazov, lo aveva coinvolto molto, come risultò in seguito, ma solo in senso generale. Lo interessava il fenomeno, la sua classificazione, l'angolazione dalla quale guardarlo come prodotto delle nostre condizioni sociali, come manifestazione tipica del carattere nazionale e così via. Il suo atteggiamento riguardo all'aspetto personale del caso, riguardo alla tragedia che comportava e alle persone in essa coinvolte, a cominciare dall'imputato, era piuttosto indifferente e distratto, come del resto, forse. Era giusto che fosse. Prima ancora che entrasse la corte, l'aula era a stracolma. La nostra aula del tribunale è la migliore della città, spaziosa dal soffitto alto, con una buona acustica. Alla destra dei giudici, che si trovavano su una pedana sollevata, erano stati preparati un tavolo e due file di sedie per la giuria. A sinistra c'era il posto dell'imputato e del suo difensore. Al centro dell'aula, vicino alla posizione dei giudici, c'era un tavolo con le prove materiali. Su di esso giacevano la vestaglia di Fiodor Paolovic, macchiata di sangue, il fatale pestello di ottone, con il quale si presumeva fosse stato compiuto il delitto, la camicia di Mitia con la manica inzuppata di sangue, la sua finanziera, tutta macchiata di sangue sul retro, all'altezza della tasca, dove aveva infilato quella sera il fazzoletto tutto sporco di sangue. Il fazzoletto stesso, indurito dal sangue, era preso e ormai ingiallito. La pistola che Mitia aveva caricato per suicidarsi a casa di Perciotin e che Trifon Borisovia gli aveva sottratto alla chetichella Macroe. La busta, con la scritta nella quale erano stati preparati i 3.000 rubli per Grushenka, il sottile nastrino rosa e molti altri oggetti, che non starò qui a delencare. A una certa distanza più in là, in fondo alla sala, avevano inizio i posti per il pubblico, ma davanti alla balaustra c'erano alcune sedie per quei testimoni che sarebbero rimasti in aula dopo aver rilasciato la loro deposizione. Alle 10 fece il suo ingresso la corte, composta dal presidente, un giudice conciliatore onorario e un altro giudice. Immediatamente dopo fece il suo ingresso anche il procuratore. Il presidente era un uomo di bassa statura, robusto, tarchiato, con una fisionomia da sofferente di emorroidi, sulla cinquantina, con i capelli scuri brizzolati, tagliati corti e un nastro rosso. Non ricordo più di quale ordine. Il procuratore invece mi sembrò, e non soltanto a me, molto pallido, quasi verde in viso, come dimagrito all'improvviso, in una notte sola. Infatti, quando l'avevo visto, soltanto due giorni prima, aveva il suo solito aspetto. Il presidente esordì col domandare all'usciere se tutti i giurati fossero presenti. Mi rendo conto tuttavia, che non posso continuare in questo modo, in parte perché molte cose non riuscii a sentirle, altre non riuscii ad approfondirle, altre ancora le ho dimenticate, ma soprattutto perché, come ho detto prima, non ho letteralmente né spazio né tempo per menzionare tutto quello che fu detto e fatto. So soltanto che nessuna delle due parti, cioè il difensore e il procuratore, eliminarono molti giurati. Ricordo ancora la composizione di quella giuria di dodici elementi, quattro impiegati nostri cittadini, due commercianti e sei fra concittadini e artigiani della nostra città. Ricordo che, molto prima che iniziasse il processo, in società ci si domandava, soprattutto fra le signore, è mai possibile che un caso delicato, complesso e psicologico come questo sia sottoposto al giudizio fatale di impiegatucci e alla fin dei conti di contadini? Che cosa può capirne un impiegatuccio? Per non parlare di un contadino poi. Infatti tutti e quattro gli impiegati che erano capitati nella giuria erano persone insignificanti, con un grado basso, ormai vecchi, solo uno di loro era un po' più giovane, poco conosciuti in società, tipi che avevano campato tutta la vita con un umile stipendio e che quindi, presumibilmente, avevano mogli vecchie e impresentabili, nonché inediate di figli, probabilmente scalzi. Gente che al massimo si prendeva lo svago di una partitina a carte e certo non leggeva mai libri. I due commercianti avevano un'aria rispettabile, ma erano stranamente silenziosi e immobili. Uno di loro aveva la faccia rasata e si vestiva all'europea, l'altro, con una barbetta britannica, spizzolata, portava al collo non so che medaglia appesa a un nastro rosso. Degli artigiani e dei contadini non c'è nulla da dire. Gli artigiani di scoto prigionievsk sono quasi allo stesso livello dei contadini, lavorano persino la terra. Anche due di loro indossavano abiti di foggia europea e forse per questo sembravano più sporchi e sgradevoli a vedersi degli altri quattro. cosicché poteva davvero sorgere la domanda che sorse anche in me non appena li vidi. Che cosa possono capirci quelli di un caso del genere? Tuttavia, i loro visi producevano un'impressione grave e persino minacciosa, tanto erano severi e acciliati. Alla fine, il presidente dichiarò aperto il caso dell'assassinio del consigliere titolare a riposo Fyodor Pavlovich Karamazov. Non ricordo esattamente come si espresse allora. Fu ordinato all'usciere di condurre in aula l'imputato ed ecco che apparve Mitia. Nell'aula calò il silenzio. Si sarebbe sentita volare una mosca. Non so sugli altri, ma su di me l'aspetto di Mitia produsse la più sfavorevole delle impressioni. Più che altro sembrava uno zerbinotto con quella sua finanziera fiammante. In seguito venne a sapere che proprio per quella occasione aveva ordinato quella finanziera al suo sarto di mosca che conservava ancora le sue misure. Indossava guanti neri in morbida pelle, nuovissimi e biancheria di prima qualità. Egli si recò al suo posto camminando come al solito con i suoi lunghi passi e guardando fisso, quasi immobile davanti a sé e si sedette al suo posto con aria imperturbabile in quello stesso momento entrò anche il difensore l'illustre Fetiukovie e una sorta di soffocato rumorio attraverso l'aula. Era un uomo alto e segaligno con lunghe gambe sottili dita bianche di straordinaria leggerezza e il viso rasato i capelli piuttosto corti pettinati modestamente e labbra sottili atteggiate ora a un sorriso ora a un ghigno. Dimostrava una quarantina d'anni. Il suo viso sarebbe stato gradevole se non fosse stato per gli occhi che già piccoli e inespressivi erano vicini fra loro in modo fuori dall'ordinario. Erano separati soltanto dalla linea sottile del sottile naso allungato. Insomma, quel suo viso colpiva per una certa somiglianza con quello di un uccello. Indossava fracche e cravatta bianca. Ricordo la prima domanda che il presidente pose a Mitia. Nome, titolo e così via. Mitia rispose bruscamente ma con voce inaspettatamente alta tanto che il presidente trasalì e lo guardò sbalordito. Poi venne letta la lista delle persone che avrebbero preso parte all'istruttoria dibattimentale cioè i testimoni e i periti. L'elenco era lungo quattro dei testimoni erano assenti. Miusov aveva reso la sua testimonianza in fase di istruttoria preliminare ma al momento si trovava a Parigi. La signora Choklakova e il proprietario Maximov erano assenti per motivi di salute e Smerdyakov per morte improvvisa. Per questo fu presentato un certificato della polizia. La notizia di Smerdyakov aveva suscitato un sensibile sussulto e un lungo brusio nella sala. Naturalmente fra il pubblico molti ignoravano l'improvviso suicidio ma quello che colpì più di tutto fu l'improvvisa uscita di Mitia non appena ebbero riferito la notizia su Smerdyakov egli scattò in piedi dal suo posto ed esclamò a tutta la sala «Era un cane ed è morto da cane!» Ricordo come il suo difensore si scagliò verso di lui e il presidente lo ammonì che se simili reazioni si fossero ripetute avrebbe preso severi provvedimenti. Mitia annuì e rispose a scatti ma come senza ombra di pentimento ripetendo più volte a mezza voce al difensore «Non lo farò più, non lo farò più!» «Mi è scappato, non lo farò più!» E certo quel breve episodio non produsse un'impressione favorevole nell'opinione dei giurati e del pubblico. Esso aveva dato dimostrazione del suo carattere parlava da sé ancora sotto l'effetto prodotto da questo episodio venne letto dal cancelliere l'atto d'accusa. Esso era piuttosto breve ma circostanziato vi si esponevano molto in generale le cause principali dell'arresto e il motivo del rinvio a giudizio e così via. Eppure mi impressionò molto il cancelliere lesse a voce alta, netta, distinta fu come se l'intera tragedia venisse ripresentata davanti a tutti in rilievo in forma concentrata illuminata da una luce fatale e spietata ricordo come immediatamente dopo la lettura il presidente domandò a Mitia con voce alta e grave imputato vi dichiarate colpevole o innocente dell'accusa a vostro carico? Mitia si alzò di scatto mi dichiaro colpevole di ubriachezza e dissipatezza esclamò ancora una volta con una voce sorprendente e quasi frenetica di ozio e dissolutezza volevo diventare un uomo onesto una volta per tutte proprio nel momento in cui il destino si è abbattuto contro di me ma della morte del vecchio del mio nemico e padre non sono colpevole del furto ai suoi danni no, no non sono colpevole e non potrei esserlo Dimitri Karamazov è un mascalzone non un ladro detto questo si sedette al suo posto si vedeva che stava tremando per tutto il corpo il presidente gli rivolse ancora una volta un breve ma severo ammonimento a rispondere soltanto alle domande senza dilungarsi in dichiarazioni irrilevanti e fuori luogo dopodiché ordinò che si procedesse con distruttoria introdussero tutti i testimoni per il giuramento e in quella occasione li vidi tutti insieme i fratelli dell'imputato furono esonerati dal giuramento dopo l'esortazione del prete e del presidente si fecero uscire i testimoni essi vennero fatti accomodare il più lontano possibile l'uno dall'altro dopodiché iniziarono a convocarli uno per uno testimoni pericolosi non so di preciso se i testimoni della difesa e dell'accusa fossero stati separati in gruppi diversi dal presidente o se fosse stato prestabilito l'ordine con il quale sarebbero stati convocati ma doveva essere andata così so soltanto che i testimoni dell'accusa vennero chiamati per primi ripeto che non ho intenzione di riportare integralmente gli interrogatori parola per parola tanto più che la mia descrizione risulterebbe in parte superflua dal momento che nelle righe del procuratore e dell'avvocato difensore quando dettero inizio al dibattimento l'intero corso e il senso di tutte le testimonianze rese ed ascoltate fino a quel momento furono come riassunti sotto una luce chiara e significativa ed io da parte mia ed io da parte mia ho preso nota di questi due notevoli discorsi per lo meno di brani di essi e li riporterò a tempo debito come riporterò pure un episodio del processo eccezionale e del tutto inaspettato che ebbe luogo prima dell'inizio del dibattimento e che senza dubbio influenzò il sinistro e fatale esito del processo mi rimetterò ad osservare che sin dai primissimi minuti del processo fu evidente una caratteristica peculiare di questo caso che tutti notarono vale a dire l'eccezionale forza dell'accusa in confronto ai mezzi di cui disponeva la difesa questo lo capirono tutti sin dal primo passo quando in quella sinistra aula di tribunale i fatti cominciarono a raggrupparsi intorno ad un unico punto e tutto quell'orrore e quel sangue cominciarono gradualmente a venire alla luce ognuno forse avvertissi sin dal primo momento che quel caso non era affatto controverso che non c'era ombra di dubbio che in realtà non c'era bisogno di alcun dibattimento che quel dibattimento era soltanto una formalità e che l'imputato era colpevole chiaramente e inappellabilmente colpevole credo inoltre che anche tutte le signore tutte nessuna esclusa che attendevano così ardentemente l'assoluzione dell'affascinante imputato in quel momento fossero assolutamente certe della sua piena colpevolezza e non solo penso che si sarebbero mortificate se la sua colpa non fosse stata fermamente provata già che in quel caso la scena finale dell'assoluzione del criminale avrebbe perso d'effetto del fatto che lo avrebbero assolto tutte le signore strano a dirsi furono certe fino all'ultimo minuto è colpevole ma lo assolveranno per spirito umanitario in conformità alle nuove idee ai nuovi sentimenti che ora sono diventati di moda e via dicendo proprio per questo erano convenute al processo con tale impazienza gli uomini invece erano più interessati allo scontro tra il procuratore e il famoso Fetiukovie tutti si stupivano e si domandavano che cosa avrebbe potuto fare di una causa persa in partenza come quella persino un talento come Fetiukovie ecco perché seguivano con grande attenzione ogni sua mossa passo per passo ma Fetiukovie fino alla fine fino alla ringa finale rimase un enigma per tutti i più esperti avevano il presentimento che egli avesse un suo sistema che avesse un certo piano in mente e che stesse puntando verso uno scopo preciso ma quale fosse questo scopo era impossibile indovinarlo la sua sicurezza e la sua presunzione tuttavia saltavano agli occhi inoltre tutti notarono all'istante e con piacere che malgrado si trovasse da poco nella nostra città tre giorni non di più egli era riuscito ad impossessarsi del caso in maniera sorprendente e lo aveva studiato fino ai minimi particolari in seguito la gente raccontava con gusto di come per esempio egli fosse riuscito a smontare tutti i testimoni dell'accusa e a confonderli chi più chi meno e soprattutto a gettare ombre sulla loro reputazione morale e quindi anche sulle loro deposizioni ma c'era chi supponeva che facesse così soltanto per gioco per così dire per amore di una certa brillantezza forense affinché nessuno degli espedienti avvocateschi di rito fosse trascurato già che tutti erano convinti che con questo gettar ombre a tutto spiano egli non potesse apportare alcun consistente definitivo beneficio cosa che forse egli stesso comprendeva meglio di tutte aveva un asso nella manica una specie di difesa ancora nascosta che avrebbe tirato fuori all'improvviso al momento opportuno ma intanto inconsapevole della propria forza sembrava che si stesse divertendo e distraendo un po' così per esempio durante l'interrogatorio di Grigori Vasilievich l'ex servitore di Fiodor Paolovic che aveva fornito la testimonianza più schiacciante sul fatto che la porta che dà sul giardino era aperta il difensore non gli dette davvero tregua quando fu il suo turno di porre le domande al teste è degno di nota che Grigori Vasilievich sia rappresentato in aula per nulla turbato né dalla gravità del processo né dalla presenza di un vasto auditorio con un'aria tranquilla e piuttosto sussiegosa egli rendeva la sua testimonianza con sicurezza come se stesse facendo due chiacchiere a quattro occhi con la sua marfa spagnatevna forse soltanto con un po' più di deferenza era impossibile confonderlo inizialmente il procuratore gli fece molte domande su tutti i particolari della famiglia Karamazov ne è emerso un quadro a tinte vivide dell'intera famiglia si vedeva si sentiva che il testimone era in buona fede e imparziale nonostante il profondissimo rispetto per la memoria del suo padrone defunto egli tuttavia dichiarò che egli era stato ingiusto con Mitia e che non è così che si educano i figli se lo sarebbero mangiato le cimici se non ci fossi stato io soggiunse parlando degli anni dell'infanzia di Mitia non è stato nemmeno giusto che il padre facesse torto al figlio per la proprietà della madre che gli aspettava di diritto quando il procuratore gli domandò quali elementi avesse per affermare che Fiodor Paolovic avesse fatto torto al figlio riguardo all'eredità Grigoli Vasilievic con meraviglia di tutti non fornì alcun dato oggettivo tuttavia continuò ad insistere che la suddivisione dei beni con Mitia era stata sbagliata e che il padre doveva ancora dargli alcune migliaia di rubli devo notare che questa domanda se Fiodor Paolovic dovesse davvero risarcire Mitia il procuratore la pose con particolare insistenza a tutti i testimoni ai quali poteva porla compresi Agliosha e Ivan Fiodorovic ma non riuscì ad ottenere nessuna informazione precisa da nessuno tutti confermavano il fatto ma nessuno era in grado di addurre la minima prova dopo che Grigori ebbe descritto la scena di quel giorno a tavola quando Dmitri Fiodorovic irruppe e picchiò il padre minacciandolo che sarebbe tornato per ucciderlo un'ombra sinistra attraversò la sala tanto più che il vecchio servo raccontava l'accaduto tranquillamente senza parole superflue con un linguaggio tutto suo ottenendo un effetto di efficacia e eloquenza egli aggiunse di non essere in collera con Mitia per averlo colpito in faccia e buttato per terra lo aveva perdonato da un pezzo per il suo gesto sul defunto Smerdiakov disse segnandosi che era un ragazzo capace ma stupido e prostrato dal suo male e soprattutto un miscredente ma erano stati Fiodor Paolovic e il suo figlio maggiore ad insegnargli ad essere così ma difesa l'onestà di Smerdiakov persino con fervore quando riferì a questo proposito di quella volta che Smerdiakov aveva trovato il denaro caduto al padrone e non l'aveva nascosto ma l'aveva restituito al padrone che lo ricompensò con un pezzo d'oro e da quel giorno ebbe una fiducia illimitata in lui e gli ribadì con insistenza che la porta che dava sul giardino era aperta ma del resto gli fecero tante di quelle domande che non riesco a ricordare tutto in questo momento poi si passò all'interrogatorio del difensore e la sua prima domanda riguardò il plico nel quale si supponeva che Fiodor Paolovic avesse nascosto 3000 rubli per una certa persona l'avete visto con i vostri occhi voi che eravate persone vicine al vostro padrone da tanti anni Grigoli rispose che non l'aveva visto e che non aveva mai sentito parlare di quei soldi da nessuno fino al momento in cui tutti hanno cominciato a parlarne dal canto suo Fetiukovie pose questa domanda sul plico a tutti i testimoni che potevano saperne qualcosa con la stessa insistenza con la quale il procuratore poneva la sua domanda sulla divisione della proprietà e da tutti otteneva la stessa risposta che nessuno aveva visto quel plico anche se molti ne avevano sentito parlare l'insistenza del difensore su questa domanda fu notata da tutti sin dall'inizio adesso con il vostro permesso vi porrò una domanda disse improvvisamente e inaspettatamente Fetiukovie di che cosa era fatto quel balsamo diciamo così quel preparato che come risulta dall'istruttoria preliminare avete strofinato per la vostra lombagine nella speranza di guarire in quel modo Grigoli guardò l'interrogatore con uno sguardo ottuso e dopo un breve silenzio mormorò c'era della salvia soltanto della salvia non vi ricordate nessun altro ingrediente c'era pure della piantaggine e del pepe forse si informò Fetiukovie si del pepe e così via e tutto questo sciolto in un po' di vodchina vero in alcol puro delle risatine percorsero l'aula bene bene addirittura alcol puro dopo la strofinazione alla schiena vi siete bevuto quanto era rimasto nella bottiglia con una certa perghierina pia nota soltanto a vostra moglie non è vero sì l'ho bevuto ad occhio e croce ne avete bevuto molto ad occhio e croce un bicchierino e poi ancora un altro sarà stato un bicchiere addirittura un bicchiere forse anche un bicchiere e mezzo Grigoli tacque aveva cominciato a capire un bicchierino e mezzo di alcol puro non c'è male che ne dite si possono vedere aperte le porte del paradiso altro che la porta del giardino vero Grigoli taceva si dirono altri risolini in aula il presidente fece un movimento sapreste dire con certezza lo incalzava sempre più fediucovie se stavate dormendo oppure no quando avete visto la porta che dà sul giardino aperta ero in piedi questo non è una prova sufficiente che non steste dormendo ancora risetina in aula sareste stato in grado per esempio di rispondere in quel momento se vi avessero chiesto beh per esempio in che anno siamo questo non lo so e in che anno dell'era cristiana siamo lo sapete vero Grigoli rimaneva con un'aria perplessa guardando fisso il suo torturatore per quanto possa sembrare strano si sarebbe detto che non sapesse davvero in che anno fosse forse saprete quante dita hanno le vostre mani io sono una persona a servizio disse Grigoli con voce alta e ferma se ai superiori fa comodo prendersi gioco di me è mio dovere sopportare Fetiukovia rimase leggermente spiazzato e il presidente intervenne ammonendo il difensore a porre domande più pertinenti Fetiukovia ascoltò il rilievo si inchinò con dignità e dichiarò di avere finito con le domande certo sia nel pubblico sia nella giuria poteva rimanere un pizzico di dubbio sulla veridicità della testimonianza di un uomo che aveva avuto la possibilità di vedere le porte del paradiso nel corso di una certa cura e che inoltre ignorava persino in quale anno della nascita di Cristo si fosse quindi il difensore aveva comunque ottenuto il suo scopo ma prima che Grigori uscisse ebbe luogo un altro episodio il presidente chiese all'imputato se avesse qualcosa da dire in merito alla testimonianza appena ascoltata eccettuato il fatto della porta ha detto la verità grida Amitia per avermi levato i pidocchi dalla testa lo ringrazio per aver perdonato le mie percosse lo ringrazio il vecchio è sempre stato onesto e fedele a mio padre al pari di 700 cani barboni l'imputato modere il suo linguaggio ammonisse veramente il presidente non sono un cane barbone borbotò pure Grigori beh allora il barbone sarò io grida Amitia se è un insulto allora lo prendo su di me e a lui chiedo scusa sono stato una bestia sono stato crudele con lui anche con Esopo sono stato crudele chi sarebbe Esopo domandò severamente il presidente un'altra volta beh con Piero con mio padre con Fiodor Paolovic il presidente ribadì ancora e ancora in tono grave e severo di essere più cauto nella scelta delle parole danneggiate voi stesso nell'opinione dei vostri giudici il difensore si destreggiò con estrema abilità anche nel corso dell'interrogatorio di Rakitin noterò che Rakitin era incluso fra i testimoni chiave e senza dubbio il procuratore teneva moltissimo a lui risultò che egli sapeva tutto sapeva cose da far restare a bocca aperta era stato da tutti aveva visto tutto aveva parlato con tutti conosceva tutti i particolari delle biografie di Fiodor Paolovic e di tutti i Karamazov vero è che del plico con i 3000 rubli aveva sentito parlare soltanto da Mitia stesso in compenso descrisse dettagliatamente le bravate di Mitia nella trattoria la capitale e tutte le sue parole e i gesti più compromettenti riferì pure la storia dello straccio di stoppa il capitano Znyegiriev ma riguardo alla questione se Fiodor Paolovic fosse ancora in debito nei confronti di Mitia dopo la suddivisione dell'eredità neanche la Chiting seppe dare indicazioni e si limitò a ripetere luoghi comuni in tono sprezzante chi può dire quale dei due fosse in torto o fosse in debito con l'altro con quella pazza maniera di complicare le cose tipiche dei Karamazov in cui nessuno riesce a raccapezzarsi e definire nulla egli rappresentò tutta la tragedia di quel delitto come il prodotto degli inveterati costumi legati all'istituto della servitù feudale e delle condizioni disastrate in cui versava la Russia che risentiva della mancanza di istituzioni adeguate insomma gli concessero una certa libertà di esprimere le proprie opinioni durante quel processo il signor Rakiting ebbe la prima occasione di dimostrare chi fosse realmente e di farsi notare il procuratore era al corrente del fatto che il test stava preparando un articolo su quel delitto e in seguito nella sua ringa come vedremo citò alcuni pensieri tratti da quell'articolo che egli evidentemente già conosceva il quadro che emerse dalla testimonianza di Rakiting era cupo e sinistro e consolidò notevolmente l'accusa nel complesso l'esposizione di Rakiting affascinò il pubblico per la sua indipendenza di pensiero e per la straordinaria nobiltà del suo slancio si udirono persino due o tre scroci di applausi fra il pubblico proprio in quei punti in cui si parlava della servitù feudale e delle condizioni disastrate della Russia ma Rakiting che era pur sempre un giovanotto commise un piccolo errore che il difensore si affrettò immediatamente a sfruttare a proprio vantaggio mentre rispondeva ad alcune domande riguardanti Grushenka trascinato dal proprio successo del quale era certamente consapevole e dai voli di nobili sentimenti ai quali si era lasciato andare si permise di esprimersi piuttosto sprezzantemente a proposito di Agrafena Aleksandrovna come della mantenuta del mercante Samsonov in seguito avrebbe pagato non so cosa per non aver mai pronunciato quella parolina perché proprio su quella parolina si affrettò a coglierlo in fallo Fediucovie è tutto perché Rakitin non aveva tenuto in conto che il difensore in un lasso di tempo così breve potesse essersi addentrato in quel caso sin nei più intimi particolari permettete che vi ponga una domanda esordì il difensore con il più affabile e perfino deferente dei sorrisi quando arrivò il suo turno di porre le domande voi sarete certamente lo stesso signor Rakitin che ha scritto l'opuscolo pubblicato dalle autorità radiocesane dal titolo la vita in dio del defunto Starec padre Zosima così intriso di profondi sentimenti religiosi e preceduto da una devota dedica al vescovo l'ho letta di recente con molto piacere non l'avevo scritto perché fosse pubblicato l'hanno pubblicato in seguito mormorò Rakitin con un'aria stranamente allibita e quasi vergognosa oh è magnifico un pensatore come voi può e deve avere ampie vedute rispetto a qualsiasi fenomeno sociale il vostro utilissimo opuscolo ha avuto ampia diffusione grazie al patrocinio del vescovo e ha reso un apprezzabile servizio ma ecco che cosa mi interesserebbe sapere da voi avete appena dichiarato di essere un conoscente molto stretto della signorina Svetlova non è vero? nota bene Svetlova era il cognome di Grushenka questo lo appresi soltanto quel giorno nel corso del processo io non posso rispondere di tutti i miei conoscenti sono un giovanotto e poi chi può rispondere per tutti quelli che si incontrano sbottò così Rachiti capisco capisco benissimo esclamò Fetiukovia come se fosse egli stesso imbarazzato e impaziente di scusarsi voi come chiunque altro potevate benissimo essere interessato all'amicizia di una giovane e bella donna che accoglieva volentieri presso di sé il fiorfiore della gioventù locale ma volevo solo chiedervi una cosa abbiamo saputo che la Svetlova due mesi fa aveva gran desiderio di conoscere il minore dei Karamazov Alexei Fiodorovich e che solo perché voi lo conduceste da lei e proprio con l'abito talare che allora indossava vi aveva promesso la ricompensa di 25 rubli che vi avrebbe saldato non appena aveste portato quel giovane a casa sua questo come noto accadde proprio la sera di quel giorno che si concluse con la tragica catastrofe che è all'origine del processo attuale voi quella sera avete condotto Alexei Fiodorovich dalla signorina Svetlova e avete incassato dalla signorina i 25 rubli di ricompensa non è vero? era questo che vi volevo domandare era uno scherzo non vedo come questo possa interessarvi li ho presi per scherzo per poi restituirli dunque li avete presi eppure non li avete restituiti sino ad oggi o mi sbaglio? ma non ha senso borbottò Rakitin io non posso rispondere a queste domande certo che li restituirò intervenne il presidente ma il difensore annunciò che aveva terminato le sue domande al signor Rakitin il signor Rakitin uscì di scena piuttosto malconcio l'effetto ottenuto dal suo discorso nobile ed elevato era stato alquanto guastato e Fetiukovie seguendolo con gli occhi sembrava che suggerisse al pubblico ecco che tipi sono i vostri nobili accusatori ricordo che anche questo episodio non passò senza una reazione da parte di Mitia adirato dal tono con il quale Rakitin si era espresso riguardo a Grushenka gli aveva gridato dal suo posto Bernard quando poi il presidente alla fine dell'interrogatorio di Rakitin domandò all'imputato se volesse fare qualche commento da parte sua allora Mitia gridò con voce tonante da quando sono stato arrestato ha chiesto denaro in prestito anche a me è uno spresevole Bernard un opportunista e non crede neppure in Dio ha raggirato per benino il vescovo Mitia naturalmente venne rimproverato di nuovo per l'intemperanza del suo linguaggio ma il signor Rakitin era bello sistemato anche la testimonianza del capitano Shnyegiriev fu un fallimento ma per tutt'altra ragione egli si presentò lacero con gli abiti sudici gli stivali infangati e nonostante tutti i controlli e la perizia preliminare egli si dimostrò irreparabilmente al ticcio alle domande sull'oltraggio subito da parte di Mitia egli inaspettatamente si rifiutò di parlare che Dio lo benedica vostra signoria è stato Yushenka ad ordinarvi di non farlo Dio mi ricompenserà nell'aldilà chi vi ha ordinato di non parlare di chi state parlando Yushenka il mio figlioletto paparino paparino come ti ha umiliato me lo disse vicino al macigno adesso sta per morire vostra signoria il capitano scoppiò in singhiozzi e di slancio si buttò in ginocchio ai piedi del presidente lo condussero subito fuori tra le risate degli astanti l'effetto preparato dal procuratore fallì del tutto il difensore dal canto suo continuava a sfruttare ogni opportunità e suscitava sempre più stupore con la sua minuziosa conoscenza del caso così per esempio la testimonianza di Trifon Borisier sulla prima aveva prodotto un'impressione eccezionale e naturalmente si era rivelata altamente pregiudizievole per Mitia egli aveva calcolato quasi sulle dita che Mitia durante la sua prima visita a Mocroe un mese prima della catastrofe non poteva aver speso meno di 3.000 rubli o poco ci mancava solo per quelle zigane quanti ne aveva gettati al vento di denari quanto ai nostri pidocchiosi contadini non è che egli aveva gettato mezzi rubli in strada quello aveva regalato bigliettoni da 25 rubli ciascuno non di meno e quanti gliene hanno rubati senza andare tanto per il sottile vossignoria è certo quelli che rubarono non gli lasciarono mica la ricevuta come si fa a prenderlo il ladro voglio dire se sei tu stesso a gettare il denaro al vento la gente da noi è furfante si sa non ha riguardo per la propria anima e vedeste come si comportò con le ragazze con le ragazze del nostro villaggio c'è gente che si è sistemata da noi dopo d'allora ve lo dico io mentre prima erano poveri in canna signore insomma egli aveva fatto l'elenco di tutte le spese una per una e aveva tirato le somme così la teoria che avesse speso soltanto 1500 rubli e conservato il resto nell'amuleto era impossibile l'ho visto con i miei occhi che aveva in mano 3000 rubli come fossero stati una copeca l'ho visto con i miei occhi e io sono il tipo che conta al volo signore esclamò Trifon Borisovie cercando di soddisfare con tutte le sue forze le autorità quando però venne il turno del difensore questi non fece alcun tentativo di smontare la sua testimonianza ma portò all'improvviso il discorso su un episodio accaduto durante la prima baldoria di Mitia a Mokroe ancora un mese prima del suo arresto quando il vetturino Timofiei e l'altro contadino Achim avevano raccattato da terra 100 rubli caduti a Mitia ubriaco nell'andito e li avevano consegnati a Trifon Borisovie e quello li aveva ricompensati con un rublo a testa allora li restituiste o no quei 100 rubli al signor Karamazov Trifon Borisovie tergiversò in vano ma alla fine dopo che i due contadini furono interpellati riguardo a quei 100 rubli ritrovati fu obbligato a confessare aggiungendo però che a Dimitri Fiodorovic aveva religiosamente restituito la cifra in perfetta onestà solo che lui in quel momento era ubriaco fradicio e non se lo poteva ricordare ma dal momento che aveva negato sul ritrovamento di quel denaro fino all'interrogatorio dei due contadini la sua dichiarazione di aver restituito i soldi a Mitia fu naturalmente accolta con gran sospetto e così uno dei testimoni più pericolosi presentati dall'accusa usciva ancora una volta sotto l'ombra del sospetto e con la reputazione gravemente macchiata la stessa cosa successe pure con i polacchi quelli si presentarono con un'aria fiera e indipendente tutti e due dichiararono a voce alta in primo luogo di aver servito la corona e poi che Pan Mitia aveva loro proposto 3000 rubli per comprare il loro onore e che essi stessi avevano visto quei soldi in mano sua Pan Musialowicz infarciva le sue risposte con un'enorme quantità di parole polacche e vedendo che questo lo elevava nella considerazione del presidente e del procuratore egli si ringalluzì tanto che finì per parlare direttamente in polacco ma Fetiukovie catturò anche loro nella sua rete per quanto Trifon Borisovie richiamato un'altra volta tergiversasse egli tuttavia dovette riconoscere che il mazzo di carte che gli aveva dato era stato sostituito da Pan Grublevski con uno suo e che questi aveva barato durante il gioco questo fu confermato anche da Kalganov quando venne il suo turno di testimoniare ed entrambi i Pan si ritirarono con la reputazione alquanto offuscata e per di più fra le risa del pubblico la stessa cosa avvenne quasi con tutti gli altri testimoni più pericolosi Fetiukovie fu capace di gettare ombre sulla loro moralità e di congedarli con un palmo di naso uno per uno gli esperti e i giuristi ammiravano la sua abilità ma ancora non comprendevano quale utilità potesse avere alla fine quel modo di procedere già che lo ripeto tutti percepivano la forza irresistibile dell'accusa che cresceva sempre più tragicamente ma dalla sicurezza del grande mago capivano che egli era tranquillo e aspettavano un uomo del genere non poteva essere venuto da Pietroburgo in vano non era un uomo da tornarsene indietro con un pugno di mosche la perizia medica e una libra di nocciole anche la perizia medica aiutò molto l'imputato e più tardi risultò evidente che neppure Fetiukovie aveva fatto molto affidamento sui periti quella linea di difesa era stata adottata unicamente dietro le insistenze di Caterina Ivanovna che aveva chiamato apposta un illustre medico da Mosca certo la difesa non poteva perderci nulla anzi nel migliore dei casi poteva guadagnarci qualcosa del resto l'intervento dai medici risultò e quanto ridicolo per le divergenze di opinione fra di loro gli esperti erano l'illustre medico venuto da Mosca il nostro dottor Garcens Tube e il giovane dottor Varvinsky questi ultimi due erano stati convocati dal procuratore anche come testimoni il primo a deporre in qualità di perito fu il dottor Garcens Tube questi era un anziano signore sulla settantina con radicapelli grigi di media statura e di costituzione robusta nella nostra città era molto apprezzato e stimato era un medico coscienzioso un'ottima e devota persona una specie di Herrenhuter o fratello Moravo viveva da noi da moltissimi anni e si comportava con meravigliosa dignità era una persona buona un filantropo curava i malati poveri e i contadini senza farsi pagare andava lui stesso a visitarli nei loro tuguri e nelle loro isbe e lasciava loro i soldi per le medicine in compenso però era testardo come un mulo una volta che si era ficcato un'idea in testa non c'era verso di levargiela quasi tutti in città erano al corrente che l'illustre dottore forestiero in quei due o tre giorni di permanenza nella nostra città si era permesso più di qualche commento offensivo sulle capacità del dottor Gerchen Stube il fatto era che sebbene il dottore Moscovita chiedesse una percella non inferiore ai 25 rubli per visita diversi nostri concittadini erano stati contenti di sfruttare l'occasione del suo arrivo e si erano precipitati a consultarlo senza badare a spese ovviamente erano stati tutti precedentemente in cura dal dottor Gerchen Stube ed ecco che l'illustre medico aveva criticato a tutto spiano i suoi rimedi con estrema durezza alla fine presentandosi a casa di un paziente aveva domandato senza mezzi termini allora chi è che vi ha impastricciato in questo modo Gerchen Stube il dottor Gerchen Stube chiaramente aveva saputo di tutto questo ed ecco che tutti e tre i medici si presentavano insieme per essere interrogati uno dopo l'altro il dottor Gerchen Stube dichiarò senza mezzi termini che la normalità delle facoltà mentali dell'imputato era di per sé evidente poi dopo aver esposto le sue considerazioni che qui ometterò egli soggiunse che la suddetta normalità poteva essere osservata non solo in molte azioni passate dell'imputato ma anche adesso in quello stesso momento e quando gli domandarono da che cosa si poteva osservare in quel momento allora il vecchio dottore con tutta l'immediatezza della sua ingenuità fece notare che l'imputato entrando in aula aveva un aspetto insolito e poco consono le circostanze marciava come un soldato con gli occhi fissi davanti a sé sebbene sarebbe stato più naturale per lui guardare a sinistra dove erano sedute le signore già che da grande estimatore del gentil sesso qual era doveva essere molto interessato a quello che le signore avrebbero detto di lui concluse il vecchietto con la sua peculiare eloquenza c'è da aggiungere che egli parlava molto e volentieri in russo ma chissà come ogni frase che pronunciava gli veniva fuori alla maniera tedesca e che non lo aveva mai turbato già che per tutta la sua vita aveva avuto la debolezza di considerare il suo russo perfetto migliore di quello dei russi stessi gli piaceva persino ricorrere a proverbi russi assicurando ogni volta che i proverbi russi sono i migliori e i più espressivi fra tutti i proverbi del mondo noterò inoltre che mentre conversava per una sorta di distrazione gli capitava spesso di dimenticare le parole più comuni che peraltro conosceva benissimo ma che all'improvviso per qualche ragione gli uscivano di mente la stessa cosa gli capitava del resto quando parlava in tedesco e quelle volte agitava sempre la mano davanti al viso come nel tentativo di afferrare la parolina perduta e non c'era modo di indurlo a continuare il discorso finché non aveva trovato la parola mancante l'osservazione che l'imputato entrando avrebbe dovuto guardare dalla parte del Signore suscitò un mormorio di ilarità fra il pubblico il nostro vecchietto piaceva molto alle Signore da noi in città queste sapevano di lui che egli era scapolo da una vita persona devota e dalla condotta esemplare che considerava le donne creature superiori e ideali ecco perché la sua inattesa osservazione sembrava a tutti oltremodo strana quando venne il turno del dottor Moscovita questi confermò in tono brusco ed enfatico che considerava anormali in massimo grado le condizioni mentali dell'imputato e gli parlò a lungo e con competenza dell'alterazione e della mania e conclusa in base a tutti i dati raccolti che l'imputato a partire da alcuni giorni prima del suo arresto si trovava in un inconfutabile stato di alterazione mentale e che se era davvero stato lui a commettere il delitto allora seppure ne fosse stato consapevole lo avrebbe fatto quasi involontariamente incapace di controllare l'impulso morboso che lo dominava ma oltre all'alterazione il dottore aveva diagnosticato anche la mania che pronunciava direttamente una futura e completa insanità mentale nota bene io sto usando parole mie il medico invece si esprimeva con un linguaggio molto forbito e professionale tutte le sue azioni contravvengono al buon senso e alla logica continuava lui non sto parlando di ciò che non ho visto e cioè del delitto in sé e di tutta questa catastrofe ma anche due giorni fa quando parlava con me aveva uno sguardo inspiegabilmente fisso rideva a sproposito ho notato un'incomprensibile e incostante irritazione strane parole Bernard l'etica e altre ancora che erano assolutamente fuori luogo ma il dottore individuava i sintomi della mania soprattutto nel fatto che l'imputato non era in grado nemmeno di accennare a quei 3000 rubli sui quali riteneva di essere stato truffato senza irritarsi in maniera straordinaria mentre invece parlava e ricordava con relativa facilità altre avversità e altri affronti in base alle informazioni raccolte anche in passato ogni volta che si parlava di quei 3000 rubli l'imputato veniva sopraffatto da una sorta di furore eppure di lui si diceva che fosse un uomo disinteressato e non avido quanto all'osservazione del mio dotto collega aggiunse il dottore Moscovita in tono ironico concludendo la sua deposizione che l'imputato entrando in aula avrebbe dovuto guardare verso le signore e non dritto davanti a sé e limiterò a dire che questa teoria oltre ad essere frivola eppure radicalmente è in sommo grado errata già che sebbene io concordi sul fatto che l'imputato entrando in aula dove si deciderà del suo destino non avrebbe dovuto guardare dritto davanti a sé così fissamente e che questo si può davvero considerare un sintomo della normalità delle sue condizioni mentali in quel dato momento nel contempo sostengo che avrebbe dovuto guardare non già a sinistra dalla parte del signore ma al contrario a destra per cercare con gli occhi il suo difensore nell'aiuto del quale è riposta ogni sua speranza e dalla cui difesa dipende tutto il suo destino il dottore espresse questa sua opinione con enfasi e determinazione ma l'inattesa conclusione del dottor Varvinsky che venne interrogato per ultimo dette un tocco di particolare comicità alla divergenza di opinione fra i due esperti secondo il suo parere l'imputato sia in quel momento sia in passato si trovava in condizioni perfettamente normali e sebbene sicuramente si dovesse essere trovato in uno stato di eccezionale eccitazione nervosa prima dell'arresto questo poteva benissimo essere causato da fattori molto ovvi quali la gelosia l'ira l'ubriachezza continua e via dicendo ma questa condizione nervosa non comportava necessariamente alcun tipo di alterazione come era stato detto poco prima quanto alla questione se l'imputato avesse dovuto guardare a sinistra o a destra entrando in aula secondo il suo modesto parere l'imputato avrebbe proprio dovuto guardare dritto davanti a sé come in realtà vi fa fatto già che dritto davanti a sé sedevano il presidente e i giudici della corte dai quali in quel momento dipendeva il suo destino anzi proprio il fatto che avesse guardato dritto davanti a sé dimostrava che le sue condizioni mentali erano perfettamente normali in quel momento il giovane dottore conclusa il suo modesto intervento con un certo fervore è bravo il nostro medicastro gridò Mitia dal suo posto proprio così Mitia ovviamente fu interrotto ma l'opinione del giovane medico ebbe un'influenza decisiva tanto sul giudice quanto sul pubblico giacché come risultò in seguito tutti concordarono con lui il dottor Gersenstube invece quando fu interrogato come testimone del tutto inaspettatamente fu di grande aiuto a Mitia in quanto cittadino della nostra città da lunga data e vecchio conoscente della famiglia Karamazov egli aveva fornito alcuni ragguagli di estremo interesse per l'accusa e all'improvviso come se si fosse ricordato di qualcosa aggiunse ma questo povero giovane avrebbe potuto avere un destino incomparabilmente migliore poiché aveva un buon cuore sia da piccolo che dopo e questo lo so ma un proverbio russo dice se qualcuno ha cervello va bene ma se va a trovarlo un altro uomo intelligente allora sarà meglio già che allora si avranno due teste e non una sola una testa è bene ma due sono meglio suggerì con impazienza il procuratore che conosceva da tempo l'abitudine del vecchietto di parlare lentamente dilungandosi senza preoccuparsi della figura che stava facendo e della perdita di tempo che stava causando al contrario apprezzava enormemente la propria arguzia tedesca ottusa da mangia patate e sempre allegramente compiaciuta al vecchietto piaceva moltissimo dire arguzie ah si si voglio dire proprio questo proseguì ostinatamente una testa è bene ma due sono molto meglio ma da lui non è arrivato un ospite con un cervello e lui il suo l'ha mandato com'è che si dice dov'è che l'ha mandato ho dimenticato la parola per dire dove l'ha mandato continuava agitando la mano davanti agli occhi ah si spazziren a spasso ecco si a spasso era quello che volevo dire ecco il suo cervello l'ha mandato a spasso e quello è andato a finire in un buco così profondo che si è smarrito eppure era un ragazzo così riconoscente e sensibile io lo ricordo molto bene quando era un bambino alto così abbandonato dal padre nel cortile sul retro sgambettava sul terreno senza stivaletti e con i calzoncini che si reggevano con un solo bottone una nota di sentimento e tenerezza risuonò all'improvviso nella voce dell'onesto vecchietto fetiucò vi trassalì come fiutando qualcosa e vi si attaccò immediatamente oh si ero molto giovane a quei tempi avevo si avevo 45 anni allora ed ero appena arrivato da queste parti e quel bambino mi fece pena perché non comprargli una libra una libra di che ah ho dimenticato come si chiamano una libra di quelle cose che piacciono molto ai bambini come ma come e il dottore agitò un'altra volta le mani crescono sugli alberi si raccolgono e si regalano a tutti le mele oh no una libra una libra si dice una dozzina di mele non una libra ce ne sono molte e sono piccole si mettono in bocca e nocciole ecco si le nocciole proprio quello che volevo dire confermò il dottore in tono pacato come se non avesse mai cercato quella parola allora gli portai una libra di nocciole perché nessuno aveva mai portato a quel bambino una libra di nocciole sollevai il dito e gli dissi ragazzo got der Vater e lui scoppia a ridere mi dice got der Vater got der Son e lui scoppia a ridere ancora una volta e balbetta got der Son got der Heilige Geist e rise ancora e ripete come meglio poteva got der Heilige Geist e me ne andai due giorni dopo passavo da quelle parti e lui mi grida zietto got der Vater got der Son solo che aveva dimenticato got der Heilige Geist ma io glielo ricordai e provai ancora una volta pietà per lui ma lo portarono via e non lo rivì di più ed ecco che erano passati ventitré anni quando una mattina me ne stavo seduto nel mio studio avevo già i capelli bianchi e all'improvviso ti vedo entrare un giovanotto nel fiore degli anni che non avrai mai riconosciuto ma lui sollevando il dito e ridendo mi fa got der Vater got der Son und got der Heilige Geist in questo momento sono arrivato in città e sono venuto a ringraziarvi per quella libra di nocciole già che nessuno mi aveva mai comprato una libra di nocciole solo voi mi compraste una libra di nocciole e allora mi ricordai della mia felice giovinezza e del povero bambinetto del cortile senza stivaletti ed ebbe una stretta al cuore e gli dissi tu sei un giovane riconoscente perché per tutta la vita hai serbato il ricordo di quella libra di nocciole che io ti regalai quando eri piccolo lo abbracciai e gli detti la mia benedizione e scoppiai pure a piangere lui rideva ma piangeva pure già che i russi molto spesso ridono quando si dovrebbe piangere ma anche lui piangeva io lo vidi mentre adesso ahimè anche adesso piango tedesco anche adesso piango uomo di dio gridò Mitia dal suo posto per quanto poco rilevante quel piccolo aneddoto produsse una certa favorevole impressione sul pubblico ma fu la testimonianza di Caterina Ivanovna che qui mi accingo a riportare che produsse la maggiore sensazione a favore di Mitia e in generale quando ebbero inizio le testimonianze dei testi ad Escherge cioè convocati dal difensore sembrò quasi che la fortuna stesse decisamente ridendo a Mitia e quello che è ancora più notevole del tutto inaspettatamente per la difesa stessa ma prima che fosse convocata Caterina Ivanovna venne il turno di Agiosha e questi menzionò all'improvviso un fatto che sembrò una prova positiva contro un punto importantissimo dell'accusa 4 la fortuna ride a Mitia fu quasi una sorpresa per Agiosha stesso egli era stato esonerato dal giuramento e ricordo che entrambe le parti si rivolsero a lui con gentilezza e simpatia fin dalle prime battute dell'interrogatorio era evidente che lo precedeva una buona fama Agiosha rendeva la sua testimonianza con modestia e riserbo tuttavia la sua ardente simpatia per il disgraziato fratello trapelava visibilmente in risposta a una domanda egli tratteggiò la personalità del fratello come quella di un uomo forse violento e in valia delle passioni ma anche nobile fiero generoso pronto al sacrificio all'occorrenza egli ammise del resto che negli ultimi giorni a causa della passione per Grushenka e della rivalità con il padre il fratello era venuto a trovarsi in una posizione insostenibile ma rigettò con indignazione anche la semplice ipotesi che il fratello avesse potuto uccidere a scopo di rapina sebbene fosse pronto ad ammettere che quei 3000 rubli nella mente di Mitia si erano trasformati in una sorte di fissazione questo infatti li considerava come una parte dell'eredità che il padre gli aveva sottratto con l'inganno e nonostante fosse disinteressato al denaro per sua natura tuttavia non riusciva nemmeno a parlare di quei 3000 rubli senza essere sopraffatto dal furore e dalla rabbia riguardo alla rivalità delle due persone come si espresse il procuratore cioè Grushenka e Katia egli rispondeva evasivamente e a una o due domande non volle nemmeno rispondere vostro fratello gli ha detto perlomeno che aveva intenzione di uccidere il padre domandò il procuratore siete libero di non rispondere se lo ritenete necessario soggiunse non l'ha detto direttamente rispose agli oscia e come allora indirettamente una volta mi parlò dell'odio che nutriva nei confronti di nostro padre e che temeva che in un momento particolare in un momento di disgusto forse avrebbe anche potuto ucciderlo e voi sentendo questo gli credeste ho paura di dire che gli credetti ma sono sempre stato convinto che un certo sentimento superiore lo avrebbe salvato nel momento fatale come infatti è avvenuto perché non è stato lui ad uccidere mio padre concluse con fermezza agli oscia a voce alta rivolto all'intera aula il procuratore trasse lì come un cavallo in battaglia al suono della tromba vi garantisco che credo pienamente alla profonda sincerità della vostra convinzione e che non la giustifico o identifico in altro modo con l'affetto che vi lega al vostro infelice fratello la vostra peculiare opinione su questo tragico episodio che ha coinvolto la vostra famiglia c'è già nota dall'istruttoria preliminare non vi nascondo che essa è estremamente personale e contraddisce tutte le testimonianze raccolte dall'accusa ecco perché trovo necessario insistere nel domandarvi quali elementi abbiano indirizzato i vostri pensieri e vi abbiano condotto alla persuasione definitiva dell'innocenza di vostro fratello e al contrario della colpevolezza di un'altra persona che voi avete chiaramente indicato nel corso dell'indagine preliminare nel corso dell'indagine preliminare mi sono limitato a rispondere alle domande disse Agliosha con voce bassa e pacata non ho mosso alcuna accusa contro Smerdiakov di mia iniziativa tuttavia avete indicato lui l'ho fatto in base a quello che mi aveva detto mio fratello Dimitri ancora prima di essere interrogato mi hanno raccontato quello che era avvenuto durante l'arresto e come lui stesso aveva indicato Smerdiakov credo fermamente che mio fratello sia innocente esso non è stato lui ad uccidere allora allora è stato Smerdiakov ma perché proprio Smerdiakov e per quale motivo esattamente vi siete convinto senza ombra di dubbio dell'innocenza di vostro fratello non posso fare a meno di credere a mio fratello io so che lui a me non mente ho capito dal suo viso che non mi stava mentendo solo dal viso si riducono a questo le vostre prove non ho altre prove che queste e anche riguardo alla colpevolezza di Smerdiakov non vi basate su nessun'altra prova che non siano le parole e l'espressione del viso di vostro fratello si non ho altre prove che queste il procuratore concluse il suo interrogatorio a questo punto le risposte di Alyosha avevano sortito un effetto molto deludente sul pubblico si era parlato di Smerdiakov ancora prima che avesse iniziato il processo c'era chi aveva sentito qualcosa chi aveva notato qualcos'altro si diceva che Alyosha avesse raccolto delle prove eccezionali per dimostrare l'innocenza di suo fratello e la colpevolezza della che e ora ecco che non aveva nulla niente prove a parte le sue convinzioni di ordine morale del tutto naturali nel fratello di un imputato ma cominciò ad interrogare anche Fetiukovie alla domanda su quanto esattamente l'imputato avesse detto a lui ad Alyosha che odiava il padre e che avrebbe potuto anche ammazzarlo se glielo avesse sentito dire per esempio nel corso dell'ultimo appuntamento prima della catastrofe Alyosha tremando ebbe un improvviso sussulto come se si fosse ricordato di qualcosa che solo in quel momento stava comprendendo adesso mi ricordo di una circostanza della quale mi ero quasi dimenticato che allora non mi era chiara ma adesso e così Alyosha raccontò con trasporto evidentemente era stato colpito per la prima volta da quell'idea che durante l'ultimo incontro con Mitia di sera accanto all'albero sulla strada che portava al monastero Mitia colpendosi il petto la parte alta del petto gli aveva ripetuto alcune volte di avere un mezzo per riacquistare il suo onore e che quel mezzo si trovava lì sul suo petto vedendo che si colpiva il petto pensai che alludesse al cuore proseguì Alyosha al fatto che dal suo cuore avrebbe potuto trarre la forza di trovare una via d'uscita da quella terribile infamia che gli stava d'innanzi e che non osava nemmeno confessare devo ammettere che allora pensai che stesse parlando di nostro padre e che stesse tremando per l'infamia al pensiero di andare da nostro padre e commettere qualche azione violenta contro di lui eppure era come se volesse indicare qualcosa nel suo petto tanto che me lo ricordo bene a me balenò in mente l'idea che il cuore non si trova in quel punto del petto ma più in basso mentre lui si colpiva molto più in alto ecco qui sotto il collo e continuava a indicare quel punto quel mio pensiero mi sembra sciocco allora ma forse in quel momento egli stava indicando proprio quell'amuleto dentro il quale conservava i 1500 rubli proprio così gridò l'improvviso mitia dal suo posto ecco agli oscia è così battevo il pugno proprio sull'amuleto fetiukovic si slanciò contro di lui implorando di calmarsi e un attimo dopo si aggrappò ad agli oscia agli oscia trasportato egli stesso dal proprio ricordo espresse con fervore l'ipotesi che quell'infamia con ogni probabilità consistesse proprio nel fatto che pur tenendo addosso quei 1500 rubli che avrebbe potuto restituire a Katerina Ivanovna come metà del debito contratto egli aveva deciso di non restituirli e di usarli per un altro scopo cioè per fuggire con Grushenka nel caso quest'ultima fosse stata d'accordo è così è proprio così esclamava gli oscia in preda a un'improvvisa agitazione mio fratello allora mi gridò che metà solo metà dell'infamia ripete più di una volta la parola metà avrebbe potuto levarsi di dosso ma che era così disgraziato per la debolezza del proprio carattere che non l'avrebbe fatto lo sapeva già che non poteva farlo non ne aveva la forza e voi ricordate con sicurezza con chiarezza che egli si colpiva proprio in quel punto del petto incalzava avidamente Fediukovie con chiarezza con sicurezza perché allora mi domandai perché stesse colpendo così in alto se il cuore si trova più in basso e quel pensiero mi sembrò stupido e io me lo ricordo che mi sembrò stupido mi balenò alla mente ed ecco perché me ne sono ricordato in questo momento come ho fatto a dimenticarmene fino a questo momento egli stava indicando proprio quell'amuleto come il suo mezzo pensando però che non avrebbe restituito quei 1500 rubli e quando fu arrestato a Mocroe egli gridò proprio questo lo so me l'hanno riferito che l'atto più infame della sua vita lo aveva commesso quando pur avendo il mezzo per restituire metà proprio la metà del suo debito Caterina Ivanovna e non essere più un ladro ai suoi occhi egli non si era deciso a restituire il denaro e aveva preferito rimanere un ladro nell'opinione di lei piuttosto che rinunciare a quei soldi e come si tormentava come si tormentava per quel debito concluse Agiosha ad alta voce intervenne anche il procuratore si intende egli chiese ad Agiosha di descrivere ancora una volta l'accaduto e insistì diverse volte sulle domande l'imputato battendosi il petto sembrava che stesse indicando qualcosa non poteva essere che si stesse battendo casualmente il petto con il pugno ma non con il pugno esclamò Agiosha stava indicando proprio con le dita e indicava qui molto in alto ma come ho fatto a dimenticarmene fino ad ora il presidente domandò a Mitia se volesse dire qualcosa a proposito della testimonianza appena ascoltata Mitia confermò che era accaduto tutto esattamente in quel modo che egli stava indicando proprio quei 1500 rubli che aveva sul petto un po' più in basso del collo e che ovviamente quella era un'infamia un'infamia che non posso negare l'azione più infame della mia vita esclamò Mitia avrei potuto restituire quel denaro e non l'ho fatto ho preferito rimanere un ladro ai suoi occhi ma non l'ho restituito e l'infamia più grande è che lo sapevo in anticipo che non l'avrei restituito agli ossa ragione grazie agli ossa così ebbe termine l'interrogatorio di agli ossa in dato importante e notevole che ne era emerso consisteva nell'aver rinvenuto se non altro un elemento se non altro una prova seppure piccolissima quasi un accenno di prova ma che tuttavia costituiva un piccolo passo avanti nel dimostrare che quell'amuleto era davvero esistito che in esso erano contenuti 1500 rubli e che l'imputato non aveva mentito nel corso dell'istruttoria preliminare quando Amocroe aveva dichiarato che quei 1500 rubli erano miei agli ossa era contento tutto rosso per l'eccitazione e gli si avviò a sedersi nel posto che gli avevano indicato a lungo continuò a ripetere tra sé e sé come ho fatto a dimenticarlo come ho potuto dimenticarlo e come mai me ne sono ricordato adesso tutto ad un tratto ebbe inizio l'interrogatorio di Caterina Ivanovna la sua apparizione fu accolta da una eccezionale reazione del pubblico in aula le signore afferrarono gli occhialini e i binocoli gli uomini si agitarono alcuni si alzarono in piedi per vedere meglio tutti in seguito confermarono che all'ingresso di lei Mitia si fece bianco come un lenzuolo tutta vestita di nero e la si avvicinò al banco dei testimoni con aria modesta quasi timida dal suo viso era impossibile intuire se ella fosse agitata o meno ma nel suo sguardo scuro e tenebroso si leggeva la sua risolutezza è da notare che in seguito moltissimi confermarono che ella in quel momento era bella da mozzare il fiato incominciò a parlare con voce bassa ma distinta rivolgendosi all'aula intera si esprimeva con calma o almeno si sforzava di essere calma il presidente cominciò a porle le domande in maniera cauta estremamente deferente come timoroso di colpire certe corde e rispettoso della sua profonda infelicità ma Katerina Ivanovna sin dalle prime battute dichiarò da sé con fermezza nel rispondere a una domanda di essere stata la fidanzata dell'imputato fino a quando egli stesso non mi ha lasciata soggiunse con voce sommessa quando le domandarono dei tremila rubli che lei aveva affidato a Mitia perché li spedisse per posta alle sue parenti di Mosca e la dichiarò con fermezza non gli dia di quei soldi semplicemente perché li spedisse allora avevo il presentimento che avesse urgente bisogno di denaro in quel momento gli detti quei tremila rubli alla condizione che li spedisse se voleva di lì a un mese si è tormentato in vano in seguito a causa di quel debito non riporterò tutte le domande e tutte le risposte per filo e per segno riferirò soltanto il succo della sua testimonianza ero fermamente convinta che avrebbe fatto sempre in tempo a spedire quei soldi non appena li avesse ricevuti da suo padre proseguiva rispondendo alle domande sono sempre stata convinta del suo disinteresse nei confronti del denaro e della sua onestà della sua nobile onestà in fatto di soldi egli era fermamente convinto che avrebbe ricevuto dal padre quei 3000 rubli me l'aveva ripetuto diverse volte ero al corrente che fosse in rotta con il padre lo era sempre stato e ancora adesso sono convinta che egli abbia subito un'ingiustizia da parte del padre non ricordo alcuna minaccia contro il padre da parte sua però meno in mia presenza non ha mai detto niente non ha mai fatto minacce se egli allora fosse venuto da me l'avrei subito rassicurato sul conto di quei maledetti 3000 rubli che mi doveva ma non veniva più a trovarmi mentre io ero stato messa in una posizione tale che non potevo invitarlo da me e poi io non avevo alcun diritto di esigere il pagamento di quel debito soggiunsella all'improvviso e una nota risoluta risuonò nella sua voce io stessa una volta ricevetti da lui un prestito in denaro di molto superiore a 3000 rubli e l'accettai ma grado allora non potessi prevedere che sarei mai stata in grado di pagargli il debito nel tono della sua voce si avvertiva una sorta di sfida proprio in quel momento il turno di porre le domande passò a Fetiukovie non è avvenuto qui ma all'inizio della vostra amicizia vero? suggerì Fetiukovie sondando il terreno cautamente dopo aver fiutato in un baleno una pista favorevole noterò fra parentesi che nonostante il fatto che fosse stato chiamato da Pietro Burgo anche da Caterina Ivanovna egli non sapeva niente dei 5000 rubli che Mitia le aveva dato in quell'altra città e dell'inchino fino a terra ella non gliel'aveva raccontato gliel'aveva tenuto nascosto e questo era sorprendente si può supporre con una certa sicurezza che la stessa fino all'ultimo momento non sapeva se avrebbe raccontato o meno quell'episodio in tribunale e aspettava una sorta di ispirazione no non scorderò mai quei momenti e la cominciò a raccontare raccontò tutto l'intero episodio per filo e per segno lo stesso che Mitia aveva raccontato ad Agliosha sia l'inchino fino a terra sia le cause sia di suo padre e della visita a Mitia ma non fece parola non fece nemmeno accenno al fatto che Mitia per disprezzo di sua sorella aveva lui stesso proposto di mandare da lui Caterina Ivanovna a prendere i soldi ella lo nascose magnanimamente e non si vergognò di rivelare che ella ella in persona si era recata quella volta da un giovane ufficiale di sua iniziativa facendo affidamento su per chiedergli dei soldi fu qualcosa di tremendo io raggelavo e tremavo udendo che l'aula era zitta per cogliere ogni singola parola si trattava di qualcosa di inaudito persino da parte di una ragazza così imperiosa e sprezzantemente orgogliosa come lei era quasi impossibile aspettarsi una testimonianza così franca un tale sacrificio e una tale autoimmolazione e per che cosa per chi per salvare l'uomo che l'aveva tradita offesa per dare un contributo seppure minimo alla sua salvezza per creare una buona impressione sul suo conto e infatti l'immagine dell'ufficiale che cede i suoi ultimi 5.000 rubli tutto quello che gli rimaneva nella vita e si inchina rispettosamente dinnanzi all'innocente ragazza risultò estremamente simpatica e accattivante ma mi si strinse forse il cuore sentivo che in seguito sarebbe potuta nascere la calunnia come in effetti accadde in seguito per tutta la città si disse con una risatina perfida che il racconto forse non era esatto al 100% proprio nel punto in cui l'ufficiale lasciava andare la fanciulla soltanto con un inchino rispettoso all'uso del fatto che a questo punto si fosse omesso qualcosa e ammesso pure che non abbia omesso nulla ammesso pure che questa sia la verità dicevano anche le dame più rispettabili della nostra città anche in quel caso non si sa se sia davvero decoroso per una ragazza comportarsi in questa maniera anche se allo scopo di salvare il padre ed era mai possibile che Caterina Ivanovna con la sua intelligenza e con la sua perspicacia morbosa non avesse previsto che sarebbero iniziate chiacchiere su quel tono senza dubbio lo aveva previsto eppure aveva deciso di dire tutto si intende tutti questi volgari sospetti sulla sincerità del suo racconto cominciarono soltanto dopo ma sulle prime tutti ne furono impressionati quanto ai giudici agli avvocati essi ascoltarono Caterina Ivanovna in riverente quasi pudico silenzio il procuratore non si permise più nessuna domanda sul tema e Tiukovie le fece un profondo inchino oh egli era esultante aveva guadagnato molto terreno un uomo che in un impeto di generosità cede i suoi ultimi 5.000 rubli e lo stesso uomo che uccide nottetempo il padre allo scopo di derubarlo di 3.000 rubli questa era un'idea piuttosto incongruente Tiukovie si rese conto che a questo punto avrebbe potuto far cadere quantomeno l'accusa di furto sul caso era stata gettata una luce completamente nuova c'era un'ondata di simpatia nei confronti di Mitia quanto a lui mi hanno riferito che una volta o due mentre Caterina Ivanovna rendeva la sua testimonianza e gli balzò in piedi poi ricadde nuovamente sulla sua panca e si coprì il volto con entrambe le mani ma quando ella ebbe concluso la sua deposizione egli esclamò con voce rotta dal pianto e le braccia tese verso di lei Katia perché mi hai rovinato e per tutta l'aula si udirono i suoi singhiozzi ma in un attimo riacquistò il controllo di sé e gridò ancora ora sono condannato poi rimase quasi impietrito seduto al proprio posto a denti stretti e con le braccia concerte Caterina Ivanovna rimase in sala e si sedette al posto che le venne indicato era pallida e sedeva a capochino quelli che le stavano seduti a fianco raccontarono che tremò a lungo come in preda alla febbre venne il turno di Grushenka mi sto avvicinando a quell'episodio catastrofico che scoppiato tutto a un tratto forse rovinò davvero mitia perché sono convinto come tutti del resto tutti gli avvocati lo dissero in seguito che se non si fosse verificato questo episodio il criminale avrebbe potuto sperare nell'indulgenza della corte ma di questo parleremo dopo prima due parole sul conto di Grushenka anche lei apparve in aula tutta vestita di nero con le spalle avvolte nel suo magnifico scialle nero e la raggiunse il banco dei testimoni con il suo passo morbido e silenzioso ondeggiando lievemente come fanno a volte le donne formose e guardando dritto verso il presidente senza girare nemmeno una volta lo sguardo né a destra né a sinistra secondo la mia opinione ella era molto bella in quel momento e niente affatto pallida come assicurarono in seguito le signore in seguito dissero pure che il suo viso aveva un'espressione concentrata e cattiva io penso soltanto che ella fosse irritata e penosamente consapevole degli sguardi sprezzanti e curiosi avidi di scandalo del nostro pubblico aveva un carattere fiero che non tollerava il disprezzo se aveva il minimo sospetto che qualcuno la disprezzasse si infiammava immediatamente d'ira e di brama di vendetta insieme a questo c'era ovviamente anche la timidezza e il pudore intimo di questa timidezza cosicché non era strano che il suo tono mutasse di continuo a volte eroso sprezzante e forzatamente brusco altre volte attraversato da una nota sincera genuina di autocritica e autocondanna a volte parlava come se si stesse scagliando giù per un precipizio succeda a quel che succeda lo dirò lo stesso riguardo al suo rapporto con Fiodor Paolovic e la osservò bruscamente tutte sciocchezze è forse colpa mia se quello mi veniva dietro ma poi un momento dopo soggiunse è tutta colpa mia mi sono preso a gioco dell'uno e dell'altro sia del vecchio che di questo qui sono stata io a condurli a questo è accaduto tutto per colpa mia in qualche modo venne fuori anche il nome di Samsonov questo non riguarda proprio nessuno replicò con un'aria di sfida insolente era il mio benefattore mi aveva appresa che ero scalza quando i miei mi avevano cacciata di casa il presidente le ricordò con grande gentilezza che bisognava rispondere direttamente alle domande senza scendere in particolari superflui Ruschenka arrossì e gli occhi le scintillarono non aveva visto il plico con i soldi aveva soltanto sentito dire dal farabutto che Fyodor Paulovic aveva un certo plico con 3000 rubli solo che erano tutte stupidaggini io ne ridevo e non sarei andata da lui per nulla al mondo a chi alludevate quando avete detto farabutto alla che a Smerdyakov quello che ha ucciso il suo padrone e ieri si è impiccato naturalmente le domandarono subito su quali basi fondasse un'accusa così decisa ma risultò che neppure lei aveva delle basi oggettive è stato Dmitri Fyodorovic a dirmelo credetegli la donna che ci ha separati lo ha rovinato e lei la causa di tutto ecco come stanno le cose soggiunse Ruschenka quasi fremendo di odio è una nota di perfidia risuonò nella sua voce e domandarono ancora una volta a chi si riferisse ma alla signorina a quella lì a Caterina Ivanovna quella mi invitò a casa sua mi offrì la cioccolata mi voleva incantare c'è ben poco vero pudore in lei ve lo dico io a quel punto il presidente la interruppe con severità chiedendole di moderare il linguaggio ma il cuore di quella donna gelosa aveva già preso fuoco e ormai era pronta a precipitarsi in un baratro durante l'arresto al villaggio di Mocroe domandò il procuratore ricordando un particolare tutti hanno visto e sentito quando voi precipitandovi dall'altra camera avete urlato è tutta colpa mia insieme saremo deportati dunque sin da allora eravate convinta che fosse lui il parricida non ricordo i miei sentimenti di allora rispose Grushenka tutti gridavano che lui aveva ammazzato il padre e allora sentii di essere io la colpevole e che lui aveva ucciso per colpa mia ma quando lui disse di essere innocente io gli credetti subito e ci credo anche adesso e ci crederò sempre non è una persona che possa mentire toccava ora a Fetiukovie porre le domande ricordo fra l'altro che pose domande su Rakitin e sui 25 rubli di ricompensa per aver condotto da voi Alexei Fedorovich Karamazov e che c'è di strano che egli abbia preso i soldi ridacca Grushenka con perfidia sprezzante veniva in continuazione a spillarmi soldi una trentina di rubli al mese almeno soprattutto per i suoi capricci per mantenersi invece ne aveva sufficienza anche senza il mio aiuto che cosa vi induceva essere così generosa con il signor Rakitin domandò Fetiukovie nonostante i visibili segni di imbarazzo da parte del presidente beh è mio cugino mia madre e sua madre sono sorelle solo che mi ha sempre pregato di non dirlo a nessuno qui in città si vergogna così tanto di me questo nuovo fatto risulta una sorpresa per tutti nessuno in città lo aveva mai saputo fino ad allora neanche al monastero eppure Mitia lo sapeva dicevano che Rakitin seduto al suo posto in aula fosse avvampato dalla vergogna ancora prima di entrare in aula Grushenka aveva sentito che quello aveva testimoniato contro Mitia e quindi si era stizzita tutto il discorso che Rakitin aveva pronunciato poco prima tutte le nobili idee tutte le sue sortite sulla servitù della gleba e sullo sfacelo sociale della Russia tutto questo era stato invalidato e distrutto definitivamente nell'opinione generale Fetiukovie era soddisfatto Dio gliel'aveva mandata buona un'altra volta in generale l'interrogatorio di Grushenka durò ben poco d'altronde ella non poteva fornire nessun elemento nuovo e la lasciò nel pubblico un'impressione molto sgradevole centinaia di sguardi sprezzanti si concentrarono su di lei mentre terminata la deposizione prendeva posto in aula a debita distanza da Caterina Ivanovna per tutto il tempo dell'interrogatorio di lei Mitia era restato in silenzio come impietrito con gli occhi fissi a terra fu chiamato a deporre Ivan Fyodorovich una catastrofe improvvisa noterò che egli era stato convocato ancora prima di Aglioscia ma Lucere aveva riferito al presidente che per un'improvvisa indisposizione o per non so quale attacco il test non poteva presentarsi in quel momento ma che non appena si fosse sentito meglio sarebbe stato disponibile a rendere la sua testimonianza comunque chissà come nessuno aveva sentito questa notizia che divenne nota soltanto in seguito inizialmente la sua apparizione passò inosservata i testimoni principali soprattutto le due rivali erano già stati interrogati la curiosità era stata sedata per il momento fra il pubblico si percepiva addirittura una certa stanchezza era rimasto ancora qualche test da ascoltare e con ogni probabilità non avrebbe aggiunto niente di nuovo a quello che era già stato detto e il tempo passava Ivan Fiodrovich si avvicinò al banco dei testimoni con stupefacente lentezza senza guardare nessuno anzi persino a testa bassa come se fosse assorto in cupi pensieri era vestito in maniera ineccepibile ma il suo viso fece una penosa impressione per lo meno su di me c'era qualcosa di guasto di terreo in esso qualcosa di simile al viso di una persona in fin di vita gli occhi erano torbidi li sollevò e abbracciò lentamente l'intera sala con lo sguardo Aglioscia fece per balzare in piedi dal suo posto e gemette ah me lo ricordo questo ma pochi lo notarono il presidente esordì dicendo che quel testimone era esonerato dal giuramento aveva facoltà di rispondere o tacere ma che ovviamente doveva testimoniare secondo coscienza eccetera eccetera Ivan Fyodorovic ascoltava e lo guardava con lo sguardo offuscato ma ad un tratto il suo viso si rilassò gradualmente in un sorriso e non appena il presidente che lo guardava stupito ebbe concluso la sua interrogazione Ivan Fyodorovic scoppiò a ridere beh e che altro gli domandò ad alta voce si fece silenzio in aula si percepeva qualcosa di strano il presidente mostrò segni di allarme voi forse non vi sentite ancora bene fece per esordire cercando con gli occhi l'uscere non vi preoccupate eccellenza mi sento abbastanza bene da raccontarvi qualcosa di interessante rispose Ivan Fyodorovic divenuto di colpo calmo e deferente avete qualche dichiarazione particolare da fare prosegueva il presidente ancora diffidente Ivan Fyodorovic abbassò gli occhi indugiò qualche secondo e sollevato di nuovo il capo rispose quasi balbettando no non ho niente di particolare da dire cominciarono a porgli le domande egli rispondeva quasi con riluttanza con estrema laconicità con una specie di ripugnanza che si faceva sempre più marcata sebbene rispondesse sensatamente a molte domande rispose che non sapeva ignorava del tutto i rapporti economici tra il padre Dmitri Fyodorovic non mi sono mai occupato di questo proferì minacce di uccidere il padre le aveva sentite da parte dell'imputato dei soldi nel plico ne aveva sentito parlare da Smerdiakov sempre la stessa cosa interruppe bruscamente con un'aria spossata non ho niente di particolare da dire a questa corte vedo che non state bene e comprendo i vostri sentimenti cominciò a dire il presidente fece per voltarsi dalla parte del procuratore e del difensore per invitarli se lo ritenevano necessario a porre delle domande al test quando all'improvviso Ivan Fyodorovic con voce esausta disse lasciatemi andare vostra eccellenza mi sento molto male e detto questo senza aspettare il permesso si voltò all'improvviso e fece per uscire dall'aula ma dopo qualche passo si fermò come colto da una nuova riflessione sorrisse pacato e tornò al banco dei testimoni io vostra eccellenza sono come quella ragazza contadina sapete se voglio salto se non voglio non salto le corrono dietro per farla indossare il sarafan o la paneiva per vestirla e portarla in chiesa a sposarsi e lei dice se voglio salto se non voglio non salto è in qualche libro sul nostro folclore che cosa volete dire con questo domandò il presidente con severità ecco cose e Ivan Fiodorovic estrasse d'un tratto dalla tasca un mazzetto di banconote ecco i soldi quelli che si trovavano in quel plico e gli accennò con il capo al tavolo delle prove materiali e per i quali hanno ucciso mio padre dove devo metterlo signor usciere passate di voi l'usciere prese il mazzetto e lo passò al presidente in che modo siete entrato in possesso di questo denaro ammesso che si tratti dello stesso disse il presidente stupito li ho avuti da smerdyakov dall'assassino ieri sono stato da lui prima che si impiccasse è stato lui ad uccidere mio padre non mio fratello lui ha ucciso e io l'ho incitato a farlo chi non desidera la morte del proprio padre siete in possesso delle vostre facoltà scappò detto al presidente involontariamente altro che sono nel pieno possesso delle mie facoltà mentali delle mie vili facoltà mentali come del resto voi e tutti questi ceffi e si rivolse di scatto verso il pubblico hanno ucciso mio padre e fanno finta di essere inorriditi digrignava i denti con disprezzo furioso recitano la farsa l'uno con l'altro bugiardi tutti desiderano la morte del padre un rettile divorerà l'altro se non si trattasse di parricidio si arrabbierebbero e se ne tornerebbero a casa di cattivo umore vogliono lo spettacolo panem et circenses dal resto da che pulpito viene la predica avete dell'acqua datemi da bere per l'amore di Cristo e si afferrò la testa fra le mani l'uscere gli si avvicinò all'improvviso agli oscia saltò in piedi e gridò è malato non gli credete ha la febbre cerebrale Caterina Ivanovna si alzò impetuosamente dalla sua sedia poi impietrita dallo spavento guardò Ivan Fiodorovic Mitya si era alzato guardava e ascoltava avidamente il fratello con un certo sorriso forzato stralunato calmatevi non sono pazzo sono soltanto un assassino riprese a dire Ivan dagli assassini non si può pretendere l'eloquenza soggiunse per qualche ragione e poi scoppiò in una risata forzata il procuratore evidentemente sconvolto si piegò verso il presidente gli altri giudici sussurravano concitatamente fra di loro Fetiukovie stava con le orecchie drizzate in ascolto la sala era zittita nell'attesa il presidente sembrò essersi ripreso ad un tratto testimone le vostre parole sono incomprensibili e inconcepibili in questa sede calmatevi se potete e raccontate quello che avete da dire se avete davvero qualcosa da dire in che maniera potete provare una tale confessione ammesso che non stiate delirando il fatto è proprio questo che non ho testimoni quel cane di Smerdyakov dall'altro mondo non spedirà mica una sua testimonianza in un plico non fate altro che pensare a plichi uno basta e avanza no non ho testimoni tranne uno forse sorriso assorto chi è il vostro testimone ha la coda vostra eccellenza e questo sarebbe irregolare le diable exist point non gli prestate attenzione e andiavo l'abietto un poveraccio soggiunse poi smettendo di ridere con un tono quasi confidenziale probabilmente si trova qui da qualche parte ecco sotto il tavolo delle prove materiali dove potrebbe stare se non là vedete ascoltatemi io glielo ho detto non voglio tacere e lui si è messo a parlare del cataclisma geologico idiozia su liberate il mostro egli ha intonato l'inno ecco perché gli è tutto facile è come quella canaglia di ubriacone che sbraitava per la strada che vanca è andato a pieter mentre io per due soldi di felicità darei un quadrilione di quadrilioni voi non mi conoscete come è tutto stupido qui da voi su prendete me al posto suo non sono venuto per niente perché perché è tutto così stupido e ricominciò lentamente a guardarsi attorno come pensieroso ma ora l'aula intera era sovrecitata agli osce si precipitò accanto a lui dal suo posto ma l'usciere aveva già afferrato Ivan Fiodorovic per un braccio che fate gridò quello guardando fisso la faccia dell'usciere e ad un tratto prendendolo per le spalle lo scaraventò violentamente a terra ma le guardie erano già sul posto e lo afferrarono subito a quel punto lui lanciò un urlo furioso e per tutto il tragitto mentre lo portavano via egli continuò a lanciare urla e a strillare parole incoerenti successa il finimondo non ricordo l'ordine esatto degli eventi anch'io ero sconvolto e non potei seguire tutto so soltanto che alla fine quando ogni cosa si fu calmata e tutti capirono di che si trattava se la presero con l'usciere sebbene questi spiegasse basandosi su elementi validi che il testimone stava abbastanza bene che il dottore lo aveva visitato un'ora prima quando aveva avvertito un leggero capogiro e prima di entrare in aula aveva parlato coerentemente tanto che non si poteva prevedere nulla ma prima ancora che tutti si fossero calmati e ripresi a questa scena ne seguì subito un'altra Caterina Ivanovna ebbe un attacco esterico e la strillava forte si inghiozzava ma non voleva andare via si dibatteva supplicava che non la conducessero via e ad un tratto gridò al presidente devo fornire un'altra testimonianza immediatamente immediatamente ecco il foglio la lettera prendetela leggete presto presto è una lettera di quel mostro ecco sua sua e indicò Mitia è stato lui ad ammazzare il padre adesso lo vedete mi ha scritto come avrebbe ammazzato il padre mentre l'altro è malato ha la febbre cerebrale sono tre giorni che mi sono accorta che ha la febbre ecco che cosa gridava fuori di sé l'usciere prese la carta che la protendeva verso il presidente mentre lei crollata sulla sedia con il volto coperto si mise a singhiozzare in maniera convulsa e sommessa tremando tutta e soffocando il minimo lamento per timore che la cacciassero dalla sala la carta che aveva consegnato era la lettera che Mitia le aveva spedito dalla trattoria la capitale e che Ivan Fyodorovic chiamava documento di valore matematico ahimè anche gli altri come lui ne riconobbero il valore matematico e se non fosse stato per quella lettera forse Mitia non sarebbe stato rovinato o perlomeno non sarebbe stato rovinato in maniera così terribile lo ripeto era difficile prendere nota di ogni dettaglio ancora adesso mi sembra tutto così confuso credo che il presidente passò quel nuovo documento alla corte al procuratore al difensore e ai giurati ricordo soltanto che iniziarono ad interrogare la testa alla domanda se si fosse calmata che le rivolse dolcemente il presidente Caterina Ivanovna esclamò impetuosamente sono pronta sono pronta sono perfettamente in grado di rispondere soggiunse temendo evidentemente più di ogni altra cosa che per qualche ragione non le prestassero ascolto le chiesero di spiegarsi con maggiori dettagli che cosa era quella lettera e in quali circostanze l'aveva ricevuta la ricevette alla vigilia del delitto ma lui l'aveva scritta il giorno prima in trattoria dunque due giorni prima di compiere il delitto guardate scritta sul foglio di un conto gridò lei con il fiato corto allora lui mi odiava perché egli stesso aveva compiuto un'azione infame e si era messo dietro a quella canaglia ed anche perché mi doveva 3.000 rubli oh egli era umiliato da quei 3.000 rubli proprio a causa della sua bassezza ecco che cosa era successo per via di quei 3.000 rubli vi chiedo vi supplico di starmi ad ascoltare tre settimane prima di uccidere il padre egli venne da me una mattina io sapevo che gli occorreva denaro e sapevo anche per quale motivo ecco proprio per conquistare quella canaglia e portarla via con sé allora ero al corrente che lui mi aveva tradita e che mi voleva lasciare ma fui io io stessa a dargli quei soldi feci finta di proporgli che li mandasse a mia sorella a mosca e mentre glieli davo lo guardai in faccia e gli dissi che poteva spedirli quando voleva anche dopo un mese come ha fatto come ha fatto a non capire che gli stavo praticamente dicendo hai bisogno di denaro per tradirmi con quella canaglia eccoteli dunque quei soldi sono io stessa a darteli prendili se sei così privo d'onore da prenderli volevo smascherarlo e che cosa accadde egli li prese li prese e se ne andò e li sperperò con quella canaglia laggiù in una sola notte ma lui capì lui capì che io sapevo tutto vi assicuro che allora capì anche che nel dargli quei soldi lo stavo mettendo alla prova per vedere se sarebbe stato così privo d'onore da prenderli oppure no guardai nei suoi occhi e lui guardò nei miei e capiva tutto tutto eppure li prese li prese quei soldi hai ragione Katia si mise a strillare miti all'improvviso ti guardavo negli occhi e capivo che mi stavi disonorando eppure li ho presi i tuoi soldi disprezzate questo mascalzone disprezzatemi tutti me lo sono meritato imputato gridò il presidente ancora una parola e vi faccio allontanare dall'aula quei soldi erano un tormento per lui proseguiva Katia con una fretta febbrile egli voleva restituirmeli voleva questo è vero ma quei soldi gli servivano pure per quella canaglia ecco che ha ammazzato pure suo padre eppure non mi ha restituito i soldi ma se n'è andato con lei in quel villaggio dove l'hanno catturato li ha sperperato di nuovo quel denaro che aveva rubato al padre dopo averlo assassinato e due giorni prima di uccidere suo padre mi scrisse quella lettera la scrisse da ubriaco quando la vidi capì subito che l'aveva scritta per rabbia e convinto convintissimo che non l'avrai mostrata a nessuno neanche se egli avesse ucciso altrimenti non l'avrebbe mai scritta sapeva che non avrai desiderato vendicarmi e che non lo avrai rovinato ma leggete leggete con attenzione per favore leggete con maggiore attenzione e vedrete che nella lettera ha descritto tutto in anticipo come avrebbe ammazzato il padre e dove quello teneva i soldi guardate per favore non lasciatevi sfuggire nulla c'è una frase ucciderò purché Ivan se ne sia andato vuol dire che aveva già pensato in ogni dettaglio a come lo avrebbe ucciso fece notare alla corte Caterina Ivanovna con esultanza maligna e velenosa oh era evidente che aveva letto e riletto quella maledetta lettera studiandone ogni parola se fosse stato sobrio non mi avrebbe scritto ma guardate è anticipato tutto per iscritto tutto per filo e per segno come avrebbe ucciso il padre e tutto il piano che aveva in mente così esclamava fuori di sé ormai incurante delle conseguenze anche se si intende le aveva previste già da un mese perché forse sin da allora fremente di rabbia fantasticava se fosse il caso o meno di leggere quella lettera al processo adesso era come se avesse commesso il passo fatale ricordo se non erro che la lettera fu letta ad alta voce dal cancelliere ed essa produsse un effetto travolgente Amitia fu posta la seguente domanda riconoscete questa lettera è mia è mia esclamò Amitia se fossi stato sobrio non l'avrai scritta abbiamo avuto molti motivi per odiarci Katia ma ti giuro ti giuro che pur odiandoti ti amavo mentre tu non mi amavi egli crollò sulla sedia contorcendosi le mani per la disperazione il procuratore e il difensore cominciarono a porre domande a turno soprattutto per accertare che cosa l'avesse indotta a celare un documento di tale importanza così a lungo e a rendere la propria testimonianza solo qualche momento prima in tono e con spirito completamente diverso sì sì poco fa ho mentito ho mentito su tutto a dispetto della mia coscienza e del mio onore ma poco fa lo volevo salvare perché mi aveva odiata e disprezzata così tanto esclamò Katia come impazzita lui mi disprezzava profondamente mi ha sempre disprezzata e sapete sapete mi ha disprezzata dal momento stesso in cui mi sono inginocchiata davanti a lui per quei soldi io me ne accorsi allora lo avverti immediatamente ma non credetti a me stessa per molto tempo quante volte poi leggevo nei suoi occhi eppure sei stata tu a venire da me per tua stessa volontà lui non ha capito non ha capito niente del motivo per il quale mi ero precipitata da lui lui è capace di sospettare soltanto bassezze egli giudicava la gente secondo il proprio metro pensava che fossero tutti come lui stridette furiosamente fra i denti Katia ormai in preda al furore egli è venuta voglia di sposarmi solo perché avevo ricevuto un'eredità solo per questo solo per questo ho sempre avuto il sospetto che fosse per questo è una bestia è sempre stato convinto che io per tutta la vita avrei tremato di vergogna dinnanzi a lui per essere andata a casa sua quella volta e che lui avrebbe avuto il diritto di disprezzarmi per quello in eterno e quindi di sentirsi superiore a me ecco perché voleva sposarmi è così è esattamente così io ho provato a conquistarlo con il mio amore un amore senza limiti ero disposta a sopportare persino il tradimento ma lui non ha capito niente ed è forse capace di capire qualcosa quel mostro quella lettera io la ricevetti soltanto la sera del giorno successivo me la portarono dalla trattoria ma quella mattina la mattina di quel giorno io volevo perdonargli tutto tutto persino il tradimento naturalmente il presidente e il procuratore cercarono di calmarla sono sicuro che anche loro si sentivano in imbarazzo sfruttando in quel modo il suo isterismo e ascoltando ammissioni di quel genere ricordo di averli sentiti dire capiamo quanto è penoso per voi credete noi possiamo capire e altre cose del genere eppure storsero quella testimonianza da quella donna ormai fuori di sé in preda a un attacco isterico e la infine descrisse con un'estrema lucidità quale spesso sebbene a tratti balugina persino nei momenti di tensione più intensa come Ivan Fyodorovic fosse quasi impazzito in quei due mesi nel tentativo di salvare il mostro e l'assassino suo fratello si tormentava esclamava lei voleva sempre sminuire la colpa del fratello confessando che egli stesso per primo non aveva amato il padre e che forse ne aveva persino desiderato la morte oh è una coscienza profonda profondissima si tormenta per la propria coscienza mi ha rivelato tutto tutto egli veniva da me e parlava con me ogni giorno con me al suo unico amico ho avuto l'onore di essere il suo unico amico esclamò ella di punto in bianco con una certa aria provocatoria e gli occhi scintillanti è andato due volte da Smerdiakov una volta viene da me e dice se non è stato mio fratello a uccidere ma Smerdiakov perché dappertutto circolava la voce che fosse stato Smerdiakov a uccidere allora forse anch'io sono colpevole perché Smerdiakov sapeva che io non amavo mio padre e forse pensava che io volessi la sua morte così estrassi quella lettera e gliela mostrai ed egli allora si convinse senza ombre di dubbio che fosse stato il fratello a uccidere e ne fu sopraffatto egli non riusciva a tollerare l'idea che suo fratello sangue del suo sangue fosse un parvicida è già una settimana che mi sono accorta che era ammalato per questo e gli ultimi giorni quando veniva a casa mia delirava io mi accorgevo che stava uscendo di senno camminava e delirava anche per strada lo hanno visto fare così il dottore è venuto da Mosca dietro a mia richiesta lo ha visitato due giorni fa e mi ha detto che era alle soglie di una febbre cerebrale è tutto per colpa di quello per colpa di quel mostro e ieri ha preso che smerdi a coffera morto e la notizia lo ha così sconvolto che ne è impazzito e tutto per quel mostro tutto per salvare quel mostro oh parlare in quel modo e fare delle simili confessioni è possibile soltanto una volta nella vita in punto di morte per esempio mentre ti conducono al patibolo ma un simile comportamento rientrava nel carattere di Katia ed ella si trovava proprio in uno dei suoi momenti era la stessa impetuosa Katia che allora si era precipitata in casa di quel giovane libertino per salvare il padre la stessa Katia che poco prima davanti a tutto quel pubblico fiera e casta aveva sacrificato se stessa e il suo pudore virginale raccontando quel nobile gesto di mitia nella speranza di poter alleviare seppure di poco il destino che lo attendeva ed ecco che adesso si era sacrificata nello stesso identico modo per un altro e forse soltanto adesso soltanto in quel momento aveva sentito e si era resa conto completamente di quanto gli fosse cara quell'altra persona ella aveva sacrificato se stessa terrorizzata per lui immaginando tutto ad un tratto che gli si fosse rovinato testimoniando di essere stato lui ad uccidere e non il fratello si era sacrificata per salvare lui il suo nome la sua reputazione tuttavia le era balenato un pensiero terribile aveva forse mentito contro mitia descrivendo i precedenti rapporti intercorsi con lui ecco la questione no no non aveva calunniato intenzionalmente gridando che mitia la disprezzava per quell'inchino fino a terra lo credeva fermamente era sempre stata profondamente convinta forse dal momento stesso in cui si era inchinata davanti a lui che l'ingenuo mitia che pure allora la adorava potesse ridere di lei e la disprezzasse e soltanto per orgoglio ella si era legata a lui allora in un rapporto d'amore isterico e lacerato per orgoglio ferito e quell'amore non assomigliava affatto all'amore ma alla vendetta oh forse quell'amore lacerato avrebbe potuto trasformarsi in un vero amore forse Katia non aveva desiderato altro che quello ma con il suo tradimento mitia l'aveva offesa nel profondo dell'anima e quell'anima non poteva perdonarlo il momento della vendetta era sopraggiunto inaspettato e tutto ciò che era stato accumulato così a lungo e così dolorosamente nel petto di quella donna offesa proruppe tutto d'un tratto e inaspettatamente ella aveva tradito ma aveva tradito anche se stessa e naturalmente non appena si fu sfogata la tensione ebbe fine e un sentimento di vergogna la sopraffece fu ripresa da un attacco isterico cadde a terra fra singhiozzi e strilla la condussero fuori dall'aula mentre la portavano via Grushenka si slanciò urlando verso mitia con tanta rapidità che non riuscirono a trattenerla mitia strillò il tuo serpente ti ha rovinato ecco che vi ha mostrato la sua vera natura gridava ai giudici tremante di rabbia a un cenno del presidente la afferrarono e cominciarono a portarla fuori dall'aula e la non cedeva si dibatteva e cercava di divincolarsi per tornare indietro verso mitia anche mitia lanciò un urlo e si gettò verso di lei riuscirono a bloccarli entrambi sì posso ritenere che le signore che erano venute per godersi lo spettacolo fossero rimaste soddisfatte lo spettacolo era stato veramente ricco di colpi di scena poi ricordo che si presentò il dottore venuto da Mosca credo che il presidente avesse mandato l'uscere a provvedere che ad Ivan Fiodorovich fosse garantita l'assistenza medica il dottore riferì alla corte che il malato aveva subito un pericolosissimo attacco di febbre cerebrale e che dovevano assolutamente portarlo via d'urgenza alle domande del procuratore del difensore il dottore confermò che il paziente era andato da lui due giorni prima e che egli lo aveva avvertito dell'imminenza di una febbre cerebrale ma quello non aveva voluto curarsi le sue condizioni mentali erano decisamente anormali egli stesso mi confessò che aveva delle allucinazioni incontrava per strada persone già morte e ogni sera andava a trovarlo Satana concluse il dottore al termine della testimonianza l'illustre medico si allontanò la lettera prodotta da Caterina Ivanovna fu allegata alle prove materiali dopo un consulto i giudici decisero di procedere con l'istruttoria dibattimentale e di mettere agli atti anche le inattese testimonianze di Caterina Ivanovna e di Ivan Fiodrovich ma non descriverò l'ulteriore sviluppo dell'istruttoria tanto più che le testimonianze dei rimanenti testimoni non fecero che ribadire e confermare quelle precedenti seppure ciascuna avesse le proprie peculiarità ma lo ripeto venne tutto riassunto nell'arringa del procuratore alla quale passerò all'istante erano tutti eccitati tutti elettrizzati da quest'ultima catastrofe aspettavano con bruciante impazienza l'epilogo con le arringhe delle due controparti e la sentenza Etiukovie era stato evidentemente sconvolto dalla testimonianza di Caterina Ivanovna in compenso il procuratore era esultante quando l'istruttoria dibattimentale fu conclusa fu annunciata una pausa che durò circa un'ora finalmente il presidente dette inizio al dibattimento credo che fossero esattamente le otto di sera quando il nostro procuratore Ippolit Kirilovich dette inizio all'arringa dell'accusa l'arringa del procuratore bozzetti di carattere Ippolit Kirilovich dette inizio alla sua arringa in preda ad un tremore nervoso che gli attraversava tutto il corpo con la fronte e le tempie imperlate di un malsano sudore freddo con brividi e vampate di caldo che si alternavano per tutto il corpo fu lui stesso a raccontarlo in seguito egli considerava quel discorso il proprio chef d'ovre il chef d'ovre della sua vita il suo canto del cigno vero è che nove mesi più tardi egli doveva morire di consunzione quindi avrebbe avuto ben ragione di paragonarsi a un cigno che intona il suo ultimo canto se avesse previsto la propria morte in quel discorso egli ci mise tutto il suo cuore e tutta la sua intelligenza inaspettatamente dimostrò di celare dentro di sé sia una sensibilità civica sia un interesse per le questioni maledette almeno nella misura in cui il nostro povero Ippolit Kirillovic era in grado di concepirle il punto di forza del suo discorso era la sincerità egli credeva sinceramente nella colpevolezza dell'imputato e lo accusava non per dovere né per il ruolo che gli competeva ma chiedeva vendetta morso da un autentico desiderio di salvare la società persino il pubblico femminile che sotto sotto era ostile a Ippolit Kirillovic dovette ammettere che il procuratore aveva fatto una grande impressione egli esordì con voce incrinata rotta che ben presto guadagnò forza e finì con il risuonare per la sala intera fino alla fine della ringa ma quando egli ebbe concluso per poco non svenne signori della giuria esordì il procuratore il caso in questione ha acquistato notorietà nell'intera Russia ma che cosa provoca tanto stupore che cosa provoca questo particolare orrore soprattutto per noi per noi eppure siamo gente abituata a tutto questo l'orrore sta proprio nel fatto che casi così tetri abbiano quasi cessato di essere orribili per noi ecco di che cosa dobbiamo inorridire della nostra assuefazione e non solo del crimine commesso da questo o quell'individuo quali sono le cause della nostra indifferenza della nostra tiepida reazione a simili fatti a simili trasformazioni della nostra epoca fuoriere di un futuro così poco promettente forse nel nostro cinismo nel precoce esaurimento dell'intelligenza e dell'immaginazione in una società ancora tanto giovane eppure così prematuramente decaduta nel radicale squassamento dei nostri principi morali o addirittura nell'assenza totale di questi principi fra di noi non so dare risposta a queste domande eppure esse sono lancinanti e ogni cittadino non solo dovrebbe ma è persino obbligato a soffrire per causa loro la nostra stampa appena nata e ancora timida ha già reso un buon servizio al pubblico poiché senza di essa non avremmo mai avuto notizia per lo meno con tanta dovizia di particolari di quegli orrori frutto di sfrenata violenza e degradazione morale che le sue pagine rendono note di continuo a tutti non soltanto ai frequentatori dei nuovi tribunali che l'attuale regno ci ha regalato e che cosa leggiamo con una frequenza quasi quotidiana di avvenimenti dinanzi ai quali anche il presente caso impallidisce e appare quasi ordinario ma quel che più conta è che la maggioranza dei nostri crimini nazionali russi testimonia non generale comune malessere che attualmente attecchisce presso di noi e contro il quale come contro il male in generale è ormai arduo combattere ecco che vediamo un giovane brillante ufficiale dell'alta società che appena agli inizi della sua vita e della sua carriera che vigliacamente alla chitichella senza il minimo rimorso di coscienza scanna un piccolo impiegato un tempo suo benefattore e la sua serve per sottrargli la cambiale del proprio debito e i pochi soldi che gli rimanevano mi faranno comodo per i miei piaceri nel gran mondo e per la mia carriera futura dopo averli scannati entrambi e aver messo loro un cuscino sotto la testa se ne va e ancora un giovane eroe decorato al valore accoppa come un brigante la madre del suo comandante e benefattore sulla strada maestra e per convincere i compagni a unirsi a lui assicura che ella lo ama come un figlio e così eseguirà tutti i suoi ordini e non prenderà alcuna precauzione diciamo pure che si tratta di un mostro ma adesso di questi tempi non oserei più dire che è l'unico un altro non ammazzerà materialmente ma penserà e agirà esattamente come lui nel proprio intimo sarà disonesto esattamente come lui in solitudine faccia a faccia con la propria coscienza egli forse si domanda ma che cos'è l'onore e la condanna del sangue versato non è forse un pregiudizio forse qualcuno urlerà contro di me dicendo che sono un uomo morboso isterico un calunniatore mostruoso che sto delirando esagerando che facciano pure che facciano pure mio dio sarei il primo a gioire se fosse così oh non credetemi consideratemi un malato tuttavia ricordate le mie parole già che se soltanto la decima parte o anche la ventesima delle mie parole fosse vera sarebbe tremendo guardate signori guardate come si suicida la nostra gioventù senza nemmeno porsi l'emletica domanda riguardo a quello che ci può essere nell'aldilà senza nemmeno pensare a quesiti di questo genere come se tutto ciò che riguarda l'anima e che ci aspetta nell'oltre tomba fosse stato affossato nella natura sepolto ricoperto di sabbia guardate per esempio la nostra depravazione i nostri lussuriosi Fyodor Paolovic la disgraziata vittima del processo in corso a confronto di alcuni di essi appare quasi un bambinetto innocente eppure noi tutti lo conoscevamo e gli visse tra noi sì un giorno forse i maggiori intelletti della Russia ed Europa studieranno la psicologia del crimine russo perché questa materia è degna di indagine ma questa indagine avrà luogo in seguito quando si avrà tutto il tempo necessario per farla quando tutto questo bailam del momento attuale sarà molto lontano alle nostre spalle in maniera che adesso si possa guardare con più intelligenza e imparzialità di quanto possono oggi fare quelli come me invece adesso noi non ridiamo o fingiamo di non ridire sebbene in realtà stiamo godendo dello spettacolo come appassionati di sensazioni forti eccentriche che stuzzichino la nostra acidiacinicamente indolente oppure infine come bambini ricacciamo via da noi con le mani gli spaventosi fantasmi e nascondiamo la testa nel cuscino finché la paurosa visione non sia scomparsa per poi dimenticare ogni cosa con l'allegria e i giochi eppure anche noi un giorno dovremo iniziare una vita sobria ed assennata dovremmo anche noi gettare uno sguardo a noi stessi e alla società dovremmo almeno tentare di capire il nostro ruolo nella società e fare i primi passi in quella direzione un grande scrittore dell'epoca passata a conclusione della più sublime delle sue opere immaginò il nostro paese come un'ardita troica russa che corre all'impazzata verso una meta ignota ed esclama oh troica troica veloce come un uccello chi ti ha inventata e aggiunse in un tripudio di orgoglio che tutti i popoli si fanno da parte con un rispettoso inchino dinnanzi alla troica galloppante che lo facciano pure signori che si facciano da parte con rispetto o meno ma a mio modesto parere quel geniale scrittore ha concluso a quel modo il suo capolavoro in un accesso di infantile e ingenuo ottimismo oppure semplicemente per il timore della censura del tempo giacché se la troica fosse tirata dai suoi eroi i vari Sobachevie Nozrieff Eizekov chiunque ne fosse il cocchiere con cavalli del genere non andrebbe da nessuna parte e quelli erano cavalli di un'altra epoca che sarebbero rimasti molto indietro rispetto a quelli attuali i nostri sono ancora peggio a questo punto il discorso di Polity Kirinovich fu interrotto dagli applausi il sapore liberale dell'immagine della troica russa era stato gradito vero è che si udirono solo due o tre battimenti tanto che il presidente non ritenne nemmeno necessario rivolgersi al pubblico con la minaccia di far sgombrare l'aula ma si limitò a gettare un'occhiata severa dal lato di coloro che avevano applaudito e Polity Kirinovich comunque ne era incoraggiato non era mai stato applaudito prima di allora nessuno si era mai degnato di ascoltarlo fino ad allora ed ecco all'improvviso aveva la possibilità di farsi sentire dalla Russia intera dopo tutto proseguì che cosa rappresenta la famiglia Karamazov per essersi guadagnata di colpo tutta questa dolorosa notorietà addirittura a livello nazionale forse sto esagerando ma mi sembra che nell'immagine di questa famiglia baleglino a tratti alcuni elementi fondamentali comuni e propri alla nostra intelligenza contemporanea oh certo non tutti gli elementi e per di più soltanto in forma microscopica come il sole in una goccia d'acqua eppure qualcosa vi è riflessa qualcosa è comunque espressa guardate questo disgraziato vizioso e lussurioso vecchio questo padre di famiglia che ha concluso così miseramente la propria esistenza di nobili natali cominciò la propria carriera come povero parassita con un matrimonio casuale e inatteso entrò in possesso di un piccolo capitale la dote della moglie all'inizio era solo un piccolo impostore un buffone adulatore con un embrione di capacità intellettive del resto abbastanza buone ed era soprattutto un usuraio con il passare degli anni cioè con l'accrescersi del capitale egli si fece sempre più audace la sua meschinità e il suo servilismo svanirono ed egli rimase soltanto un cinico ironico e perfido e un libertino il lato spirituale della sua vita era stato affossato mentre la brama di vivere era intensissima andò a finire che al di là dei piaceri della carne egli non vedeva nient'altro nella vita e così ha insegnato ai suoi figli doveri spirituali di padre neanche per sogno egli metteva in ridicolo questi doveri lasciava crescere i figlioletti nel cortile sul retro e fu contento quando glieli portarono via si dimenticò completamente di loro le leggi morali del vecchio si riducevano al motto apres moi le deluge egli era l'esempio di tutto ciò che è opposto al dovere civile l'esempio più autentico di un isolamento quasi ostile dalla società il mondo può bruciare per quello che me ne importa basta che vada bene a me egli andava davvero bene era pienamente soddisfatto desiderava vivere ancora venti trent'anni egli ingannò il figlio riguardo all'eredità e con i soldi di lui con l'eredità di sua madre che non voleva cedergli cercò di soffiare l'amante a quel figlio no non intendo cedere la difesa dell'imputato al mio abilissimo collega venuto da Pietro Burgo io stesso dirò la verità anch'io comprendo il risentimento che si accumulò nel cuore del figlio contro quel padre ma basta basta con questo disgraziato vecchio egli ha pagato il suo tributo ricordiamo tuttavia che egli era un padre e un padre di quelli contemporanei offendo forse la società dichiarando che egli è uno dei molti padri contemporanei ahimè quanti padri differiscono da questo per il solo fatto che non professano apertamente un cinismo pari al suo perché sono stati educati meglio hanno ricevuto una migliore istruzione ma in sostanza hanno la stessa filosofia di questo padre ammettiamo che io sia pessimista ammettiamolo pure ci siamo già accordati sul fatto che voi mi perdonerete facciamo un patto sin dall'inizio non credetemi non credetemi io parlerò ma voi non credetemi tuttavia lasciatemi parlare e cercate di non dimenticare almeno qualcuna delle mie parole allora passiamo ai figli del vecchio di questo padre di famiglia uno è sul banco degli imputati davanti a noi per tutto il resto della mia ringa mi occuperò di lui degli altri due parlerò solo di sfuggita di questi due il maggiore è uno dei tanti giovanotti contemporanei che hanno ricevuto una brillante istruzione un giovane dall'intelligenza vigorosa che ormai non crede più in nulla che ha rifiutato e cancellato già molte troppe cose nella sua vita esattamente come suo padre abbiamo tutti avuto modo di sentirlo egli è stato accolto con affetto nella nostra società egli non faceva mistero delle proprie convinzioni anzi al contrario le professava apertamente e questo adesso mi autorizza a parlare di lui con una certa franchezza certo non della sua vita privata quanto del suo ruolo nella famiglia Karamazov ieri nella nostra città è morto suicida in una casa in periferia un idiota sofferente un altro personaggio fortemente implicato nel presente caso un servo e forse anche figlio illegittimo di Fyodor Paulovic Smerdiakov fra lacrime isteriche questi mi raccontò nel corso dell'istruttoria preliminare di come il giovane Karamazov Ivan Fyodorovic lo avesse terrorizzato con la sua audacia in argomenti spirituali tutto è permesso secondo lui qualunque cosa al mondo e niente deve essere proibito da ora in poi ecco quello che gli insegnava pare che per questa tesi con la quale lo aveva ammaestrato l'idiota fosse impazzito del tutto sebbene sulle sue precarie condizioni mentali abbia influito anche l'epilessia e tutta una terribile catastrofe che era scoppiata in casa eppure nella testa di quell'idiota era baluginata un'osservazione estremamente interessante che avrebbe fatto onore ad un osservatore più attento ed ecco il motivo per cui ho iniziato a parlarne se c'è uno fra i suoi figli che più di tutti assomiglia a Fyodor Paolovic quello è lui Ivan Fyodorovic su questa osservazione termino il mio primo abbozzo di carattere dal momento che non trovo delicato proseguire non voglio tirare altre conclusioni e gracchiare come un corvo solo previsioni di sventura su questo giovane destino abbiamo visto anche oggi qui in quest'aula come la forza prorompente dell'umanità è ancora viva nel suo giovane cuore che il senso dell'attaccamento alla famiglia non è stato ancora soffocato dal suo ateismo e dal suo cinismo morale acquisito più per via ereditaria che per esercizio del libero pensiero e per finire parliamo dell'altro figlio si tratta ancora di un ragazzo devoto e modesto al quale in perfetta contrapposizione alla visione del mondo cupa e distruttiva del fratello cerca di attaccarsi per così dire ai principi del popolo o a quello che da noi indicano con quell'espressione così astrusa alcuni circoli filosofici della nostra pensosa intelligenzia egli vedete si era legato al monastero ed era sul punto di prendere i voti anche lui credo che in lui almeno così mi sembra si sia inconsciamente e precocemente espressa quella timida disperazione che conduce molti di coloro che nella nostra infelice società temono il cinismo e le influenze corruttrici ed erroneamente attribuiscono tutto il male alla civiltà europea a ritornare al suolo natio come dicono al grembo per così dire della loro madre terra come bambini spaventati desiderosi di addormentarsi sul petto avvizzito della loro decrepita madre e dormire così per sempre solo per sfuggire agli orrori che li atterriscono dal mio canto io auguro a questo ragazzo buono e dotato tutto il meglio gli auguro che il suo idealismo giovanile e l'impulso verso i principi del popolo non decenerino in seguito come molto spesso accade in cupo misticismo dal punto di vista morale e in cieco sciovinismo da quello politico due elementi questi che minacciano alla nostra nazione un male forse anche peggiori della ricadenza prematura causata dalla fraintesa e vanamente adottata cultura europea della quale soffre il suo fratello maggiore due o tre persone si misero ad applaudire per il riferimento allo sciovinismo e al misticismo certo Ippolit Grilovic si era di nuovo lasciato andare dal momento che tutto quello che aveva detto centrava ben poco con il caso in questione e per di più risultava alquanto nebuloso ma troppo irresistibile era il desiderio di quell'uomo tubercolotico e inasprito di esprimersi almeno una volta nella vita da noi in seguito si disse che nel dipingere il carattere di Ivan Fyodorovic egli era mosso addirittura da sentimenti poco nobili perché l'altro lo aveva messo alle strette un paio di volte durante alcune dispute in pubblico e Ippolit Grilovic ricordandosi di questo aveva voluto vendicarsi ma non so se una tale conclusione fosse vera comunque quello che era stato detto fino a quel momento costituiva soltanto l'introduzione poi la ringa puntò ad una più diretta e immediata considerazione del caso ed ecco davanti a voi il figlio maggiore di questo padre di una famiglia contemporanea proseguiva Ippolit Grilovic si trova qui sul banco degli imputati davanti a voi ci sono anche le sue imprese la sua vita e le sue azioni è arrivata l'ora in cui tutto ci è dischiuso tutto è venuto a galla di contro all'europeismo e ai principi del popolo dei suoi fratelli egli è come se rappresentasse direttamente la Russia stessa non tutta non tutta guai a noi se fosse tutta eppure è lì la nostra cara piccola Russia se ne sente l'odore la presenza noi siamo spontanei siamo una stupefacente mistura di bene e di male siamo appassionati di cultura e di Schiller ma nello stesso tempo ci scateniamo nelle trattorie e strappiamo la barba agli ubriachi nostri compagni di bisboccia anche noi possiamo essere buoni e meravigliosi ma solo quando tutto ci va bene e meravigliosamente anzi ci sentiamo persino in balia proprio in balia di nobilissimi ideali ma esclusivamente a patto che essi sopraggiungano da soli ci cadano dal cielo pronti sul tavolo ma soprattutto gratuitamente gratuitamente che non si debba pagare nulla per loro noi detestiamo pagare in compenso amiamo molto ricevere e questo in ogni cosa su dateci dateci tutti i piaceri possibili della vita proprio tutti i possibili non ci accontenteremo di meno e soprattutto non ci mettete mai bastoni fra le ruote e allora vi dimostreremo che anche noi possiamo essere buoni e meravigliosi noi non siamo avidi no ma dateci del denaro di più di più il più possibile e vedrete con quanta generosità con quanto sprezzo per questo spregevole metallo noi lo getteremo al vento in una notte in una baldoria sfrenata e se soldi non ce ne danno allora noi dimostreremo che siamo capaci di procurarceli quando non resisteremo più alla voglia di averli ma di questo parleremo dopo procederemo per ordine prima di tutto avete dinnanzi a voi un povero bambino abbandonato nel cortile sul retro senza stivaletti come si è espresso poco fa il rispettabile ed è grecio con cittadino nostro purtroppo di origine straniera lo ripeto ancora non cederò a nessuno la difesa dell'imputato io sarò il suo accusatore e sarò pure il suo difensore sì siamo anche noi persone anche noi esseri umani e siamo in grado di valutare il peso che hanno le prime impressioni dell'infanzia e del nido natio sul carattere ma ecco che il bambino è diventato un giovanotto già un giovane uomo un ufficiale per via di una sfida a duello e di una condotta non conforme alla disciplina lo spediscono in una lontana cittadina di confine della nostra fertile Russia là egli presta servizio e si dà alla bella vita e naturalmente ad ampio vascello ampio percorso gli occorrono denari gentili signori denari sopra ogni altra cosa ed ecco che dopo lunghe dispute egli giunge ad un accordo con il padre per la somma di 6.000 rubli che questi gli invia notate che egli firmò un documento esiste una sua lettera con la quale egli praticamente rinuncia ad ogni pretesa e pone fine alla contesa con il padre riguardo all'eredità a questo punto ha luogo il suo incontro con una ragazza giovane dal carattere altero e di grande cultura certo non oserò ripetere i particolari avete appena avuto modo di ascoltarli dimostrazioni di onore di abnegazione che io passerò sotto silenzio l'immagine del giovanotto superficiale libertino che si inchina dinnanzi all'autentica nobiltà d'animo dinnanzi ai sublimi ideali ci è balenata davanti agli occhi in una luce molto simpatica ma immediatamente dopo in questa stessa aula di tribunale abbiamo visto del tutto inaspettatamente anche il rovescio della medaglia ancora una volta non oso avventurarmi in congettura e mi asterrò dall'analisi delle ragioni per le quali questo è avvenuto eppure delle ragioni esistono quella stessa persona fra lacrime di rabbia lungo celate ci ha dichiarato che egli per primo l'aveva disprezzata per il suo slancio incauto irresponsabile forse ma pur sempre dettato da nobili ideali pur sempre magnanimo a lui per primo il fidanzato di questa ragazza era affiorato prima che a tutti gli altri quel sorrisetto ironico che la soltanto da lui non aveva potuto sopportare consapevole che egli l'avesse già tradita e lui l'aveva tradita convinta che lei avrebbe dovuto sopportare tutto da lui persino il tradimento consapevole di questo ella gli propone a bella posta 3000 rubli e con chiarezza con molta chiarezza gli fa capire che gli stava offrendo del denaro proprio per rendere possibile quel tradimento e allora li accetterai o no sarai cinico fino a questo punto era la muta domanda dei suoi occhi giudicanti e scrutatori egli la guarda coglie alla perfezione le intenzioni di lei difatti lo ha appena ammesso davanti a voi e si appropria di quei 3000 rubli e li sperpera in due giorni in compagnia della sua nuova fiamma a che cosa dobbiamo credere dunque alla prima versione all'impulso di alta nobiltà d'animo che sacrifica tutti i suoi mezzi di sostentamento e si inchina dinnanzi alla virtù o al rovescio della medaglia così disgustoso nella vita di solito fra i due estremi bisogna cercare la verità nel mezzo ma nel presente caso non è esattamente così la cosa più probabile è che nel primo caso egli fosse schiettamente e grato nel secondo schiettamente vile perché? proprio perché siamo nature vaste nature caramazoviane ecco che cosa voglio dimostrare in grado di mescolare tutti i contrari possibili e contemplare nello stesso istante entrambi gli abissi l'abisso sopra di noi l'abisso degli ideali elevati e quello sotto di noi l'abisso della degradazione più abbiatta e fetida ricordatevi della brillante idea esposta poco fa da un giovane osservatore che ha avuto modo di esaminare profondamente e da vicino l'intera famiglia Karamazov il signor Rakitin per queste nature scapestrate e sfrenate la sensazione della meschinità della propria degradazione è necessaria quanto la sensazione della propria nobile magnanimità e questo è vero essi hanno un bisogno continuo incessante di questa miscela innaturale due abissi due abissi signori nello stesso momento senza di essi siamo infelici e insoddisfatti la nostra esistenza non è completa noi siamo vasti vasti come la nostra madre russia signori signori giurati incameriamo ogni cosa e sappiamo convivere con tutto a proposito signori giurati dal momento che abbiamo accennato ai 3000 rubli mi permetto di fare qualche passo avanti voi ve la immaginate una persona di questo genere che dopo aver ricevuto quei 3000 rubli e per di più in quel modo a prezzo di una tale vergogna di una tale infamia di una tale umiliazione quel giorno stesso ne mette da parte la metà la cuce nel suo amuleto e per un mese intero ha la fermezza di carattere di portarsela al collo a dispetto di tutte le tentazioni e dell'estremo bisogno ve lo immaginate che neanche durante le bisbocce fra ubriaconi per le trattorie neanche quando si vede costretto a lasciare di corsa la città per procurarsi il denaro Dio solo sa da chi denaro che gli serviva con la massima urgenza per sottrarre al più presto la sua innamorata alle tentazioni del rivale suo padre egli non si azzardò nemmeno a toccare quell'amuleto ma se non fosse altro che per evitare di lasciare l'innamorata in balia delle tentazioni del vecchio del quale era tanto geloso egli avrebbe dovuto scucire il suo amuleto e rimanere a casa a fare la guardia giorno e notte alla sua innamorata in attesa del momento in cui gli avrebbe detto sono tua per fuggire con lei da qualche parte lontano lontano dal sinistro ambiente in cui vivevano e invece no egli non tocca il suo amuleto e quali ragioni dà per il suo gesto la prima ragione abbiamo detto era proprio quella che quando ella gli avesse detto sono tua portami dove vuoi avrebbe avuto i soldi necessari per farlo ma questa era la prima ragione che per ammissione stessa dell'imputato impallidiva dinnanzi alla seconda fin quando avesse portato quei soldi su di sé sarebbe stato un mascalzone e non un ladro già che sarebbe sempre potuto andare dalla fidanzata che aveva oltreggiato e mettendole davanti metà della somma della quale si era appropriato con l'inganno avrebbe sempre potuto dire vedi ho sperperato soltanto la metà dei soldi e così ti ho dimostrato di essere un uomo debole e senza morale e se vuoi anche un mascalzone esprimo con le parole dell'imputato stesso ma per quanto io sia un mascalzone non sono un ladro perché se fossi stato un ladro non ti avrei portato la seconda metà dei soldi ma me ne sarei appropriato come ho fatto con la prima una spiegazione del fatto sbalorditiva quest'uomo violentissimo ma debole che non aveva saputo resistere alla tentazione di accettare 3000 rubli a prezzo di una tale infamia quello stesso uomo avverte l'improvviso in se stesso una tale stoica fermezza e si porta il collo migliaia di rubli senza osare più toccarli fino a che punto è plausibile un simile comportamento con il carattere che abbiamo appena analizzato no mi permetto di raccontarvi in quale maniera si sarebbe comportato il vero Dimitri Karamazov se veramente si fosse deciso a cucire i soldi nell'amuleto alla prima tentazione per esempio per far piacere in qualche modo alla sua nuova innamorata con la quale aveva sperperato in bagordi già la prima metà dei soldi egli avrebbe scucito l'amuleto e ne avrebbe presi diciamo come la prima volta soltanto 100 rubli da che a che scopo portarne esattamente alla metà cioè 1500 1400 sarebbero bastati avrebbe sempre potuto dire sono un mascalzone ma non un ladro perché comunque ti ho riportato 1400 rubli mentre un ladro te li avrebbe rubati e non ti avrebbe portato nulla poi dopo un po' di tempo avrebbe scucito ancora una volta il suo amuleto e avrebbe estratto il secondo centinaio di rubli e poi un terzo e poi un quarto e per la fine del mese sarebbe arrivato il penultimo centinaio deciso a riportare indietro quell'ultimo centinaio per poter dire lo stesso sono un mascalzone e non un ladro ne ho sperperati in bagor di 2900 ma te ho riportato l'ultimo centinaio un ladro non te li avrebbe riportati e infine dopo aver scialacquato il penultimo centinaio avrebbe guardato l'ultimo e si sarebbe detto ma vale la pena di riportare l'ultimo centinaio ma si sperpero pure questo ecco come avrebbe agito il vero Dimitri Karamazov quale noi lo conosciamo non si può immaginare nulla di più incoerente con la realtà dei fatti di quella storia dell'amuleto non c'è niente di più inconcepibile di questo ma ci torneremo più tardi dopo aver elencato tutti gli elementi ricavati dall'istruttoria preliminare sulle contese finanziarie e i rapporti familiari fra padre e figlio e aver argomentato per l'ennesima volta che in base ai dati a disposizione non c'era la minima possibilità di accertare chi fosse nel torto e chi nel giusto nella questione della divisione delle eredità Ippolit Kirillovic passando all'idea dei 3000 rubli che si era radicata nella mente di Mitia come un'idea fissa fece riferimento alla perizia medica una panoramica storica la perizia medica ha tentato di dimostrarci che l'imputato è fuori di sé ed è un maniaco io affermo che egli è perfettamente in sé ma che è proprio questo il peggio se non fosse in sé probabilmente si sarebbe dimostrato molto più accorto quanto al fatto che sia un maniaco potrei essere anche d'accordo ma solo su un punto esattamente il punto che ha messo in luce la perizia e cioè l'idea che l'imputato si era fatto di quei 3000 rubli che suo padre glieli dovesse risarcire tuttavia forse si potrebbe trovare un punto di vista incomparabilmente più semplice della tendenza alla follia per spiegare la costante frenesia dell'imputato riguardo a quel denaro per quanto mi concerne concordo perfettamente con l'opinione del giovane medico in quale è convinto che l'imputato si trovasse e si trovi tuttora nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali ma fosse soltanto irascibile ed esasperato e questo è il punto l'oggetto del costante e frenetico furore dell'imputato non era il denaro in se stesso era una ragione speciale che suscitava la sua ira la ragione era la seguente la gelosia a questo punto Ippolito Kirillovic si prolungò diffusamente nel dipingere il quadro della fatale passione dell'imputato per Grushenka prese le mosse dal momento in cui l'imputato si recò da una certa giovane persona per picchiarla stava usando le stesse parole dell'imputato spiegò Ippolito Kirillovic ma invece di picchiarla egli rimase prostrato ai suoi piedi così aveva avuto inizio l'amore in quello stesso torno di tempo anche il vecchio il padre dell'imputato mette gli occhi su quella stessa persona coincidenza stupefacente e fatale giacché entrambe i loro cuori si infiammarono di colpo all'unisono sebbene sia l'uno sia l'altro avessero già incontrato in precedenza quella persona ed entrambi si infiammarono della passione più sfrenata e caramazoviana qui noi abbiamo la sua stessa missione io mi sono presa gioco sia dell'uno sia dell'altro sì le era venuta voglia di prendersi gioco dell'uno e dell'altro sulle prime non ne aveva avuta ma poi le era venuta in mente improvvisamente quell'idea e li aveva conquistati tutti e due in un colpo solo il vecchio che idolatrava il denaro aveva messo immediatamente da parte 3000 rubli come ricompensa di una sola visita da parte di lei ma subito dopo si era ridotto in uno stato tale che sarebbe stato felice di mettere il proprio patrimonio e il proprio nome ai suoi piedi se solo lei avesse consentito a diventare sua legittima consorte su questo abbiamo prove inconfutabili quanto all'imputato la sua tragedia è evidente essa è davanti a voi ma questo era lo spasso della giovane persona all'infelice giovanotto la seduttrice non concedeva la minima speranza poiché la speranza la vera speranza gli fu concesse soltanto all'ultimo momento quando egli in ginocchio dinanzi alla sua tormentatrice tendeva verso di lei le mani già macchiate del sangue di colui che era stato suo padre e rivale si trovava per l'appunto in quella posizione quando venne arrestato fatemi deportare insieme a lui sono stata io a condurlo a questo sono io colpevole più di tutti esclamava la donna sinceramente pentita al momento dell'arresto un giovanotto di talento che si è assunto il compito di descrivere il processo in corso quello stesso signor Rakitin che abbiamo già menzionato ha definito con poche frasi acute il carattere di questa eroina una prematura delusione un precoce inganno e la caduta il tradimento del seduttore fidanzato che abbandonò poi la miseria la maledizione della rispettabile famiglia e infine la protezione di un ricco vecchio che infatti ora è la stessa considera il suo benefattore nel suo giovane cuore forse si racchiudevano molte cose buone ma esso era stato troppo precocemente inasprito dal rancore crebbe con un carattere calcolatore avido di accumulare denaro crebbe sarcastica e piena di rancore contro la società dopo questo abbozzo di carattere si può comprendere che la si fosse presa gioco dell'uno e dell'altro unicamente per proprio diletto per un maligno diletto ed ecco che dopo un mese di amore senza speranze e di degradazione morale durante il quale egli aveva tradito la fidanzata si era appropriato di denaro altrui affidato al suo onore l'imputato era stato condotto all'esasperazione quasi alla pazzia per gli incessanti tormenti della gelosia e verso di chi poi verso suo padre e il peggio era che lo scervellato vecchio allettava allettava e irretiva l'oggetto della sua passione con quegli stessi tremila rubli che suo figlio considerava di sua proprietà l'eredità della madre sulla quale il vecchio lo stava truffando sì sono d'accordo era troppo da sopportare a questo punto poteva insorgere persino una mania non era il denaro in sé ma il fatto che quel denaro fosse usato per distruggere la sua felicità e con un cinismo così rivoltante poi il procuratore passò a descrivere come fosse nato gradualmente nell'imputato il pensiero del parricidio e lo esaminò sulla base dei fatti sulle prime andiamo sbraitando di trattoria in trattoria sbraitiamo per un mese intero ci piace stare in mezzo alla gente e spifferare immediatamente a tutti ogni cosa persino le nostre idee più infernali e pericolose amiamo condividere con la gente ogni pensiero e desigiamo lì per lì per chissà quale ragione la loro immediata e totale simpatia vorremmo che prendessero a cuore i nostri problemi e le nostre preoccupazioni che parteggiassero per noi e non si opponessero a noi in nulla altrimenti ci infuriamo e mettiamo a soccuadro tutto il locale a questo punto seguì l'aneddoto sul capitano Zhignagiriev coloro che videro e sentirono l'imputato durante quel mese ebbero la sensazione infine che potesse trattarsi di qualcosa di più che strepiti e minacce contro il padre e che con una tale frenesia egli potesse tradurre in atto quelle minacce a questo punto il procuratore descrisse la riunione di famiglia nel monastero le conversazioni con la lioscia e la ignominiosa scena della violenza in casa del padre quando l'imputato aveva fatto irruzione da lui dopo pranzo non posso asserire con certezza proseguiva Ippolit Kirillovich che prima di questa scena l'imputato avesse deciso immediatamente intenzionalmente di farla finita con il padre uccidendolo non di meno questa idea gli si era affacciata più volte ed egli l'aveva presa in considerazione a questo proposito abbiamo fatti comprovati testimoni e la sua personale ammissione devo riconoscere signori giurati aggiunse Ippolit Kirillovich che fino ad oggi sono stato incerto se attribuire o meno all'imputato la piena e consapevole premeditazione del crimine di cui deve rispondere ero fermamente convinto che la sua anima più di una volta si fosse soffermata a immaginare il momento fatale ma pensavo che lo avesse solo immaginato solo contemplato come possibilità senza aver definito il termine dell'esecuzione né le circostanze ma sono stato titubante soltanto fino ad oggi fino a quando non ho visto quel fatale documento che ha presentato oggi alla corte la signorina Ferciovceva voi stessi signori l'avete sentita esclamare questo è un piano un progetto omicida ecco come ella definiva quella disgraziata lettera da ubriaco del disgraziato imputato e infatti alla luce di quella lettera l'intera faccenda dell'omicidio assume l'aspetto di un piano di una premeditazione la lettera venne scritta due giorni prima dell'omicidio e in questo modo adesso sappiamo di sicuro che due giorni prima dell'esecuzione del suo terribile proposito l'imputato aveva dichiarato sotto giuramento che se non avesse trovato i soldi entro il giorno successivo avrebbe ucciso suo padre allo scopo di prendergli il denaro da sotto il cuscino denaro che si trovava in un plico con un nastrino rosa purché fosse partito Ivan capite? purché fosse partito Ivan dunque era stato tutto premeditato le varie circostanze erano state ponderate e che cosa accadde? più tardi tutto avvenne esattamente come aveva scritto la premeditazione e la riflessione sono fuori di dubbio l'omicidio doveva essere perpetrato a scopo di rapina questo era stato dichiarato in anticipo era stato scritto e sottoscritto l'imputato non rinnega la propria firma e si potrà obiettare che l'imputato era ubriaco quando ha scritto quella lettera ma questo non diminuisce il valore della lettera da ubriaco ha scritto quello che da sobrio aveva pensato se non l'avesse pensato da sobrio non avrebbe neanche scritto da ubriaco mi potranno chiedere allora perché si è messo a strombazzare i quattroventi le sue intenzioni in giro per le trattorie chi si prepara a un tale misfatto intenzionalmente tace e se lo tiene per sé è vero ma quando strombazzava ai quattroventi egli non aveva ancora premeditato nulla né formulato piani in luce era soltanto il desiderio e stava maturando l'impulso in seguito ne parlò molto meno la sera in cui scrisse quella lettera contrariamente al solito egli era molto taciturno non giocò a biliardo se ne stette seduto da una parte non parlava con nessuno cacciò solo via dal suo posto un commesso di bottega uno di qui ma lo fece quasi inconsciamente per una sorta di abitudine allerisse delle quali quando entrava in una trattoria non riusciva a fare a meno vero è che dopo aver preso la decisione fatale l'imputato dovette avvertire una certa apprensione per aver fatto in passato troppo clamore in città perché questo avrebbe potuto portarlo ad essere indiziato e incolpato quando poi avrebbe eseguito il suo piano ma che fare le parole erano state pronunciate ormai non si potevano rimangiare ma la fortuna che lo aveva accompagnato fino a quel momento poteva accompagnarlo anche in futuro facevamo affidamento sulla nostra buona stella signori comunque devo ammettere che egli fece molto per evitare quel passo fatale se la mise tutta per evitare il sanguinoso epilogo domani 3000 rubli chiederò a tutti egli scrive con il suo particolare linguaggio e se quelli non me li daranno allora del sangue sarà versato ancora una volta egli aveva scritto in stato di ubriachezza e ancora una volta aveva poi eseguito per filo e per segno quello che aveva scritto a questo punto Ippolit Kirillovic passò alla descrizione di tutti i tentativi di Mitia di procurarsi il denaro al fine di evitare il delitto egli descrisse la sua visita a Samsonov il viaggio per trovare gli agavi il tutto comprovato da documenti vessato deriso affamato dopo aver venduto l'orologio per fare quel viaggio pur avendo indosso 1500 rubli una storia davvero incredibile tormentato dalla gelosia per aver abbandonato in città il bene amato con il sospetto che ella in sua assenza corresse da Fiodor Paolovic e gli fa ritorno finalmente in città Dio si è ringraziato ella non si trova da Fiodor Paolovic egli stesso la compagna dal protettore di lei da Samsonov strano ma di Samsonov non siamo gelosi e questo è un tratto psicologico molto particolare in questo caso poi corre al suo posto di guardia sul retro la apprende che Smerdyakov è vittima di un attacco di epilessia che l'altro servo è malato che dunque la via è libera e poi i segnali sono in mano sua che tentazione ciò nonostante egli ancora oppone una certa resistenza se reca da una persona che risiede temporaneamente qui in città e che gode della massima stima di noi tutti la signora Soklakova la signora che da tempo seguiva con simpatia il destino di lui gli dà il più assennato dei consigli abbandonare quella vita dissipata quell'amore indecente quel bighellonare per le trattorie quello sterile spreco delle sue giovani energie percarsi in Siberia alle miniere d'oro quello vi darà modo di sfogare le vostre turbolente energie il vostro carattere romantico avido di avventure dopo aver descritto l'epilogo della conversazione con la Cioclakova e poi il momento in cui l'imputato aveva appreso all'improvviso la notizia che Grushenka non era per niente stata da Sansonov e la subitanea frenesia di quell'infelice uomo consumato dalla gelosia e dell'esaurimento nervoso al pensiero che quella lo avesse ingannato e in quel momento si trovasse da lui da Fiodor Paolovic Ippolit Kirillovic concluse puntando l'attenzione sull'influenza fatale del caso se la serva avesse fatto in tempo a dire che la sua innamorata si trovava a Mokroe con il suo amore di prima quello indiscutibile non sarebbe accaduto nulla ma quella perse la testa per il terrore iniziò a giurare e spergiurare e se quello non la mazzò lì per lì su due piedi fu solo perché aveva fretta di correre dall'amante traditrice ma notate questo particolare sebbene fosse fuori di sé egli tuttavia prese con sé il pestello di ottone perché proprio il pestello e non un'altra arma beh considerato che da un mese intero egli stava contemplando quel quadro e si stava preparando ad esso qualunque cosa che avesse le sembianze di un'arma gli fosse capitata sotto mano egli l'avrebbe presa appunto come arma egli aveva avuto agio per un mese intero di valutare che qualunque oggetto di quel genere avrebbe potuto servirgli da arma ecco perché egli riconobbe all'istante senza esitazioni in quel pestello l'arma che faceva per lui e quindi fu tutt'altro che inconsapevole tutt'altro che involontario il suo gesto di afferrare quel fatale pestello eccolo più tardi nel giardino della casa paterna via libera nessun testimone notte fonda tenebre e gelosia il sospetto che ella sia lì con lui con il suo rivale fra le sue braccia e possa ridere di lui in quel momento gli toglie il respiro e non soltanto il sospetto non si tratta più di sospetti l'inganno è palese manifesto e lei lì ecco in quella stanza dalla quale proviene la luce e lì in camera di lui dietro il parvento a questo punto vorrebbero farci credere che il disgraziato si sia avvicinato quattroquattro alla finestra abbia rispettosamente sbirciato dentro si sia saggiamente calmato e prudentemente allontanato vai a vedere perché per la paura che potesse accadere una disgrazia qualche cosa di pericoloso ed immorale di questo vorrebbero convincere noi che conosciamo il carattere dell'imputato comprendiamo in quali condizioni di spirito si trovasse e comprendiamo alla luce dei fatti e soprattutto sappiamo che egli era a conoscenza dei segnali che gli avrebbero consentito di entrare in casa senza difficoltà qui a proposito dei segnali Ippolit Kirillovich accantonò per un attimo le sue argomentazioni e ritenne necessario dilungarsi su Smerdyakov al fine di demolire radicalmente i sospetti avanzati da più parti che questi fosse implicato nell'omicidio e farla finita una volta per tutte con questa teoria egli procedette molto circostanziatamente nel suo intento e tutti compresero che per quanto professasse di disprezzare questa ipotesi egli tuttavia attribuiva ad essa grande importanza Dissertazione su Smerdyakov tanto per cominciare qual è stata la fonte di un simile sospetto Ippolit Kirillovich esordì con questa domanda il primo a dichiarare a gran voce che fosse stato Smerdyakov a commettere l'omicidio fu l'imputato stesso al momento dell'arresto eppure a tutt'oggi sin dal giorno dell'accusa egli non ha prodotto una prova a sostegno di essa e non solo una prova ma neanche un qualcosa che potesse essere ragionevolmente considerato un accenno di prova più tardi sono stati solo in tre a ribadire questa accusa i due fratelli dell'imputato e la signorina Svetlova ma il fratello maggiore dell'imputato ma il fratello maggiore dell'imputato ha reso noto il suo sospetto soltanto oggi da malato in uno stato di indiscutibile alterazione mentale in preda alla febbre cerebrale mentre in passato nel corso di questi due mesi come sappiamo per certo ha condiviso in pieno la convinzione della colpevolezza di suo fratello e non ha nemmeno cercato di opporsi a questa idea ma di questo ci occuperemo in particolare in seguito poi il fratello minore dell'imputato ci ha dichiarato poco fa di non avere la minima prova a sostegno della propria convinzione sulla colpevolezza di Smerdiakov ma di giungere a questa conclusione solo in base alle parole dell'imputato stesso e all'espressione del suo viso e questa colossale testimonianza è stata resa ben due volte oggi da suo fratello la signorina Svetlova invece si è espressa in termini ancora più colossali credete a quello che vi dice l'imputato egli non è uomo capace di mentire ecco in che cosa consistono le schiaccianti testimonianze contro Smerdiakov rese da queste tre persone sin troppo interessate al destino dell'imputato e tuttavia la teoria della colpa di Smerdiakov è stata diffusa è stata sostenuta e a tutt'oggi viene ancora sostenuta ma è mai possibile credere a questo o anche solo immaginare una cosa del genere a questo punto Ippolit Kirillovich ritenne necessario descrivere brevemente il carattere del defunto Smerdiakov che aveva posto fine alla propria vita in un attacco di morboso delirio e follia egli lo dipinse come un uomo mentalmente fragile con un embrione di vaga istruzione turbato da idee filosofiche che superavano le capacità del suo intelletto e atterrito da alcune idee moderne sul dovere e sugli obblighi inculcategli ampiamente nella pratica dalla vita sfrenata del suo defunto padrone e forse anche padre e nella teoria da alcune strane conversazioni filosofiche con il figlio maggiore del padrone Ivan Fyodorovich che indulgeva volentieri in questo passatempo probabilmente per noia o per il desiderio di divertirsi un po' in mancanza di meglio egli stesso mi ha descritto quale fosse il suo stato d'animo negli ultimi giorni in cui visse in casa del padrone spiegò Ippolit Kirillovich ma esistono anche altre testimonianze in proposito quella dell'imputato stesso del fratello e persino del servo Grigori cioè di persone che dovevano conoscerlo molto da vicino inoltre afflitto dall'epilessia Smerdyakov era codardo come una gallina e gli si è inginocchiato e mi ha baciato i piedi si ha dichiarato l'imputato in persona quando ancora non si rendeva conto del danno che gli arrecava una tale dichiarazione è una gallina malata di mal caduco così l'ha definito con il suo caratteristico modo di esprimersi e l'imputato scelse proprio lui come fiduciario e lo terrorizzò tal punto che quello ha consentito a fargli da spia e delatore in questa mansione di emissario domestico egli tradisce il suo padrone e rivela all'imputato l'esistenza del plico con i soldi e i segnali grazie ai quali si può accedere nelle stanze del padrone e del resto come avrebbe potuto evitare di farlo mi avrebbe ucciso lo vedevo chiaramente che mi avrebbe ucciso ha dichiarato durante l'istruttoria preliminare tutto tremante persino dinnanzi a noi nonostante il suo aguzzino allora si trovasse già agli arresti e non potesse più punirlo non faceva che sospettare di me vostra signoria ed io terrorizzato e tremante mi affrettavo a riferirgli ogni segreto pur di placare la sua ira affinché si rendesse conto che non avevo colpa e mi lasciasse vivere vostra signoria ecco sono proprio parole sue me le sono scritte e le ho mandate a memoria quando quello si metteva a urlare contro di me io cadevo in ginocchio davanti a lui egli era molto onesto per sua natura e si era conquistato la fiducia del padrone che aveva avuto una prova tangibile della sua onestà quando il servitore gli aveva restituito i soldi smarriti quindi c'è da supporre che il povero Smerdiakov soffrisse terribilmente per il rimorso di aver tradito il proprio padrone che amava come un benefattore le persone che soffrono di gravi forme di epilessia così ci insegnano i migliori psichiatri sono sempre inclini a continue e naturalmente morbose crisi di senso di colpa essi si tormentano per la propria colpevolezza riguardo a qualcosa e a qualcuno si tormentano senza alcun fondamento esagerano e si inventano persino ogni tipo di colpe e delitti ed ecco che un soggetto del genere si rende effettivamente colpevole di una malefatta per paura e in seguita di intimidazioni per di più ha un forte presentimento che dalle circostanze che si stanno sviluppando davanti ai suoi occhi potrà risultare qualcosa di brutto quando il figlio maggiore di Fyodor Paulovic Ivan Fyodorovic stava partendo per Mosca alla vigilia della catastrofe Smerdiakov lo supplicò di restare senza aver tuttavia l'ardire per la sua pavidità abituale di rivelargli tutti i suoi timori in maniera chiara e categorica egli si limitò alle allusioni ma quelle allusioni non furono colte bisogna dire che in Ivan Fyodorovic egli scorgeva il proprio difensore una sorta di garanzia che fin quando ci fosse stato lui non sarebbe accaduta alcuna disgrazia ricordate la frase della lettera da ubriaco di Dmitri Karamazov ucciderò il vecchio purché Ivan sia andato via dunque la presenza di Ivan Fyodorovic sembrava a tutti una garanzia di quiete e ordine in quella casa ed ecco che quello parte e Smerdiakov immediatamente circa un'ora dopo la partenza del giovane padrone ha un attacco epilettico ma questo è del tutto comprensibile qui occorre ricordare che afflitto dai suoi timori e dalla sua particolare disperazione Smerdiakov in quegli ultimi giorni avvertiva dentro di sé l'approssimarsi di una crisi epilettica come gli era accaduto anche in passato in momenti di tensione e sconvolgimento morale certo è impossibile indovinare il giorno e l'ora di quegli attacchi ma qualunque epilettico può avvertire in anticipo la predisposizione ad un attacco così dice la medicina ed ecco che Ivan Fyodorovic è appena uscito dal cortile della casa quando Smerdiakov sotto l'influsso della sua diciamo così condizione di orfano privato di protezione va in cantina per sbrigare alcune faccende domestiche scende dalla scala e pensa mi ferrà o no un attacco e se mi venisse adesso ed ecco che proprio a causa di una tale condizione di spirito di una tale titubanza e di taluni interrogativi viene colto dallo spasmo alla gola che sempre precede una crisi epilettica e precipita a capofitto privo di sensi sul pavimento della cantina ed ecco che in questa coincidenza del tutto naturale si si ingegna di scorgere un che di sospetto una sorta di indicazione una sorta di cenno al fatto che egli abbia finto di proposito di essere malato ma se lo ha fatto di proposito allora sorge subito la domanda a che scopo in base a quale calcolo con quale fine adesso non parlo più di medicina la scienza dicono mente la scienza sbaglia i dottori non sono stati in grado di distinguere la verità dalla menzogna ammettiamo pure che sia così ma allora rispondete a questa domanda a che scopo egli simulava forse allo scopo una volta concepito l'omicidio di attirare su di sé in anticipo e nella maniera più rapida l'attenzione della casa per mezzo di quell'attacco vedete signori giulati la notte del delitto in casa di Fiodor Paolovic si trovavano fra abitanti e di passaggio in tutto cinque persone il primo era lo stesso Fiodor Paolovic ma non è stato certo lui ad uccidersi questo è chiaro secondo il suo servo Grigori ma a momenti non ammazzavano pure lui terza la moglie di Grigori la serva Marfa Ignatevna ma sarebbe semplicemente vergognoso immaginare che sia stata lei ad uccidere il suo padrone dunque rimangono due persone l'imputato Smerdyakov ma dal momento che l'imputato assicura di non essere stato lui ad uccidere allora deve essere stato Smerdyakov non c'è altra alternativa che questa non si riesce a trovare nessun altro assassino ecco dunque da dove è nata la scaltra e colossale accusa contro il disgraziato idiota che ieri si è suicidato dal solo e unico fatto che non c'era nessun altro da accusare se ci fosse stata un'ombra il minimo sospetto su qualcun altro su qualche sesta persona allora sono convinto che persino l'imputato si sarebbe vergognato di accusare Smerdyakov e avrebbe accusato questa sesta persona dal momento che accusare Smerdyakov di questo omicidio è un'assurdità bella e buona signori accantoniamo la psicologia accantoniamo la medicina accantoniamo la logica stessa atteniamoci unicamente ai fatti ai fatti nudi e crudi e guardiamo che cosa ci dicono i fatti Smerdyakov ha ucciso ma come solo o con la complicità dell'imputato esaminiamo il primo caso quello in cui Smerdyakov abbia ucciso da solo ovviamente se ha ucciso deve averlo fatto per un qualche scopo per questo o per quell'altro torna conto ma dal momento che non aveva neppure l'ombra dei motivi che invece aveva all'imputato cioè l'odio la gelosia e via dicendo Smerdyakov senza dubbio poteva uccidere unicamente per i soldi per impossessarsi proprio di quei 3.000 rubli che aveva visto con i propri occhi mentre il padrone li infilava nel plico ed ecco che concepito il delitto egli comunica in anticipo a un'altra persona per di più a una persona interessata in massimo grado all'imputato stesso tutti i particolari riguardanti il denaro e i segnali dove si trovava il plico che cosa c'era scritto esattamente con che cosa era avvolto e soprattutto soprattutto gli riferisce quei segnali con i quali si può accedere alle stanze del padrone perché lo fa per tradirsi con le sue mani oppure per trovarsi un rivale che guarda caso è proprio il primo a voler entrare a prendersi il plico mi diranno che egli riferì ogni cosa per paura ma allora come me lo spiegate un uomo che è in grado di concepire e poi eseguire un piano così spietato e bestiale si metterebbe a divulgare informazioni di una tale importanza che conosce lui solo in tutto il mondo e che se solo avesse tenuto nascoste nessuno al mondo avrebbe mai immaginato no per quanto codardo potesse essere se avesse davvero concepito un piano del genere per nulla al mondo avrebbe parlato con qualcuno per lo meno riguardo a quel plico e ai segnali perché questo equivaleva a tradirsi avrebbe inventato qualcosa di proposito avrebbe mentito se avessero preteso informazioni da lui ma su questo avrebbe tenuto la bocca chiusa al contrario lo ripeto se solo avesse taciuto a proposito di quei soldi e poi avesse ucciso e se ne fosse impossessato nessuno al mondo avrebbe potuto accusarlo se non altro di omicidio a scopo di rapina già che nessuno eccetto lui aveva visto quei soldi e nessuno eccetto lui era a conoscenza che si trovassero in casa eppure se lo avessero accusato allora sarebbero senz'altro giunti alla conclusione che egli avesse ammazzato per qualche altro motivo ma dal momento che è in passato nessuno ha notato in lui alcun motivo che potesse spingerlo a tanto al contrario tutti hanno visto che egli era amato dal padrone onorato della sua fiducia egli certamente sarebbe stato l'ultimo ad essere sospettato mentre avrebbero sospettato prima di tutto colui che quei motivi li aveva chi aveva gridato ai quattroventi di averli colui che non aveva mai fatto mistero ma piuttosto li aveva sbandierati insomma avrebbero sospettato del figlio della vittima di Dimitri Fiodorovic se Smerdiakov avesse ucciso e derubato e invece avessero incolpato il figlio allora lo Smerdiakov assassino ne avrebbe tratto vantaggio non è vero eppure dopo aver concepito il delitto è andato a raccontare proprio al figlio proprio a Dimitri Fiodorovic del denaro del plico dei segnali è logico tutto questo è ammissibile arriva il giorno dell'omicidio progettato da Smerdiakov ed ecco che quello precipita giù per le scale in un attacco simulato di epilessia a che scopo? in primo luogo certo perché il servitore Grigori che aveva intenzione di prendere la sua medicina vedendo che non rimaneva assolutamente nessuno a sorvegliare la casa presumibilmente rimandasse l'assunzione della medicina stessa e si mettesse di guardia in secondo luogo sicuramente affinché il padrone vedendo che non c'era nessuna di guardia con la paura che aveva che arrivasse suo figlio della qualcosa non faceva mistero potesse raddoppiare la vigilanza e la cautela infine e soprattutto affinché egli stesso Smerdyakov prostrato dall'attacco fosse immediatamente trasportato dalla cucina dove dormiva sempre separato dagli altri e dove aveva possibilità di entrare e uscire liberamente all'altro capo della dipendenza nella camera di Grigori dietro il tramezzo che lo separava dai due servitori a tre passi dal loro letto come si faceva sempre da tempi immemorabili non appena gli veniva un attacco secondo le disposizioni del padrone e della caritatevole Marfa Ignatebna ricoricato dietro il tramezzo egli molto probabilmente per meglio simulare la malattia avrebbe naturalmente cominciato a gemere quindi a tenerli svegli la notte intera come in effetti era avvenuto secondo la testimonianza di Grigori e di sua moglie e tutto questo tutto questo allo scopo di potersi alzare più comodamente e andare ad uccidere il padrone ma mi potranno dire che egli ha simulato proprio per stornare i sospetti da sé in quanto malato e ha informato l'imputato del denaro e dei segnali proprio perché quello ne fosse allettato e si recasse sul posto uccidesse e dopo aver ucciso capite se la filasse con i soldi e nel fuggire via facesse un sacco di rumori e trambusto le svegliasse testimoni in maniera tale che lui Smerdiagov immaginate un po' si potesse alzare per andare ma ma per andare a fare che? a uccidere una seconda volta il padrone per sottrargli una seconda volta il denaro già sottrattogli signori voi ridete anch'io mi vergogno ad avanzare simili supposizioni eppure figuratevi che l'imputato afferma proprio questo dice dopo di me cioè dopo che ho lasciato la casa ho abbattuto Grigori e ho sollevato un gran trambusto lui si è alzato ed è andato ad uccidere e derubare il padrone e non voglio nemmeno parlare di come fosse possibile che Smerdiagov calcolasse tutto questo in anticipo e sapesse tutto per filo e per segno e cioè che il figlio furioso ed esasperato sarebbe venuto soltanto allo scopo di dare una rispettosa occhiatina dalla finestra e pur considerando i segnali battesse la ritirata lasciando a lui a Smerdiagov tutto il bottino signori vi pongo questa domanda in tutta serietà in quale momento Smerdiagov avrebbe potuto commettere il suo delitto indicatemi il momento esatto altrimenti senza di esso è impossibile fondare l'accusa oppure forse l'epilessia era vera il malato si riprese all'improvviso udile grida e uscì e poi si guardò intorno e si disse perché non andare ad ammazzare il padrone e come faceva a sapere che cosa stava accadendo visto che fino a quel momento era stato a letto priva di conoscenza e poi signori miei c'è un limite anche ai voli di fantasia proprio così diranno i più furbi ma se i due fossero stati d'accordo si avessero ucciso di comune accordo per poi dividersi i soldini che ne dite allora sì è un sospetto che ha una certa consistenza e in primo luogo esistono indizi colossali che lo confermano immediatamente uno uccide e si prende tutto il fastidio mentre il complice se ne sta sdraiato su un fianco e simula un attacco di epilessia proprio allo scopo di suscitare anzitempo in tutti il sospetto di allarmare il padrone e di allarmare Grigori sarebbe curioso conoscere i motivi che hanno spinto i due complici a congegnare un piano così folle o forse la complicità da parte di Smerdiakov era tutt'altro che attiva ma si trattava per così dire di passiva acquiescenza forse Smerdiakov terrorizzato aveva consentito solo a non opporre resistenza all'omicidio e prevedendo che lo avrebbero incolpato di avere lasciato uccidere il padrone senza dare l'allarme ne opporsi egli potrebbe aver ottenuto da Dmitri Karamazov il permesso di giacere a letto simulando un attacco di epilessia come a dire mentre tu lo uccidi come ti pare e piace io me ne lavo le mani ma anche se fosse stato così ancora una volta quell'attacco di epilessia avrebbe messo in subbuglio la casa e prevedendo questo Dmitri Karamazov non avrebbe mai consentito a un tale accordo comunque ammettiamo pure che abbia consentito ma così risulterebbe ancora una volta che Dmitri Karamazov è l'assassino l'esecutore materiale e l'istigatore mentre Smerdiakov solo un complice passivo anzi nemmeno un complice ma solo un connivente costretto dalla paura e contro la sua volontà la corte sarebbe senz'altro giunta a questa conclusione e invece noi a cosa assistiamo? non appena viene arrestato l'imputato in un attimo scarica tutta la colpa solo su Smerdiakov accusando lui solo non lo accusa di essere stato suo complice ma di aver fatto tutto a lui dice che aveva fatto tutto da solo aveva ucciso e derubato era tutta opera sua strano tipo di complici quelli che cominciano ad accusarsi a vicenda dal primo momento questo non capita mai e pensate al rischio che corre Karamazov egli è l'assassino principale quell'altro non è l'assassino principale quello è solo il connivente che se ne stava straiato dietro il tramezzo ed ecco che lui scarica tutta la colpa sull'invalido ma questi l'invalido poteva prendersela male e mosso unicamente dall'istinto di conservazione poteva confessare in 4 e 4 8 la sacrosanta verità abbiamo partecipato tutti e due avrebbe detto solo che io non ho ucciso o solamente ha consentito e lasciato che uccidesse per paura infatti lui Smerdiakov era in grado di comprendere che la corte avrebbe subito individuato il suo grado di colpevolezza e dunque poteva contare sul fatto che se avessero punito anche lui la sua punizione sarebbe stata incomparabilmente inferiore a quella dell'omicida principale il quale invece aveva tentato di gettare tutta la colpa su di lui ma in questo caso anche se controvoglia avrebbe confessato eppure questo non è accaduto Smerdiakov non ha nemmeno accennato a una loro complicità ma il grado l'assassino lo accusasse pesantemente non facesse che indicare lui come l'unico omicida e non basta durante l'istruttoria preliminare Smerdiakov ha dichiarato spontaneamente di essere stato lui stesso a rivelare i segnali all'imputato e che senza le sue informazioni quello non avrebbe saputo nulla se egli fosse stato davvero complice e colpevole avrebbe rivelato una tale notizia con tanta leggerezza agli inquirenti avrebbe detto di essere stato lui a passare tutte le informazioni all'imputato al contrario avrebbe cercato di negare di distorcere i fatti e di minimizzarli eppure lui non li ha distorti né minimizzati in questo modo si comportano solo gli innocenti che non hanno paura di essere accusati di complicità ed ecco che in un attacco di melancolia causato dalla sua malattia e dallo scoppio di tutta questa catastrofe ieri si è impiccato prima di impiccarsi ha lasciato un biglietto scritto con il suo peculiare modo di esprimersi distruggo la mia vita per mio desiderio e volontà per non accusare nessuno che cosa gli costava aggiungere l'assassino sono io non Karamazov ma lui non l'ha aggiunto la coscienza gli è bastata per una cosa e non per l'altra e ancora poco fa in quest'aula è stato portato il denaro quei 3000 rubli gli stessi che si trovavano in quel plico lì sul tavolo delle prove materiali li ho ricevuti ieri da Smerdiakov è stato detto ma voi signori giurati ricordate da soli il triste spettacolo di poco fa non starò qui a rievocare i particolari ma mi permetterò di fare due o tre commenti scegliendoli scegliendoli tra i meno evidenti proprio perché sono meno evidenti e quindi non verranno in mente a tutti e saranno dimenticati in primo luogo e ancora una volta diremo che Smerdiakovieri ha restituito i soldi e si è impiccato in preda ai rimorsi di coscienza infatti se non avesse avuto rimorsi di coscienza egli non avrebbe restituito i soldi e ovviamente soltanto ieri sera per la prima volta ha confessato il suo crimine a Ivan Karamazov come ha dichiarato Ivan Karamazov in persona altrimenti per quale motivo questi avrebbe taciuto fino ad ora e così ha confessato ma perché mai mi domando un'altra volta non ha dichiarato la verità a tutti noi nel bigliettino scritto in punto di morte sapendo che l'indomani l'imputato innocente avrebbe dovuto affrontare questo terribile processo quel denaro non è una prova sufficiente a me per esempio e a un paio di altre persone presenti in questa sala è capitato del tutto casualmente di venire a sapere solo una settimana fa di un certo fatto e cioè che Ivan Fyodorovich Karamazov ha mandato a cambiare nella capitale del distretto due titoli al 5% di 5.000 rubli ciascuno per la somma totale di 10.000 rubli voglio soltanto dire che chiunque può trovarsi in possesso di denaro a una certa scadenza e che portando 3.000 rubli in aula non è in alcun modo possibile dimostrare che si tratti degli stessi soldi che provengono da quello stesso cassetto o plico infine Ivan Karamazov dopo aver ricevuto ieri una notizia di tale importanza dal vero assassino è rimasto tranquillo per conto suo perché non l'ha riferita subito perché ha rimandato tutto a stamane credo di avere il diritto di fare delle congetture sui possibili motivi è già una settimana che la sua salute è sconvolta ha ammesso gli stesso al dottore e alle persone che gli sono più vicine che soffre di allucinazioni che incontra persone già morte alla vigilia dell'attacco di febbre cerebrale che lo ha colto proprio oggi egli dopo aver appreso all'improvviso della fine di Smerdiakov avrà fatto su due piedi questa considerazione quello è morto si può dire su di lui quello che si vuole così salverò mio fratello il denaro ce l'ho ne prendo un mazzetto e vado a dire che Smerdiakov me li ha dati in punto di morte voi direte che non è onesto ma è forse disonesto mentire sia pure su un morto se così facendo si salva un fratello ma che ne direste se avesse mentito inconsciamente se egli stesso avesse immaginato che fosse andata così sconvolto definitivamente dalla notizia della morte improvvisa della che avete visto la scena di poc'anzi avete visto in quali condizioni si trovasse quell'uomo egli era là in piedi e parlava ma dov'era il suo cervello dopo la sua febbricitante testimonianza è venuto fuori quel documento la lettera dell'imputato indirizzata alla signora Ferciovceva scritta a due giorni dal delitto e contenente il piano dettagliato dell'omicidio allora a che pro cercare altri piani e altri autori è andata esattamente secondo quel programma e l'esecutore non è stato altri che l'autore stesso di quel piano si signori giurati è andato tutto secondo quanto era scritto oh no non siamo fuggiti via rispettosi e impauriti dalla finestrella di nostro padre sebbene fossimo fermamente convinti che presso di lui si trovasse la nostra innamorata no questo sarebbe assurdo e inverosimile egli entrò e portò a termine la missione con ogni probabilità egli uccise in uno stato d'ira bruciando di risentimento subito dopo aver dato un'occhiata al suo odiato rivale ma dopo averlo ucciso il che presumibilmente gli riuscì di botto con un solo colpo della mano armata dal pestello di ottone ed essersi accertato dopo un'accurata perquisizione che ella non fosse lì egli non mancò di infilare la mano sotto il cuscino e di prendere la busta con i soldi che ora lacerata giace sul tavolo insieme alle altre prove materiali dico questo affinché voi ricordiate una circostanza a mio parere oltremodo caratteristica se egli fosse stato un assassino professionista e avesse commesso il crimine a solo scopo di rapina credete che avrebbe lasciato la busta sul pavimento così come è stata ritrovata accanto al cadavere ecco per esempio se fosse stato smerdiaco fa uccidere a scopo di rapina egli si sarebbe semplicemente portato via il plico senza indugiare di sigillarlo presso il cadavere della sua vittima dal momento che egli sapeva per certo che nel plico c'era il denaro il padrone lo aveva infilato e sigillato davanti a lui e se avesse portato via il plico così com'era certo non si sarebbe mai saputo che quel furto fosse stato commesso io vi domando signori giurati smerdiaco avrebbe agito in questo modo avrebbe lasciato la busta sul pavimento no così avrebbe potuto agire solo un assassino furioso che non era più in grado di ragionare a dovere un assassino che non è un ladro e che non ha mai rubato in vita sua fino a quel momento e che pure adesso ha strappato da sotto il letto quei soldi agendo non come un ladro ma come uno che si stia riprendendo il suo denaro da colui che glielo ha rubato queste infatti erano le idee di Dimitri Karamazov su quei 3000 rubli che erano diventati una mania per lui ed ecco che afferrato quel plico che non aveva mai visto in vita sua egli ne lacera l'involucro per accertarsi che ci siano i soldi poi scappa con i soldi in tasca senza pensare che stava lasciando sul pavimento la prova più colossale della propria colpevolezza sotto forma di una busta lacerata e tutto questo perché era Karamazov non Sverdiakov ecco perché non ci aveva pensato non aveva immaginato ed il resto come avrebbe potuto egli fugge sente le grida del servo che lo rincorre il servo lo afferra lo blocca e cade colpito dal pestello di ottone l'imputato salta giù verso di lui mosso da compassione pensate egli di punto in bianco ci viene a dire che allora saltò per pietà per compassione per vedere se poteva essergli d'aiuto ma era forse il momento adatto per dare prova di una simile compassione certo che no egli salto giù proprio per accertarsi se fosse vivo l'unico testimone del suo misfatto qualunque altro sentimento qualunque altro motivo sarebbe stato innaturale notate che egli si dà da fare presso Grigori gli asciuga la testa con il fazzoletto e una volta assicuratosi che è morto come un pazzo e tutto insanguinato arriva di corsa un'altra volta là a casa dell'innamorata come ha fatto a non pensare che era tutto sporco di sangue e che lo avrebbero sicuramente notato ma l'imputato ci assicura che egli non prestò nemmeno attenzione al fatto di essere tutto insanguinato questo è ammissibile e molto probabile avviene sempre agli assassini in casi simili per alcune cose sono diabolicamente calcolatori ad altre invece non arrivano a pensare ma in quel momento egli pensava soltanto a dove fosse lei gli occorreva sapere al più presto dove fosse lei ed ecco che egli giunge di corsa all'appartamento della donna e apprende una notizia sorprendente colossale per lui è partita per Mocroe con il suo amato di prima l'inconfutabile psicologia a tutto vapore la troica galoppante il finale della ringa del procuratore giunto a questo punto della sua ringa Ippolit Kirilovic che evidentemente aveva scelto un metodo d'esposizione rigorosamente storico quello a cui amano molto ricorrere tutti gli oratori nervosi che cercano a bella posta limiti rigorosamente fissati per contenere il loro irruente fervore Ippolit Kirilovic dicevo si dilungò particolarmente sul primo e indiscutibile amante ed espresse alcune idee a loro modo interessanti sull'argomento Karamazov che era geloso di chiunque fino alla follia di colpo sembra accadere e scomparire dinnanzi al primo all'indiscutibile ed è tanto più strano in quanto in passato non aveva prestato la minima attenzione a questo nuovo pericolo che si avvicina a lui in persona del rivale inatteso ma egli immaginava che fosse ancora lontano mentre Karamazov vive sempre e soltanto il momento presente probabilmente lo considerava soltanto una finzione ma il suo cuore ferito intuì all'istante che la donna gli aveva tenuto nascosto quel nuovo rivale e lo aveva ingannato poco prima proprio perché quel sopraggiunto rivale era tutt'altro che una fantasia tutt'altro che una finzione per lei perché egli era l'unica speranza della sua vita egli intuì tutto questo in un attimo e si mise l'animo in pace signori della giuria non posso passare sotto silenzio questo sorprendente tratto del carattere dell'imputato il quale a prima vista sarebbe sembrato totalmente incapace di manifestare simili sentimenti tutt'antratto era sorto in lui un insopprimibile desiderio di giustizia un profondo rispetto per la donna e il riconoscimento dei diritti del suo cuore e quando avvenne tutto questo proprio nel momento in cui a causa di lei egli si era imporporato le mani del sangue del proprio padre è anche vero che il sangue versato in quel momento gridava già vendetta già che egli dopo aver rovinato la propria anima e il proprio destino terreno involontariamente doveva avvertire e domandarsi in quell'istante che cosa significo io e che cosa posso significare adesso per lei per quella creatura che amo più dell'anima mia a confronto con quello il primo con l'indiscutibile che è tornato pentito dalla donna che un giorno ha rovinato con rinnovato amore con profferte oneste con la promessa di una vita rigenerata e felice mentre io disgraziato che cosa potrei darle adesso che cosa potrei offrirle Karamazov aveva compreso tutto questo aveva compreso che il suo delitto gli aveva precluso tutte le strade e che ormai egli era soltanto un criminale condannato alla pena capitale e non un uomo che ha tutta la vita dinnanzi a sé questo pensiero lo aveva schiacciato distrutto e così istantaneamente si sofferma su un piano disperato che ha un carattere come il suo doveva sembrare l'unica e fatale via d'uscita dalla terribile situazione in cui si trovava la via d'uscita è il suicidio egli corre a riprendere le pistole che aveva pignorato presso l'impiegato per Chotin e nel contempo durante il tragitto mentre corre tira fuori dalla tasca tutti i soldi che ha quelli per i quali si è appena macchiato le mani del sangue di suo padre il denaro gli serviva più di ogni altra cosa Karamazov sarebbe morto Karamazov si sarebbe sparato e questo sarebbe stato un gesto per il quale lo avrebbero ricordato non per niente siamo dei poeti non per niente abbiamo bruciato la nostra vita come una candela che si consuma da entrambi i lati dai da lei è lì oh sì lì io darò un festino per tutti uno di quei festini che non hanno mai visto affinché se ne ricordino e ne parlino a lungo tra le urla sfrenate le folli canzoni e le danze zigane noi innalzeremo il calice e berremo alla salute della donna adorata e alla sua rinnovata felicità e poi di stesso ai suoi piedi ci fracasseremo il cranio e ci puniremo un giorno si ricorderà di Mitia Karamazov si accorgerà di quanto Mitia la amata e avrà pietà di lui vediamo qui una buona dose di pittoresco di frenesia romantica di selvaggia sfrenatezza karamazoviana e di sentimentalismo ma c'è anche qualcos'altro signori della giuria qualcosa che grida nell'anima che rimbomba incessantemente nel cervello e avvelena il suo cuore fino alla morte quel qualcosa è la coscienza signori della giuria il giudizio della coscienza i suoi terribili scrupoli ma la pistola sistemerà ogni cosa la pistola è l'unica via d'uscita non ce n'è un'altra e nell'aldilà io non so se Karamazov in quel momento pensasse a quello che ci sarà nell'aldilà non so se Karamazov in quel momento potesse domandarsi come amleto che cosa ci sarà là no signori giurati quelli hanno i loro amleti ma noi per ora abbiamo i nostri Karamazov a questo punto Ippolit Krilovich dipinse un quadro minuziosissimo dei preparativi di Mitia della scena da perciokin nella bottega e con i vetturini egli citò una massa di dichiarazioni commenti gesti tutti confermati da testimoni e il quadro che ne emerse produsse un effetto formidabile sugli ascoltatori fece impressione soprattutto la mole dei fatti riportati la colpevolezza di quell'uomo tormentato fino alla disperazione incapace ormai di cautelarsi emergeva inconfutabile non aveva più motivo di cautelarsi diceva Ippolit Krilovich due o tre volte fu persino sul punto di confessarsi fece delle mezze allusioni mancò solo che parlasse francamente a questo punto seguirono le dichiarazioni dei testimoni persino al vetturino gridò ma lo sai che stai trasportando un assassino eppure gli fu impossibile parlare francamente doveva prima giungere al villaggio di Mocroe e concludere là il suo poema e invece che cosa aspettava là quel disgraziato il fatto è che quasi dai primissimi minuti che trascorse Mocroe egli si accorse e alla fine comprende fino in fondo che il suo indiscutibile rivale forse non è affatto così indiscutibile e che il brindisi alla loro nuova felicità e il suo calice innalzato in loro onore quelli non lo vogliono e non lo avrebbero accettato ma voi signori della giuria siete già al corrente dei fatti emersi dall'istruttoria il trionfo di Karamazov sul rivale era completo e a questo punto a questo punto ebbe inizio una fase completamente nuova nella sua anima addirittura la fase più terribile che quest'anima avesse mai vissuto e dovrà ancora vivere si può asserire con sicurezza signori della giuria esclamò Ippolit Kirillovic che una natura oltreggiata e un cuore criminale si vendicano contro se stessi in maniera molto più completa di qualsiasi tribunale terreno e non solo la giustizia e la punizione terrena alleviano la punizione della natura e sono in realtà essenziali all'anima del criminale in quei momenti come via di salvezza dalla disperazione se anche io non posso immaginare l'orrore e le sofferenze morali di Karamazov quando egli apprese che ella lo amava che per amor suo ella respingeva il suo primo amore l'indiscutibile e che invitava lui lui Mitia ad accompagnarla nella sua vita rinnovata a lui prometteva felicità e in quale momento avveniva tutto questo? proprio quando tutto per lui era ormai finito e quando nulla era più possibile a proposito farò una rapida considerazione estremamente importante per spiegare la vera essenza della situazione in cui allora si trovava l'imputato quella donna il suo amore fino all'ultimissimo istante quasi fino al momento dell'arresto per lui era sempre stata un essere inaccessibile appassionatamente desiderato ma irraggiungibile ma perché? perché egli non si sparò in quel momento stesso? perché accantonò la decisione presa e addirittura dimenticò le sue pistole? fu proprio quella appassionata brama di amore e la speranza di appagarla in quel momento stesso in quel luogo stesso che lo trattennero tra i fiumi del festino egli rimane incatenato alla sua innamorata che festeggia insieme a lui incantevole e seducente più che mai non si allontana da lei nemmeno un passo si perde nell'ammirazione di lei si annulla davanti a lei quella brama appassionata per un istante pote persino soffocare non solo il timore dell'arresto ma gli stessi rimorsi di coscienza per un istante solo per un istante immagino lo stato d'animo del criminale in quel momento assoggettato servilmente disperatamente a tre forze che lo sopraffacevano del tutto in primo luogo l'ubriachezza i fiumi dell'alcol e il trambusto e il rimbombo delle danze gli strepiti delle canzoni e lei lei arrossata dall'alcol che cantava e danzava ubriaca che rideva guardandolo in secondo luogo l'incoraggiante e vago sogno che il fatale epilogo fosse ancora lontano o perlomeno non così vicino che lo venissero a prendere soltanto l'indomani soltanto la mattina dopo dunque una manciata di ore era molto moltissimo in alcune ore si poteva pensare a un mucchio di cose posso immaginare che egli si sentisse un po' come quando il condannato viene condotto alla pena capitale alla forca gli rimane ancora poco da attraversare una strada lunga lunga e per di più a passo d'uomo in mezzo a migliaia di persone poi svolterà in un'altra strada e soltanto alla fine di quella strada c'è la terribile piazza immagino che all'inizio della processione il condannato mentre monta sul carro dell'infamia senta che davanti a sé c'è ancora una vita lunghissima ma ecco che le case passano il carro continua a incedere oh non è nulla manca ancora molto per svoltare nella seconda strada ed ecco che egli guarda ancora fieramente a destra a sinistra quelle migliaia di persone animate da curiosità indifferente che fissano su di lui i loro sguardi e gli sembra ancora di essere esattamente come loro una persona ma ecco che si svolta nell'altra strada oh non è niente non è niente è una strada intera da percorrere e per quanto le case continuino a scorrere via egli continua a pensare rimangono ancora molte altre case e così fino alla fine fino alla piazza stessa ecco immagino che Karamazov provasse la stessa sensazione in quel momento non hanno ancora fatto in tempo in città pensava si può scogitare ancora qualcosa ci sarà ancora tempo per costruire qualche piano di difesa inventare una forma di resistenza ma adesso 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 lei è così incantevole la sua anima traboccava di confusione e terrore ma egli fa in tempo tuttavia a mettere da parte metà dei suoi soldi per nasconderle in qualche posto altrimenti non riesco a spiegarmi che fine abbia fatto quella buona metà dei tremila rubli che egli aveva appena preso da sotto il cuscino del padre era già stato a Mocroi più di una volta gli aveva già fatto Baldoria per due giorni e due notti gli era ben nota quella grande casa di legno con tutti i suoi sgabuzzini e i suoi passaggi io suppongo che una parte del denaro sia stata nascosta proprio allora in quella stessa casa non molto tempo prima dell'arresto in qualche buco in qualche fessura sotto qualche asse in qualche angolo sotto il letto ma a che scopo? come? a che scopo? la catastrofe poteva sopraggiungere da un momento all'altro naturalmente e noi non abbiamo ancora escocitato il modo di affrontarla non ne abbiamo il tempo la testa c'era in bomba e il cuore attirato soltanto verso di lei e i soldi quelli sono utili per ogni avvenienza un uomo con i soldi rimane un uomo in qualsiasi luogo forse una tale avvedutezza in un momento simile vi sembrerà innaturale ma è lui stesso a dichiarare che un mese prima della catastrofe in un momento critico e fatale analogo a quello egli aveva messo da parte la metà dei 3000 rubli e li aveva cuciti dentro il suo amuleto e anche se questo non corrisponde al vero come proveremo subito tuttavia dimostra che il pensiero era familiare a Karamazov che lo aveva preso in considerazione e non basta quando egli assicurava in seguito agli inquirenti di avere messo da parte 1500 rubli nell'amuleto amuleto che non è mai esistito probabilmente quell'amuleto se l'era inventato lì per lì proprio perché solo due ore prima aveva messo da parte la metà dei suoi soldi e l'aveva nascosta da qualche parte a Mocroe per ogni evenienza fino al mattino seguente soltanto per evitare di tenerli addosso spinto dall'ispirazione del momento due abissi signori della Giulia ricordate che un Karamazov può contemplare due abissi ed entrambi nello stesso momento abbiamo perquisito quella casa ma non abbiamo trovato nulla quei soldi potrebbero essere ancora là oppure potrebbero essere scomparsi il giorno dopo e trovarsi adesso in possesso dell'imputato in ogni caso quando lo hanno arrestato egli si trovava accanto a lei in ginocchio davanti a lei e l'era sdraiata sul letto ed egli protendeva le braccia verso di lei in quel momento aveva dimenticato tutto tanto che non udì nemmeno l'approssimarsi di coloro che lo avrebbero arrestato non aveva avuto il tempo per preparare non aveva avuto il tempo di preparare una linea di difesa nella sua mente lui e la sua mente furono colti alla sprovvista ed eccolo davanti ai giudici davanti a coloro che decideranno del suo destino signori della giuria ci sono momenti nell'esecuzione del nostro dovere nei quali ci fa paura affrontare un uomo paura anche per lui sono i momenti in cui si osserva quell'orrore animalesco che invade il reo quando si accorge di essere perduto ma lotta ancora e intende ancora lottare contro di noi sono i momenti in cui di colpo in lui insorgono tutti gli istinti di conservazione ed egli nel tentativo di salvarsi vi guarda con uno sguardo che trafigge implore e soffre egli vi coglie al volo vi studia studia il vostro viso i vostri pensieri aspetta per vedere da che parte lo colpirete e in un istante concepisce la sua mente sconvolta mille piani ma ha pur sempre paura di parlare ha paura di tradirsi questi momenti umilianti per un'anima umana questo pellegrinaggio per le tribolazioni questa brama animalesca di salvezza sono terribili e a volte suscitano tremore e compassione per il criminale persino nei giudici e noi fummo testimoni di tutto questo all'inizio gli era sbigottito e nel terrore del momento gli sfuggirono alcune parole che lo compromisero gravemente sangue me lo sono meritato ma ben presto gli acquistò il controllo di sé che dire che cosa rispondere questo non se l'era ancora preparato era preparato solo un'infondata negazione non sono colpevole della morte di mio padre quello era il nostro muro di difesa per il momento e lì dietro il muro di difesa forse facciamo in tempo a costruire ancora qualche cosa una specie di barricata egli si affrettò a spiegare le sue prime compromettenti esclamazioni prevenendo le nostre domande dichiarando di essere colpevole soltanto della morte del servo Grigori di quel sangue sono colpevole ma chi ha ucciso mio padre signori chi lo ha ucciso chi altri poteva ucciderlo se non io capite egli lo domandava a noi proprio a noi che eravamo andati a domandarlo a lui avete sentito le paroline che gli erano sfuggite se non io ne percepite l'astuzia animalesca l'ingenuità e la smania tutta caramazoviana non ho ucciso io e voi non potete pensare che sia stato io volevo uccidere signori volevo uccidere confessa egli in fretta aveva fretta una fretta tremenda ma non sono colpevole non sono io ad uccidere non sono stato io ad uccidere egli ci concede di ammettere che voleva uccidere come a dire vedete come sono sincero così mi crederete al più presto quando vi dirò che non l'ho ucciso io oh in questi casi il criminale diventa a volte incredibilmente superficiale e credulore a questo punto come per caso uno degli inquirenti gli pose la più semplice delle domande sarà stato Smerdiakov l'assassino e allora successe quello che ci aspettavamo egli si infuriò perché lo avevamo anticipato e colto alla sprovvista quando non aveva ancora fatto in tempo a preparare scegliere e cogliere il momento nel quale sarebbe stato più opportuno tirare fuori il nome di Smerdiakov egli come nella sua natura si lanciò subito all'estremo opposto e cominciò ad assicurare con tutte le sue energie che Smerdiakov non poteva aver ucciso che non sarebbe stato capace di uccidere ma non credetegli è solo uno dei suoi trucchetti egli non abbandona affatto l'idea di Smerdiakov al contrario intende portarlo avanti perché chi altri potrebbe accusare solo che intende farlo in un secondo momento per adesso gli hanno rovinato quella linea di difesa egli tornerà ad avanzare il nome di Smerdiakov soltanto domani forse o anche fra qualche giorno cercando il momento giusto per gridare lui stesso vedete io stesso ho negato che potesse essere Smerdiakov con maggiore forza di voi certamente lo ricordate anche voi ma adesso anch'io mi sono convinto è stato lui ad uccidere deve essere stato lui ma per il momento egli precipita dinanzi a noi in una negazione cupa e irritabile però l'impazienza e l'ira gli suggeriscono la più inetta e inverosimile spiegazione sul modo in cui guardò suo padre dalla finestra per poi allontanarsene rispettosamente il fatto è che egli non era ancora il corrente delle circostanze e della gravità della testimonianza resa da Grigori il quale nel frattempo aveva ripreso conoscenza procediamo alla perquisizione personale la perquisizione lo fa andare su tutte le furie ma allo stesso tempo lo incoraggia non si riesce a trovare l'intera somma ma solo 1500 rubli e senza dubbio solo in quel momento di silenzio incollerito in cui gli nega tutto gli salta in mente per la prima volta in vita sua l'idea dell'amuleto senza dubbio lui stesso è consapevole della inverosimiglianza della trovata e si tormenta si tormenta da morire per renderla più credibile e si arrovella perché venga fuori un romanzo verosimile in questi casi la prima cosa da fare il primo compito che l'inquirente deve assolvere è quello di non dare il tempo di prepararsi di attaccare inaspettatamente affinché il criminale esprima le proprie idee e segrete in tutta la loro palese semplicità in verosimiglianza e contradditorietà si può costringere il criminale a parlare soltanto con un'improvvisa e apparentemente casuale comunicazione di qualche fatto nuovo di qualche circostanza del caso che sia di importanza colossale ma tale che fino a quel momento egli non ne abbia idea ne possa in alcun modo averla prevista noi avevamo a disposizione un fatto del genere e già da un pezzo era la testimonianza del servo Grigori che aveva ripreso conoscenza sulla porta aperta dalla quale era fuggito l'imputato egli si era completamente dimenticato di quella porta e non immaginava nemmeno che Grigori potesse averla vista ottenemmo un effetto colossale e gli balzò in piedi e ci gridò è stato Smerdiakov a uccidere Smerdiakov e così tradì il suo pensiero segreto fondamentale nella sua forma meno verosimile già che Smerdiakov avrebbe potuto uccidere soltanto dopo che lui aveva colpito Grigori ed era fuggito quando invece gli abbiamo comunicato che Grigori aveva visto la porta aperta prima di cadere sotto i suoi colpi e che mentre usciva dalla sua camera da letto aveva sentito i gemiti di Smerdiakov dietro il tramezzo che Ramazzo rimase davvero tramortito il mio collega il nostro stimato e perspicace collega Nicolai Parfenovic mi confidò in seguito che in quel momento egli provò una tale compassione per lui da avere le lacrime agli occhi ed ecco che in quel momento stesso per aggiustare le cose egli si affrettò a raccontarci la storia di quel famigerato amuleto come a dire sia pure così sentite quello che vi racconto adesso signori della Giulia vi ho già esposto le mie idee e i motivi per cui considero la trovata del denaro cucito nell'amuleto un mese addietro non soltanto un'assurdità ma l'invenzione più inverosimile che si potesse scogitare in simili circostanze seppure per scommessa si tentasse di raccontare e avanzare una storia più inverosimile anche in quel caso non se ne troverebbe una peggiore di quella ma in questo caso è possibile mettere alle corde e ridurre in frantumi il romanziere triunfante per mezzo dei particolari quei particolari dei quali la realtà è sempre così ricca e che puntualmente questi disgraziati e improvvisati autori trascurano quali banalità inutili e prive di senso che non si degliano neppure di prendere in considerazione in quei momenti non hanno tempo per i particolari la loro mente si concentra unicamente sulla grande invenzione nella sua totalità e si ridono se si sottopongono loro tali piccolezze invece è proprio sui particolari che li si coglie in fallo all'imputato viene posta la domanda e dove vi siete procurato il materiale per il vostro amuleto chi ve lo ha cucito me lo sono cucito da me e dove di grazia avete preso la stoffa l'imputato già comincia ad offendersi la considera una banalità offensiva per lui e il suo sentimento è sincero sincero ma sono tutti uguali l'ho strappata dalla mia camicia benissimo signore dunque fra la vostra biancheria domani stesso potremo trovare la camicia con la parte lacerata e pensate signori della giuria che se solo avessimo trovato quella camicia lacerata e come avremmo potuto non trovarla nella sua cassettiera o nel baule se solo fosse esistita davvero quella sarebbe stata una prova una prova materiale che avrebbe dimostrato che stava dicendo la verità ma egli era incapace di una simile riflessione non ricordo forse non l'ho strappato dalla camicia ma l'ho cucito in una cuffietta della mia padrona di casa in una cuffietta di che tipo? l'ho presa da lei l'aveva buttata da qualche parte un vecchio straccio di percal e questo ve lo ricordate con sicurezza? no, non ricordo con sicurezza e perde la pazienza perde la pazienza eppure figurarsi come faceva a non ricordarsene? nei momenti più critici della vita di un uomo per esempio quando lo conducono al patibolo si ricordano proprio questi dettagli il condannato dimentica tutto tranne un certo tetto verde che gli ha balenato davanti agli occhi durante il percorso o una cornacchia grigia su una croce ecco quello che rimane in mente egli cucendo il suo amuleto di nascosto dai padroni di casa doveva pur ricordare l'umiliante paura che qualcuno entrasse o lo cogliesse con l'ago in mano doveva pur ricordare come al minimo rumore balzasse in piedi e si nascondesse dietro al tramezzo nel suo appartamento c'è un tramezzo ma signori giurati a che scopo vi dico tutto questo? mi perdo in questi dettagli in queste piccolezze esclamò ad un tratto Ippoliti Krilovic proprio per il fatto che l'imputato continua tutt'oggi a sostenere testardamente questa assurda versione nel corso di questi due mesi a partire da quella notte per lui fatale egli non ha fornito alcuna spiegazione non ha aggiunto alcuna reale circostanza chiarificatrice alle sue fantastiche dichiarazioni iniziali come a dire sono tutte piccolezze credete alla mia parola d'onore noi saremmo contenti di crederci noi desideriamo crederci anche solo sulla base di una parola d'onore non siamo mica degli sciacalli avidi di sangue umano forniteci mostrateci anche una sola prova a favore dell'imputato e noi ci rallegreremo ma che sia una prova sostanziale reale non la conclusione che ha tratto suo fratello semplicemente dall'espressione del viso dell'imputato o la congettura che battendo il pugno sul petto egli volesse sicuramente indicare l'amuleto e per di più con il buio che c'era noi ci rallegreremo di una nuova prova saremmo i primi a ritirare l'accusa ci affretteremmo a ritirarla ma così come stanno le cose la giustizia grida vendetta e noi rimaniamo sulle nostre posizioni non possiamo ritirare un bel niente Ippolit Krilovich passò alla conclusione sembrava che avesse la febbre gridò vendetta per il sangue versato il sangue di un padre ucciso dal figlio mosso dall'abbietto scopo di derubarlo mise in risalto la tragica e ignominiosa mole dei fatti e qualunque cosa possiate ascoltare dalle labbra del difensore illustre per il suo talento non riuscì a trattenersi Ippolit Krilovich per quanto eloquenti e commoventi possano risuonare gli appelli rivolti alla vostra sensibilità ricordatevi sempre che in questo momento vi trovate in un tempio della nostra giustizia rammentatevi che siete i campioni della nostra giustizia i campioni della nostra santa Russia dei suoi principi della sua famiglia e di tutto ciò che in essa vi è di sacro sì in questo momento voi rappresentate la Russia e il vostro verdetto non avrà risonanza soltanto in quest'aula ma nell'intera Russia e la Russia intera vi ascolterà come i propri campioni e giudici e sarà incoraggiata o afflitta dal vostro verdetto non deludete la Russia e le sue aspettative la nostra fatale troica galoppa a rotta di collo e forse verso la distruzione e da molto tempo ormai in tutta la Russia si protendono braccia e si rievano in vocazioni per fermare questa corsa forse innata e spudorata e se le altre nazioni si fanno da parte al passaggio della troica che galoppa a rotta di collo forse non è affatto per rispetto nei suoi confronti come voleva il poeta ma solo per l'orrore che provano tenetelo a mente questo per orrore e forse per disgusto ed è ancora un bene che si facciano da parte ma forse un giorno smetteranno di farsi da parte e formeranno un muro compatto dinnanzi all'irruente apparizione ed essi stessi formeranno la folle corsa della nostra sfrenatezza per il bene della loro salvezza della loro cultura e della loro civiltà abbiamo già sentito voci di allarme provenienti dall'Europa cominciano già a diffondersi non inducete l'intentazione non aizzate il loro odio crescente con un verdetto che giustifichi l'assassinio di un padre da parte di un figlio insomma Ippolit Kirilovich sebbene si fosse molto infervorato concluse tuttavia la sua ringa con un tono davvero patetico e l'effetto che ottenne fu veramente straordinario egli dopo aver concluso il suo discorso uscì in fretta e lo ripeto per poco non cadde svenuto nell'altra stanza l'aula non applaudì ma le persone serie furono soddisfatte solo le signore non erano molto contente ma anche a loro era piaciuta quella prova di eloquenza tanto più che non ne temevano affatto le conseguenze e riponevano tutte le loro speranze in fetiucovie finalmente parlerà lui e sicuramente batterà tutti tutti guardavano Mitia per tutta la ringa del procuratore egli era rimasto in silenzio con le mani serrate a denti stretti e capochino solo di tanto in tanto aveva sollevato il capo e si era messo in ascolto soprattutto nel momento in cui aveva iniziato a parlare di Grushenka quando il procuratore aveva riferito l'opinione che Rakitin aveva di lei sul suo volto era affiorato un sorriso sprezzante e perfido e aveva pronunciato in maniera abbastanza udibile questi Bernard quando invece Ippolit Kirillovich aveva descritto il modo in cui lo aveva interrogato e tormentato a Mokroe Mitia aveva sollevato il capo e ascoltato con estremo interesse in un punto della ringa era sembrato che egli volesse addirittura balzare in piedi per gridare qualcosa tuttavia si era dominato e aveva scrollato sprezzantemente le spalle in seguito si commentò nelle riunioni mondane il finale di quella ringa e in particolar modo le gesta del procuratore Amokroe durante l'interrogatorio dell'imputato si prendeva anche un po' in giro Ippolit Kirillovich come per sottolineare che non aveva saputo resistere alla tentazione di vantarsi della propria abilità la seduta fu sospesa ma solo per un breve intervallo per un quarto d'ora o una ventina di minuti fra il pubblico si udivano conversazioni ed esclamazioni ne ricordo alcune una ringa solida osservò un signore in un gruppo con aria accigliata ci ha messo un po' troppa psicologia si udì un'altra voce ma era tutto vero era la sacrosanta verità sì è un maestro in queste cose ha tirato le somme del caso e ha tirato le somme pure a noi intervenne una terza voce vi ricordate che all'inizio della ringa ci ha paragonato tutti a Fiodor Paolovic eppure alla fine ma su questo ha detto solo un mucchio di frottole e c'erano pure cose poco chiare si è lasciato un po' prendere la mano è ingiusto ingiusto signori ma no se non altro è stato abile ha dovuto aspettare un bel pezzo ma ha detto la sua chissà che dirà il difensore e in un altro gruppetto ha fatto male a dare addosso a quello di Pietroburgo faranno appello alla vostra sensibilità ricordate? sì è stato maldestro da parte sua aveva fretta è un uomo nervoso signori noi ridiamo ma chissà come deve sentirsi l'imputato ah sì chissà come si sente quel mitienca chissà che cosa dirà il difensore adesso in un terzo gruppetto chi è quella signora con gli occhialini grassa seduta alla fine della fila è la moglie del generale divorziata io la conosco quella con gli occhialini ma senti senti robetta no una donnina abbastanza piccante due posti dopo di lei c'è una biondina quella è meglio l'hanno proprio pizzicato per bene quella volta Mocroe vero? per bene proprio per bene l'ha raccontato un'altra volta l'aveva già raccontato un sacco di volte in casa della gente anche adesso non ha saputo trattenersi è la vanità è un uomo maltrettato eppure per maloso e c'era un sacco di retorica frasi lunghe e poi cercava di spaventarci notatelo bene non ha fatto che spaventarci vi ricordate della troica? quelli là hanno i loro amleti e noi per adesso soltanto i nostri Karamazov è stato abile l'ha fatto per ringraziarsi i liberali ha paura di loro e ha paura pure dell'avvocato e chissà che dirà il signor Fetiukovie per quanto possa dire non riuscirà a darla a bere ai nostri contadini è così che la pensate in un quarto gruppo quello che ha detto sulla troica era ben detto quando ha parlato delle nazioni ed è giusto ti ricordi quando ha detto che le nazioni non aspetteranno che vuol dire? beh un membro del parlamento inglese si è alzato la settimana scorsa e riguardo alla questione dei nichilisti ha interpellato il ministero per chiedere se non fosse tempo di occuparsi di una nazione barbara per darsi finalmente un'istruzione il poli stava pensando a questo lo so che stava pensando a questo la settimana scorsa ne ha parlato campa cavallo di che cavallo parli? che intendi dire? beh noi chiuderemo Kronstadt e non gli daremo il grano da dove lo andranno a prendere? e l'America dove la metti? adesso lo vanno a prendere in America tutte frottole ma suono il campanello tutti si precipitarono ai loro posti Fetiukovie salì in tribuna la ringa del difensore un'arma a doppio taglio il silenzio era assoluto quando si levarono le prime parole del celebre oratore l'aula intera puntava gli occhi su di lui e gli esordì con molta semplicità e immediatezza con aria decisa ma senza ombra di presunzione non ricorse minimamente alla retorica a note patetiche o a certe paroline cariche di sentimento sembrava un uomo che parla a un ristretto gruppo di persone comprensive aveva una voce magnifica sonora e affascinante e sembrava che in quella voce stessa risuonasse qualcosa di genuino e semplice ma tutti compresero all'istante che l'oratore poteva sorgere all'improvviso al patetico puro e penetrare i cuori con una forza ignota forse parlava in maniera meno ricercata di Polit Krilovich ma non usava frasi molto lunghe ed era più preciso solo una cosa non piacque al signore egli continuava a piegarsi in avanti soprattutto all'inizio della ringa non che si inchinasse ma era come se fosse sul punto di spiccare il volo verso i suoi ascoltatori inclinando la sua lunga schiena in due come se avesse una molla a metà della schiena lunga ed esile che gli consentisse di piegarsi ad angolo retto all'inizio della ringa parlò in maniera alquanto sconnessa non sistematica si sarebbe detto prendeva in considerazione fatti isolati ma alla fine quei fatti vennero a formare un tutt'uno il suo discorso potrebbe essere diviso in due parti la prima consistì in una critica una confutazione dell'accusa che talora assunse toni feroci e sarcastici mentre nella seconda parte della ringa fu come se tutto ad un tratto avesse cambiato registro e persino metodo di colpo egli si elevò a tonalità patetiche ma era come se il pubblico in aula se lo fosse aspettato e fosse percorso da un brivido di entusiasmo egli andò subito al nocciolo ed esordì dicendo che sebbene esercitasse la sua professione a Pietroburgo quella non era la prima volta che visitava altre città della Russia in qualità di avvocato difensore ma solo per i casi in cui era convinto che gli imputati fossero innocenti oppure avesse il presentimento della loro innocenza la stessa cosa mi è avvenuta nel presente caso spiegò sin da quando apparvero le prime corrispondenze sui giornali mi balenò alla mente qualcosa che produsse in me un'impressione favorevole nei confronti dell'imputato per farla breve quello che maggiormente catturò la mia attenzione fu una certa circostanza legale che spesso si verifica nella pratica giudiziaria ma che mai a mio parere si presenta in una forma così estrema e peculiare come nel caso in questione dovrei formulare questo fatto solo alla fine della mia ringa a conclusione del mio discorso tuttavia esporrò la mia idea proprio all'inizio c'è che è una mia debolezza passare immediatamente al sodo senza tenere da parte gli effetti sensazionali né fare economia di impressioni questo forse potrà essere imprudente da parte mia ma in compenso è sincero la mia idea la mia formula è la seguente esiste una schiacciante mole di circostanze a carico dell'imputato eppure nemmeno una di queste circostanze regge alla critica se la si esamina singolarmente presa a sé stante man mano che seguivo il caso tramite le dicerie e i giornali questa mia idea si veniva rafforzando sempre di più quando all'improvviso ricevete l'invito da parte dei parenti dell'imputato ad assumere la sua difesa mi sono affrettato a venire sul posto e qui mi sono convinto definitivamente della mia idea ecco è stato allo scopo di frantumare questa terribile mole di circostanze a carico e di mostrare l'infondatezza e l'assurdità di ogni circostanza presa singolarmente che ho accettato ad assumere la difesa del caso così esordì l'avvocato della difesa e ad un tratto esclamò signori della giuria io sono l'ultimo arrivato in questa città le impressioni che ho ricevuto non sono basate su preconcetti l'imputato un uomo dal temperamento turbolento e sfrenato non ha avuto occasione di offendermi in passato come ha fatto c'è da supporre con un centinaio di persone in questa città ecco perché molti sono prevenuti nei suoi confronti anche io riconosco certamente che il senso morale della società locale è giustamente esasperato contro di lui imputato a un carattere turbolento e violento eppure egli venne ben accolto dalla società del luogo fu colmato di attenzioni persino nella famiglia del mio abilissimo collega il pubblico ministero nota bene mentre pronunciavo queste parole fra il pubblico si levarono due o tre risatine che sebbene subito represse furono notate da tutti a tutti era noto che il procuratore aveva accolto in casa sua mitia controvoglia unicamente perché sua moglie lo trovava per quanto giovane interessante questa signora era una donna estremamente virtuosa e rispettabile ma capricciosa e dispotica una che amava in alcuni casi soprattutto nelle piccole cose mettersi contro suo marito mitia del resto frequentava abbastanza di rado la loro casa non di meno azzarderei l'ipotesi proseguiva il difensore che a dispetto dell'indipendenza di giudizio e del temperamento imparziale che lo caratterizzano anche nel mio opponente sia potuto nascere un preconcetto erroneo sul conto del mio disgraziato cliente è così naturale questo disgraziato si è meritato anche troppo i pregiudizi della gente il senso morale oltraggiato e peggio ancora quello estetico a volte diventa implacabile noi tutti abbiamo sentito nella magistrale arringa dell'accusa una severa analisi del carattere della condotta dell'imputato un severo atteggiamento critico verso il caso in questione quel che più conta per spiegarci l'essenza del caso l'accusa ci ha indicato tali profondità psicologiche nelle quali non sarebbe mai potuto addentrarsi se fosse stata in mala fede o consapevolmente prevenuta contro la persona dell'imputato eppure in tali casi esistono cose peggiori persino più nocive di un atteggiamento prevenuto e in mala fede nei confronti di un caso giudiziario per esempio quando accade di lasciarsi trasportare da un certo diciamo così gusto artistico da un desiderio di creazione artistica per così dire quando si tenta di creare un romanzo soprattutto in presenza di doti psicologiche che Dio abbia dispensato al nostro intelletto a Pietroburgo prima ancora che partissi ero stato avvisato ma lo sapevo da me senza bisogno di preavvisi che qui avrei trovato come opponente un profondo e acutissimo psicologo il quale grazie a questa sua qualità si è conquistato una particolare fama nel nostro ancora giovane ambiente forense eppure signori la psicologia per quanto profonda può agire come un'arma a doppio taglio risatine fra il pubblico certo voi mi perdonerete il banale paragone non sono un gran maestro d'eloquenza ma ecco prenderò un esempio a caso il primo che mi viene in mente tratto dal discorso dell'accusa imputato di notte nel giardino fuggendo sta scavalcando lo steccato e atterra con il pestello di ottone il lacchè che gli sta aggrappato a una gamba dopodiché con un balzo ritorna in giardino e per cinque minuti buoni si affacenda accanto alla vittima cercando di capire se lo abbia ucciso o meno ed ecco che l'accusa si rifiuta categoricamente di credere alla sincerità dell'imputato quando questi dichiara di essere saltato giù dallo steccato per pietà verso il vecchio grigori no dice lui una sensibilità del genere è impossibile in un momento simile è innaturale egli saltò giù in giardino solo per assicurarsi che l'unico testimone della sua malefatta fosse morto e proprio questo suo gesto prova che egli aveva davvero compiuto quella malefatta dal momento che per nessun altro motivo impulso o sentimento avrebbe potuto ritornare in quel giardino ecco questa è psicologia ma prendiamo questa stessa psicologia e applichiamola al caso in questione dal taglio opposto e il nostro risultato non sarà meno plausibile l'assassino ci viene detto salto giù per precauzione per scoprire se il testimone fosse vivo o meno nel contempo però aveva appena lasciato nello studio del padre da lui ucciso secondo quanto asserisce l'accusa stessa un indizio colossale a proprio carico nella forma di un plico lacerato sul quale si indicava il contenuto di 3000 rubli infatti se avesse portato via con sé quel plico nessuno al mondo avrebbe mai saputo dell'esistenza di quel plico stesso e dei soldi in essi contenuti e quindi nessuno avrebbe saputo che quei soldi erano stati rubati all'imputato queste sono le parole dell'accusa allora da un lato vediamo una completa mancanza di cautela l'uomo ha perso la testa e fugge spaventato lasciando sul pavimento un indizio mentre quando un paio di minuti più tardi colpisce e ammazza un altro uomo ecco che compare la più spietata e calcolatrice cautela pronta al nostro servizio ma ammettiamo ammettiamo pure che sia così mi diranno che è proprio la sottigliezza psicologica a fare sì che in date circostanze io sia setato di sangue e perspicace come un'aquila del caucaso e un attimo dopo sia cieco e timoroso come una povera talpa ma se sono così sanguinario e spietatamente calcolatore da saltare giù dopo aver ucciso solo per vedere se sia morto un testimone pericoloso come mai spreco cinque minuti buoni ad affacendarmi su questa mia nuova vittima a rischio di procurarmi altri testimoni a che scopo inzuppare il mio fazzoletto per detersere il sangue che cola dalla testa della mia vittima quando poi quel fazzoletto potrebbe costituire un indizio contro di me no se siamo davvero così avveduti e duri di cuore allora dopo essere saltati giù in giardino faremmo meglio ad assestare sulla testa del servo aterrato un altro bel colpo e un altro ancora per ucciderlo in maniera da farla finita con il testimone e levarci questo peso dal cuore e certamente quando salteremo giù per assicurarci che il nostro testimone sia morto lasceremo sul sentierino lì accanto un altro testimone proprio quel pestello che abbiamo preso in casa delle due donne e che in seguito entrambe potranno riconoscere in modo da testimoniare che siamo stati noi a prenderlo da casa loro e non l'abbiamo mica dimenticato là sul sentierino non l'abbiamo mica perduto per distrazione per la confusione nella quale ci trovavamo no avevamo gettato via quell'arma di proposito perché è stata ritrovata a una quindicina di passi dal posto in cui era stato atterrato Grigori ci si domanda a che scopo abbiamo agito in quel modo ecco abbiamo agito in questo modo per l'amarezza che ci ha invaso per aver ucciso un uomo un vecchio servitore imprecando con stizza abbiamo gettato via quel pestello come arma del nostro delitto non poteva essere altrimenti per quale altro motivo potevamo gettarlo con tanto impeto se siamo stati in grado di provare dolore e pietà per aver ucciso un uomo questo dimostra naturalmente che non abbiamo ucciso nostro padre se avessimo ucciso nostro padre non saremmo saltati giù verso l'uomo che avevamo abbattuto mossi da pietà avremmo provato tutt'altri sentimenti non avremmo dato spazio alla pietà ma solo all'istinto di conservazione questo è fuori dubbio al contrario gli avremmo definitivamente fracassato il cranio e non avremmo perso quei cinque minuti accanto a lui invece demmo spazio alla pietà e ai buoni sentimenti proprio perché avevamo la coscienza pulita ecco dunque una psicologia del tutto diversa signori della giuria io stesso ho fatto ricorso alla psicologia di proposito per darvi una dimostrazione evidente di come da essa sia possibile dedurre quello che più fa comodo dipende dall'uso che ne fate la psicologia spinge anche le persone più serie a comporre dei romanzi e questo del tutto inconsapevolmente sto parlando della psicologia superflua signori della giuria dell'abuso della psicologia anche a questo punto si udirono risatine di consenso fra il pubblico ancora una volta all'indirizzo del procuratore non riporterò il discorso del difensore per filo e per segno sceglierò soltanto alcuni passaggi i punti fondamentali niente soldi niente furto ci fu un punto nella ringa del difensore che colpi tutti egli negò dunque categoricamente l'esistenza di quei fatali 3.000 rubli e dunque anche la possibilità che essi fossero stati rubati signori della giuria esordì nel presente caso una peculiarità molto caratteristica colpisce l'osservatore nuovo e libero da preconcetti e cioè l'imputazione di furto da una parte e dall'altra la totale impossibilità di dimostrare che qualcosa sia stato effettivamente rubato si dice che sia stato rubato del denaro 3.000 rubli per la precisione ma se quei 3.000 rubli esistessero davvero nessuno può dirlo giudicate da voi in primo luogo in che modo abbiamo appreso che esistevano quei 3.000 rubli e chi li ha visti? solo il servo Smerdiakov li aveva visti con i propri occhi e ha testimoniato che essi erano stati infilati nel plico con la scritta sempre Smerdiakov aveva informato dell'esistenza di quel plico prima che succedesse la catastrofe l'imputato e suo fratello Ivan Piodorovic la notizia era stata resa nota anche alla signorina Svetlova nessuna di queste tre persone però ha visto quei soldi con i propri occhi ancora una volta era stato soltanto Smerdiakov a vederli ma a questo punto la domanda nasce spontanea ammesso che fosse vero che quei soldi esistessero e che Smerdiakov li avesse visti quando li ha visti per l'ultima volta e se il padrone avesse tolto quel denaro da sotto il cuscino e l'avesse riposto nuovamente nella scatola senza dirgli nulla notate bene che secondo la testimonianza di Smerdiakov il denaro si trovava nel letto sotto il materasso quindi l'imputato avrebbe dovuto estrarlo da sotto il materasso eppure il letto era intatto da quanto risulta espressamente nel verbale come ha fatto l'imputato a non disfare minimamente il letto e per di più a non imbrattare con le mani sporche l'elegante biancheria fresca di bucato che era stata messa per quella speciale occasione ci potranno dire ma il plico era sul pavimento ecco vale la pena di spendere due parole su quel plico poco fa sono rimasto un tantino stupito quando l'abilissimo pubblico ministero parlando di quel plico ad un tratto di sua iniziativa badate bene signori di sua iniziativa proprio mentre tentava di dimostrare l'assurdità dell'ipotesi che l'assassino sia Smerdiakov ha dichiarato se non fosse stato per quel plico se il rapinatore non avesse lasciato quella traccia sul pavimento come prova ma l'avesse portato via con sé nessuno al mondo avrebbe mai saputo dell'esistenza di quel plico che in esso erano contenuti i soldi e che dunque quei soldi erano stati trafugati dall'imputato e quindi solo quel pezzo di carta lacerata con la scritta per ammissione della stessa accusa sarebbe alla base dell'imputazione di furto ai danni dell'imputato altrimenti nessuno avrebbe saputo che c'era stato un furto e che forse c'erano pure dei soldi ma il semplice fatto che quel pezzo di carta fosse sul pavimento è forse una prova che esso contenesse dei soldi e che quei soldi siano stati rubati mi si risponderà che li aveva visti Smerdiakov in quel plico ma quando quando li aveva visti per l'ultima volta ecco quello che domando io quando parlai con Smerdiakov lui mi disse di averli visti due giorni prima della catastrofe ma perché non potrei ipotizzare ad esempio anche solo la circostanza che al vecchio Fyodor Pavlovich serrato in casa nell'attesa sfasmodica impaziente della sua amata all'improvviso si è saltato in mente per ammazzare il tempo di tirar fuori il plico e di sigillarlo a che serve la busta potrebbe aver pensato e se lei non credesse che contiene il denaro ma se ne mostrassi tutto il mazzetto delle trenta banconote iridate certo le farebbe più impressione le verrebbe l'acquolina in bocca e così lacera la busta estrae i soldi e getta la busta sul pavimento con l'aria sicura del padrone di casa che certo non ha alcun timore di lasciare una prova in giro ascoltate signori giurati ditemi c'è qualcosa di più plausibile di questa supposizione e di questa versione dei fatti per quale motivo dovrebbe essere fuori questione tutto questo e se qualcosa del genere fosse davvero accaduto allora l'imputazione di furto verrebbe a cadere da sola niente soldi niente furto se il plico giaceva sul pavimento come prova che in esso fossero contenuti dei soldi perché non potrei dichiarare il contrario e cioè che quel plico stava lì sul pavimento proprio perché non conteneva affatto quei soldi che il padrone aveva preventivamente estratto dalla busta sì ma allora che fine hanno fatto quei soldi se è stato Fiodor Paolovice stesso a tirarli fuori dal plico durante la perquisizione in casa sua non sono stati ritrovati primo una certa somma di denaro è stata ritrovata in quella scatola secondo avrebbe potuto tirarlo fuori già dalla mattina o persino il giorno prima per disporne in un altro modo potrebbe averlo consegnato a qualcuno spedito avrebbe potuto infine cambiare radicalmente la propria linea di azione senza ritenere necessario di avvisare prima Smerdyakov e se esiste soltanto l'ombra della possibilità che sia andata in questo modo com'è possibile accusare con tanta insistenza e fermezza l'imputato di avere compiuto un delitto a scopo di rapina e asserire che la rapina abbia effettivamente avuto luogo in questo modo entriamo già nella sfera del romanzo infatti se si sostiene che una certa cosa è stata rubata allora occorre indicare di che cosa si tratta o perlomeno dimostrare in modo indiscutibile che quella cosa esiste realmente e invece nel nostro caso nessuno ha visto l'oggetto del furto di recente a Pietroburgo un giovanotto poco più di un ragazzo un diciottenne che aveva una piccola bancarella al mercato entrò in pieno giorno nella bottega dei cambi con un'ascia e con una straordinaria e tipica audacia uccise il padrone della bottega e gli rubò 1500 rubli in contanti erano passate cinque ore circa quando il giovanotto fu arrestato indosso gli fu trovata l'intera somma di 1500 rubli meno 15 rubli che aveva fatto in tempo a spendere quando il commesso tornò alla bottega dopo l'omicidio comunicò alla polizia non soltanto l'ammontare della somma rubata ma indicò pure il tipo di banconote e spiccioli che la componevano quante banconote eri date quante azzurre quante rosse quante monetine d'oro dopo l'arresto addosso all'omicida erano state trovate esattamente le banconote e gli spiccioli indicati in aggiunta a tutto questo seguì la più completa e franca confessione da parte dell'omicida di aver ucciso e trafugato quei soldi ecco signori della giuria quelle che io chiamo delle prove in quel caso io so vedo e tocco quel denaro e non posso dire che non esiste e non è mai esistito si può dire forse lo stesso nel presente caso eppure qui è una questione di vita o di morte del destino di un uomo mi si dirà che quella notte l'imputato ha fatto baldoria ha sperperato denaro a profusione che indosso gli sono stati ritrovati 1500 rubli e mi si domanderà da dove potesse averli presi ma proprio il fatto che gli sono stati ritrovati indosso soltanto 1500 rubli mentre la seconda metà di quel denaro non c'è stato verso di trovarlo durante le perquisizioni dimostra che quei soldi potevano benissimo non essere gli stessi e che i soldi in possesso dell'imputato non erano mai stati in quel plico secondo il calcolo dei tempi un calcolo accuratissimo è stato reso noto e dimostrato in sede di istruttoria preliminare che l'imputato raggiunse la casa di Perciokin dopo aver lasciato di corsa l'appartamento delle due serve senza passare da casa e senza fermarsi da nessuna parte inoltre per tutto il tempo egli si trovò in presenza di altre persone dunque non ebbe modo di sottrarre la metà di quei 3000 rubli per nasconderli da qualche parte in città proprio quest'ultima considerazione è alla base dell'ipotesi dell'accusa che i soldi siano nascosti in qualche fessura del villaggio di Mocroe perché non nei sotterranei del castello di Udolfo signori non vi sembra un po' troppo fantastica un po' troppo romanzesca quest'ipotesi e notate bene basterebbe che questa ipotesi venisse smentita l'ipotesi cioè che il denaro sia nascosto a Mocroe per far saltare in aria l'intera imputazione di furto c'è che dove si troverebbero che fine avrebbero fatto in tal caso quei 1500 rubli per mezzo di quale miracolo sono potuti svanire è stato dimostrato che l'imputato non è andato da nessuna parte e noi siamo pronti a distruggere la vita di un uomo a causa di simili fantasie romanzesche mi diranno eppure non è riuscito a spiegare dove ha preso quei 1500 rubli che gli sono stati trovati addosso e per di più tutti sapevano che fino a quella notte non aveva denaro ma chi lo sapeva l'imputato invece ha dato una chiara e decisa testimonianza di dove abbia preso quei soldi e se volete signori della giuria se volete non c'è nulla che potesse e possa essere più credibile di quella testimonianza e anche più congeniale al carattere e all'anima dell'imputato il pubblico ministero è rimasto incantato dal romanzo che lui stesso ha concepito un uomo dalla volontà debole che ha deciso di impossessarsi di 3000 rubli che gli ha affidato in maniera così vergognosa la sua fidanzata non può dice lui averne sottratta la metà per cucirla nel suo amuleto ma ammesso che l'avesse cucita dentro avrebbe scucito l'amuleto ogni due giorni per prenderne un centone alla volta dilapidando così l'intera somma in un mese come ricorderete tutto questo è stato dichiarato con un tono che non ammetteva repliche e se le cose invece non fossero affatto andate in questo modo e se aveste soltanto costruito un romanzo se aveste creato un personaggio completamente diverso è proprio questo il punto avete creato un personaggio completamente diverso mi potranno replicare forse che ci sono molti testimoni che dichiarano che egli ha sperperato al villaggio di Mucorò e tutti i 3.000 rubli che aveva sottratto a un mese dalla catastrofe alla signorina Fercekova in un colpo solo come fossero una sola copeca quindi come aveva potuto sottrarne la metà ma chi sono questi testimoni questa corte ha avuto ampia dimostrazione del grado di affidabilità di questi testimoni e poi un tozzo di pane in mano altrui sembra sempre più grosso infine nessuno di quei testimoni ha avuto modo di contare con esattezza quei soldi e si hanno valutato la somma così ad occhio per non dire che il teste Maximoff ha testimoniato che l'imputato aveva addirittura 20.000 rubli in mano vedete allora signori della giuria dal momento che la psicologia è un'arma a doppio taglio permettetemi di occuparmi del secondo taglio e vediamo che cosa ne viene fuori a un mese dalla catastrofe la signorina Fershovceva affida 3.000 rubli all'imputato perché questi rispedisca per posta la domanda è è proprio vero che quei soldi gli furono affidati in un modo così ignominioso e degradante come è stato ora dichiarato nel corso della prima testimonianza la signorina Fershovceva ha dichiarato che le cose non sono andate affatto così anzi tutto al contrario nella seconda testimonianza abbiamo udito soltanto urla di rancore vendetta urla di un odio a lungo represso ma il semplice fatto che la testa abbia dichiarato il falso durante la prima deposizione ci autorizza a concludere che anche nella seconda abbia fatto lo stesso l'accusa non vuole non osa sono parole sue sfiorare questa storia d'amore che faccia pure neanche io mi permetterò di sfiorarla ma mi permetto soltanto di notare che se una persona onesta pulita e dai nobili principi quale indubbiamente è la stimatissima signorina Fershovceva se una simile persona dico io si permette di punto in bianco tutto a un tratto durante un processo di cambiare la propria versione allo scopo palese di rovinare l'imputato allora è chiaro pure che questa sua versione dei fatti non è stata resa con imparzialità e a mente fredda non ci toglieremmo mica il diritto di concludere che una donna vendicativa possa esagerare sì esagerare proprio la vergogna e l'ignominia del modo in cui aveva offerto quel denaro all'imputato e invece quel denaro era stato offerto proprio in un modo in cui poteva essere accettato soprattutto da una persona così sventata come il nostro imputato tanto più che egli in quel periodo si aspettava che il padre gli cedesse al più presto quei 3000 rubli che gli doveva secondo i suoi calcoli questo era sventato da parte sua ma proprio per via di quella sua sventatezza egli era fermamente convinto che il padre glieli avrebbe dati e che lui li avrebbe intascati e che dunque avrebbe sempre potuto spedire per posta i soldi che gli erano stati affidati dalla signorina Ferciovceva e saldare il suo debito ma l'accusa non vuole a nessun costo ammettere che quello stesso giorno il giorno incriminato egli possa aver messo da parte metà dei soldi ricevuti per cucirlo nel suo amuleto non rientra nel suo carattere non poteva nutrire simili sentimenti eppure voi stesso avevate dichiarato a squarciagola che basta è la natura di un Karamazov voi stesso avete gridato dei due abissi estremi che un Karamazov può contemplare Karamazov è una natura a due facce che fluttua fra due abissi che persino quando è mosso dalla più sfrenata foga di Bagordi può fermarsi se qualcosa lo colpisce sull'altro versante e quell'altro versante è proprio l'amore quel nuovo amore che divampa come polvere da sparo è proprio per quell'amore che quel denaro gli è necessario anzi ben più necessario di gran lunga più necessario che per quegli stessi Bagordi con quella donna se ella gli dicesse sono tua non voglio Fyodor Paolovic lui la prenderebbe la porterebbe via e così avrebbe il denaro necessario per farlo questo è più importante di una notte di Bagordi è mai possibile che Karamazov non se ne rendesse conto ma se era proprio quest'ansia che lo tormentava che cosa c'è di tanto incredibile nel fatto che egli avesse messo da parte quei soldi e li avesse tenuti nascosti per ogni evenienza tuttavia il tempo passa e Fyodor Paolovic non restituisce il denaro all'imputato al contrario si viene a sapere che ha intenzione di usarlo proprio per sedurre la donna che l'imputato ama ma se Fyodor Paolovic non mi dà il denaro pensa lui allora risulterà che sono un ladro dinnanzi a Caterina Ivanovna e così ha origine in lui l'idea che quei 1500 rubli che gli continua a portarsi al collo in quell'amuleto li potrebbe prendere e li portare davanti alla signorina Ferciovceva dicendole sono un mascalzone ma non un ladro ed ecco dunque una seconda ragione per conservare quei 1500 rubli come la pupilla dei propri occhi senza scucire per nessun motivo l'amuleto né prelevarne il denaro a 100 rubli alla volta perché dovreste negare all'imputato il senso dell'onore no il senso dell'onore esiste in lui ammettiamo pure che sia mal riposto ammettiamo che sia il più delle volte erroneo ma esso esiste e arriva ad avere la forza di una passione e questo lo ha dimostrato ma ecco che la faccenda si complica le pene della gelosia raggiungono il parossismo e quelle due domande le stesse di prima si affacciano sempre più angoscianti al cervello in fiamme dell'imputato devo restituire il denaro a Caterina Ivanovna? ma allora con quali mezzi potrai condurre via Grushenka? se si comportò come un pazzo se si ubriacò ripetutamente si attaccò briga nelle trattorie nel corso di tutto quel mese credo che lo fece proprio perché egli era ammareggiato oltre ogni capacità di sopportazione quelle due domande erano diventate così pungenti da condurlo sull'orlo della disperazione egli fa il tentativo di mandare suo fratello minore a chiedere per l'ultima volta il denaro al padre da parte sua ma senza attendere la risposta il rompe in casa e picchia il vecchio in presenza di testimoni dopo un simile gesto nessuno gli avrebbe dato un bel nulla il padre picchiato non gli avrebbe dato il becco di un quattrino quella sera stessa egli si batte il petto proprio la parte superiore del petto dove sta l'amuleto e giura al fratello di essere in possesso di un mezzo per non essere un mascalzone ma che tuttavia rimarrà un mascalzone già che prevede che non userà quel mezzo e manca la forza di volontà gli manca il carattere perché perché l'accusa non crede alla testimonianza di Alexei Fiodorovic resa con tanta buona fede con tanta sincerità una testimonianza così spontanea e verosimile e perché al contrario vorrebbe costringermi a credere ai soldi nascosti in qualche fessura nei sotterrani del castello di Udolfo quella stessa sera dopo il colloquio con il fratello l'imputato scrive quella fatidica lettera ed ecco che proprio quella diventa la principale la più colossale prova del furto commesso dall'imputato chiederò soldi a tutti e se non me li daranno ucciderò mio padre e glieli prenderò da sotto il materasso nel plico con il nastrino rosa purché Ivan se ne sia andato un piano dettagliato dell'omicidio ci viene detto come fa a non essere lui l'assassino è avvenuto tutto come aveva scritto esclama il pubblico ministero ma in primo luogo è la lettera di un ubriaco scritta in un momento di furiosa esasperazione secondo ancora una volta egli parla del plico sulla base delle informazioni ricevute da Smerdiakov perché lui il plico non l'ha mai visto terzo sì ha scritto quel che ha scritto ma come si fa a dimostrare che l'abbia poi eseguito nel modo in cui aveva scritto è stato l'imputato a prendere il plico da sotto il cuscino li ha trovati lui i soldi e addirittura sono mai esistiti quei soldi e se ricordate era forse per i soldi che l'imputato si era precipitato lì vi ricordate? egli era corso lì a rotta di collo non per terubare ma soltanto per sapere se lei quella donna colei che lo aveva annientato si trovasse lì dunque non si era precipitato lì in base ad un piano non per seguire quello che aveva scritto cioè per la rapina premeditata ma era corso lì all'improvviso casualmente in preda alla furia della gelosia sì mi diranno ma una volta arrivato ha ucciso e si è preso pure i soldi ma lo ha davvero ucciso lui? respingo con sdegno l'accusa di furto non si può accusare di furto se non si può indicare con precisione che cosa è stato rubato questo è assiomatico ma è stato davvero lui a uccidere? ammesso che non abbia rubato è stato lui a uccidere? è dimostrato questo? o non è pure questo un altro romanzo? e nemmeno omicidio permettetemi signori della giuria di ricordarvi che qui è in gioco la vita di un uomo e che bisogna essere un po' cauti abbiamo sentito come ha dichiarato il pubblico ministerio in persona che fino all'ultimo momento fino ad oggi il giorno del processo è stato incerto se accusare l'imputato di piena e consapevole premeditazione dell'omicidio è stato incerto fino a quella fatale lettera da ubriaco che oggi è stata consegnata alla corte è avvenuto tutto secondo quanto aveva scritto lo ripeto ancora una volta egli si precipitò da lei per cercare lei unicamente per sapere dove fosse questo è un fatto indiscutibile se ella si fosse trovata in casa egli non sarebbe corso da nessuna parte sarebbe rimasto da lei e non avrebbe fatto quello che aveva promesso nella lettera egli si precipitò lì casualmente e inaspettatamente e quella sua lettera da ubriaco non gli venne nemmeno in mente in quel momento aveva preso il pestello però mi si dirà e vi ricordate quale trattato di psicologia sono stati capaci di costruire sulla base di quel semplice pestello perché l'imputato avrebbe considerato quel pestello come un'arma perché l'avrebbe afferrato a mo' di arma e così via a questo proposito mi viene in mente la più semplice delle idee se quel pestello non fosse stato in vista se non si fosse trovato su quel ripiano dal quale lo ha preso l'imputato ma fosse stato riposto dentro la credenza che cosa sarebbe accaduto che non avrebbe catturato l'attenzione dell'imputato in quel momento e lui sarebbe corso via senza arma a mani vuote e quindi forse non avrebbe ucciso nessuno in quale modo posso giungere alla conclusione che quel pestello sia una prova che egli volesse armarsi una prova della sua premeditazione sì è vero aveva sbandierato ai quattroventi che avrebbe ucciso il padre e due giorni prima quella sera in cui ubriaco aveva scritto quella lettera se n'era stato tranquillo e aveva litigato soltanto con un commesso di bottega alla trattoria perché Karamazov non può fare a meno di litigare c'è stato detto a questo replicherò che se egli avesse davvero concepito l'idea di quell'omicidio e per di più sulla base di un piano secondo quanto aveva scritto sicuramente non avrebbe attaccato briga nemmeno con quel commesso e forse non sarebbe affatto passato da quella trattoria perché è un'anima che ha concepito un tale disegno cerca la quiete cerca di tenersi nell'ombra di dileguarsi per non essere visto né sentito come se volesse dire dimenticatevi di me se potete e questo non solo per calcolo ma per un'esigenza istintiva signori della giuria la psicologia è a doppio taglio e anche noi siamo in grado di comprenderla quanto a tutti quegli strepidi per le trattorie durante tutto quel mese non capita forse di sentire ragazzini o ubriaconi che all'uscita delle osterie litigando l'un con l'altro gridano io ti ammazzo eppure non ammazzano mica e allora pure quella fatale lettera non è forse anche quella soltanto irascibilità da ubriachi non è come un grido da ubriacone all'uscita di un'osteria vi ammazzo vi ammazzo tutti perché non potrebbe essere così perché di grazia dovremmo considerare quella lettera fatale per l'imputato anziché riderci sopra ecco perché perché è stato rinvenuto il cadavere del padre assassinato perché un testimone ha visto l'imputato armato mentre fuggiva dal giardino ed è stato da questi aggredito dunque tutto è avvenuto secondo quanto era scritto nella lettera ecco perché quella lettera è considerata fatale per l'imputato e non c'è da riderci sopra grazie a dio siamo arrivati al punto se si trovava nel giardino deve essere stato lui l'assassino su queste sole paroline se si trovava allora sicuramente deve si fonda l'intero caso l'intera accusa dal momento che si trovava lì deve essere stato lui e se non dovesse essere stato lui sebbene lì si trovasse oh sì ne convengo la mole di indizi la coincidenza di circostanze sono abbastanza eloquenti questo è fuori di dubbio tuttavia considerate tutti questi fattori separatamente senza curarvi della loro totalità perché per esempio l'accusa non vuole ammettere a nessun costo che l'imputato dica il vero quando dichiara di essere fuggito via dalla finestra della camera del padre ricordate il sarcasmo al quale il pubblico ministero si è lasciato andare quando parlava dei sentimenti devoti e rispettosi che tutto a un tratto vengono ad animare l'imputato ma che si sarebbe di strano se si fosse verificato davvero qualcosa del genere una sorta di devozione se non proprio di rispetto filiale mia madre deve aver pregato per me in quel momento ha dichiarato il testimone durante l'istruttoria e quindi scappo via subito dopo aver accertato che la svetlova non era in casa del padre ma non poteva averne la certezza lì dalla finestra ci contesta l'accusa perché no la finestra era stata aperta ai segnali dell'imputato forse in quel momento Fyodor Paolovic pronunciò qualche parola si lasciò scappare un gridolino e allora l'imputato poteva dedurre con certezza che la svetlova non si trovava lì perché dovremmo pretendere che le cose siano andate esattamente come le immaginiamo noi come ci siamo proposti di immaginarsele nella realtà possono presentarsi migliaia di particolari che eludono la capacità di osservazione del più acuto romanziere sì ma Grigori ha visto la porta aperta dunque l'imputato doveva essere sicuramente entrato in casa e quindi aver ucciso a proposito di quella porta signori della giuria vedete a proposito di quella porta aperta abbiamo soltanto la testimonianza di una persona che in quel momento si trovava in una condizione un po' ma ammettiamo ammettiamo pure che fosse aperta che fosse stata aperta dall'imputato che questi abbia mentito mosso da un istinto di autodifesa così comprensibile nella sua posizione ammettiamo ammettiamo pure che si sia introdotto in casa che si sia trovato all'interno della casa perché mai per il solo fatto di essere stato dentro quella casa dovrebbe essere stato lui ad uccidere potrebbe aver fatto irruzione aver girato di corsa tutte le stanze dato uno spintone al padre avrebbe persino potuto colpirlo ma una volta assicuratesi che la svetrova non c'era avrebbe potuto fuggire contento che lei non ci fosse e di essere fuggito senza aver ucciso il padre proprio per questo forse egli salto giù dallo steccato un minuto più tardi per soccorrere Grigori dopo averlo atterrato nell'eccitazione del momento egli era in grado di nutrire un sentimento puro un sentimento di compassione e pietà proprio perché era fuggito alla tentazione di uccidere il padre perché aveva la coscienza a posto ed era felice di non aver ucciso il padre il pubblico ministero ci ha descritto con eloquenza che suscita persino orrore il terribile stato in cui si trovava l'imputato al villaggio di Mocroe quando l'amore si era dischiuso nuovamente dinanzi a lui invitandolo a una nuova vita e invece gli era ormai impossibile amare dal momento che alle spalle aveva il cadavere insanguinato del padre e davanti a sé l'esecuzione eppure il pubblico ministero gli ha concesso di amare spiegando questo sentimento con la sua solita psicologia lo stato di abbrezza di quando conducono il criminale alla forca ma gli rimane ancora molto da aspettare eccetera eccetera vi domando ancora una volta signor pubblico ministero non vi pare di avere costruito un personaggio del tutto diverso l'imputato sarebbe davvero una persona così rozza e insensibile da poter ancora pensare all'amore ai tentativi di raggirare la giustizia in quel momento se davvero si fosse sporcato del sangue del padre no no e ancora no non appena egli scoprì che ella lo amava che lo invitava a sé e gli prometteva una nuova felicità ci giurerei che gli dovette sentire l'impulso al suicidio due volte tre volte più forte e si sarebbe sicuramente suicidato se avesse avuto alle spalle il cadavere del padre oh no non avrebbe dimenticato dove aveva messo le pistole io conosco l'imputato la spietatezza selvaggia e coriacea che l'accusa gli attribuisce non si addice al suo carattere si sarebbe ucciso questo è certo egli non si uccise proprio perché la madre aveva pregato per lui e il suo cuore non si era macchiato del sangue del padre egli si tormentava e soffriva quella notte a Mocroe solo per il vecchio Grigori da lui aggredito e dentro di sé supplicava Dio che il vecchio si alzasse e si riprendesse che il colpo non fosse stato mortale e che non dovesse essere punito per quel delitto perché non assumere una tale interpretazione degli avvenimenti di quale prova schiacciante disponiamo per dire che l'imputato ci sta mentendo ma torneranno a dirci che c'è il cadavere del padre se l'imputato è fuggito e non ha ucciso chi è stato allora ad uccidere quel vecchio qui torno a dire risiede tutta la logica dell'accusa chi mai può essere stato se non lui non abbiamo nessuno da accusare al posto suo ci dicono signori della giuria ma è proprio vero questo? è sicuramente realmente vero che non c'è proprio nessuno da accusare al posto suo? abbiamo sentito che l'accusa contava sulle dita tutti quelli che si trovavano o passavano in quella casa quella notte c'erano cinque persone tre di queste ne convengo sono fuori questione la vittima il vecchio Grigori e sua moglie dunque rimangono l'imputato è Smerdyakov ed ecco che il pubblico ministero esclama pateticamente che l'imputato accusa Smerdyakov perché non ha altri da accusare perché se ci fosse stata una sesta persona anche solo il fantasma di una sesta persona l'imputato avrebbe immediatamente smesso di accusare Smerdyakov anzi se ne sarebbe vergognato e avrebbe accusato questa sesta persona magari ma ma signori della giuria perché non giungere a una conclusione completamente opposta ci sono due persone l'imputato e Smerdyakov perché non potrei dire che voi accusate il mio cliente unicamente perché non avete nessun altro da accusare e se non avete nessuno perché avete escluso Smerdyakov da ogni sospetto sulla base di un mero pregiudizio sì è vero Smerdyakov viene accusato soltanto dall'imputato dai suoi due fratelli dalla Svetlova e basta ma ci sono anche altri che lo accusano ci sono vaghe voci in società su una certa questione un certo sospetto gira una voce oscura si sente nell'aria una certa attesa infine abbiamo la prova di una combinazione di fatti molto significativa sebbene devo ammetterlo anch'essa vaga in primo luogo quell'attacco di epilessia proprio il giorno della catastrofe un attacco la cui autenticità l'accusa per qualche ragione si è vista costretta a sostenere e difendere poi l'atteso suicidio di Smerdyakov alla vigilia del processo dopodiché la non meno in attesa testimonianza oggi qui al processo del maggiore dei due fratelli dell'imputato il quale fino ad oggi aveva creduto alla colpevolezza del fratello ed ecco che all'improvviso consegna il denaro e proclama ancora una volta il nome di Smerdyakov come quello dell'assassino oh condivido la ferma convinzione della corte e del procuratore che Ivan Karamazov sia malato e soffra di febbre cerebrale che la sua testimonianza possa essere un tentativo disperato concepito per di più nel delirio di salvare il fratello gettando la colpa sul defunto non di meno il nome di Smerdyakov viene pronunciato e ancora una volta esso evoca un non so che di enigmatico come se ci fosse qualcosa di inespresso signori della giuria qualcosa di incompleto qualcosa che un giorno forse sarà espresso pienamente ma per il momento lasciamo stare questo argomento ne parleremo in seguito la corte ha deciso di proseguire la seduta ma nel frattempo potrei fare qualche considerazione riguardo al bozzetto di carattere del defunto Smerdyakov tracciato con tanto acume e abilità dal nostro pubblico ministero pur ammirando il suo talento non posso tuttavia concordare del tutto con la sostanza di quel bozzetto sono andato a trovare Smerdyakov l'ho incontrato e gli ho parlato e lui mi ha fatto un'impressione completamente diversa certo era debole di costituzione questo è vero ma il suo carattere il suo animo non erano affatto così deboli come l'accusa ritiene che fossero soprattutto in lui non ho trovato la minima traccia di timidezza proprio di quella timidezza che il pubblico ministero ci ha descritto in maniera così pittoresca non c'era ombra di semplicità in lui al contrario ho riscontrato una terribile diffidenza mascherata da ingenuità e un cervello dalle notevolissime potenzialità l'accusa è stata molto ingenua a considerarlo una persona debole di mente che gli ha prodotto su di me un'impressione molto precisa mi sono congedato da lui con la convinzione che egli fosse una creatura decisamente perfida smisuratamente ambiziosa vendicativa e riarsa da invidia ho raccolto qualche informazione sul suo conto egli detestavo alla propria origine se ne vergognava gli stridevano i denti quando gli ricordavano che era venuto fuori dalla smerdasca mancava di rispetto al servo Grigori e a sua moglie che si erano presi cura di lui quando era piccolo ma le diceva la Russia la scherniva sognava di andarsene in Francia per sempre e trasformarsi in un francese spesso e volentieri in passato aveva dichiarato che gli mancavano i mezzi per realizzare questo progetto mi sembra che non amasse nessuno al di fuori di se stesso e aveva un altissimo concetto di sé la sua idea di civiltà si riduceva agli abiti di buona fattura agli sparati lindi e agli stivali lucidati lui stesso si considerava ne abbiamo le prove figlio illegittimo di Fiodor Paolović e poteva ben risentirsi della propria posizione a confronto con quella dei figli illegittimi del suo padrone a loro tutto e a lui niente a loro tutti i diritti a loro l'eredità mentre lui era soltanto un cuoco egli mi disse di aver aiutato Fiodor Paolović a infilare i soldi nel plico la destinazione di quel denaro una somma che avrebbe potuto rendere possibile la sua carriera doveva essere certamente odiosa per lui per di più egli aveva visto la somma di 3000 rubli in banconote iridate fiammanti lo interrogai a questo proposito o diffidate dal mostrare a un uomo invidioso e pieno di amor proprio una grossa somma di denaro tutta in un colpo ed era la prima volta che egli vedeva tanto denaro nelle mani di un uomo l'impressione del mazzetto iridato poteva avere ripercussioni negative sulla sua immaginazione sia pure senza risultati immediati l'abilissimo pubblico ministero con straordinaria precisione ci ha esposto tutti i pro e i contro dell'ipoteci di una imputazione di omicidio contro Smerdiakov e in particolare si è domandato quale motivo potesse avere di simulare un attacco di epilessia ma poteva benissimo non avere avuto motivo di simulare l'attacco poteva essere sopraggiunto in maniera del tutto naturale e il malato poi poteva essersi ripreso supponiamo che il malato non fosse guarito del tutto ma avesse avuto modo di rinvenire e riprendersi come accade alle volte nei casi di epilessia l'accusa domanda in quale momento Smerdiakov avrebbe potuto compiere il delitto ma è facilissimo indicare quel momento egli poteva riprendersi e svegliarsi dal sonno profondo già che egli stava soltanto dormendo dopo gli attacchi di epilessia insorge sempre una profonda sonnorenza proprio nell'istante in cui il vecchio Grigori afferrata alla gamba dell'imputato che cercava di scavalcare lo steccato gridava a squarciagola parricida quel grido eccezionale nel silenzio e nell'oscurità potrebbe aver svegliato Smerdiakov che in quel momento forse aveva il sonno più leggero potrebbe pure darsi che avesse cominciato a riaversi un'ora prima alzatosi dal letto egli si dirise quasi inconsciamente senza alcun preciso motivo in direzione del grido per vedere di cosa si tratti la sua mente è ancora annebbiata dal malore le facoltà mentali sono ancora mezza assopite ma eccolo in giardino si avvicina alle finestre illuminate e sente la terribile notizia dalle labbra del padrone che naturalmente è molto contento di vederlo la sua immaginazione si mette subito a lavorare febbrilmente apprende tutti i dettagli dal padrone atterrito ed ecco che gradualmente nel suo cervello sconvolto e malato si forma un'idea terribile ma seducente e dalla logica irresistibile uccidere prendere i 3000 rubli e poi scaricare tutta la colpa sul signorino a chi altri potrebbero pensare adesso se non al signorino chi altri potrebbero accusare se non lui egli era lì ci sono tutte le prove una terribile avidità di denaro di bottino potrebbe avergli ghermito l'anima al pensiero di rimanere impunito oh questi improvvisi irresistibili slanci sono così comuni all'occasione e soprattutto sopraggiungono agli assassini che solo un attimo prima non avevano idea che avrebbero commesso un omicidio ed ecco che Smerdyakov potrebbe essere entrato in casa del padrone e aver eseguito il suo piano ma con che cosa con quale arma ma con la prima pietra trovata in giardino ma perché con quale scopo per quei 3000 rubli il suo futuro oh non sto cadendo in contraddizione il denaro poteva benissimo esistere e può darsi pure che Smerdyakov fosse l'unico a sapere in quale posto precisamente si trovasse in casa del padrone e l'involucro vuoto e la busta lacerata sul pavimento poco fa quando il pubblico ministero parlando di quel plico esponeva il suo acutissimo ragionamento in base al quale solo un ladro casuale come era appunto Karamazov avrebbe lasciato quel plico sul pavimento e non certo uno come Smerdyakov che non avrebbe mai lasciato in giro una tale prova contro se stesso ecco allora signori della giuria mentre ascoltavo mi è sembrato tutto a un tratto di udire qualcosa di molto familiare figuratevi ho sentito quello stesso ragionamento quella stessa congettura di come cioè si sarebbe comportato Karamazov con quel plico dalle labbra stesse di Smerdyakov esattamente due giorni fa e non solo la cosa mi aveva molto meravigliato allora mi era giusto sembrato che egli facesse il finto tonto che mettesse le mani avanti che volesse impormi quell'idea in modo che io giungessi da solo a quello stesso ragionamento mentre lui quasi me lo suggeriva non ha insinuato la stessa idea anche negli inquirenti non ha forse insinuato questa stessa idea anche nell'abilissimo procuratore mi diranno e la vecchia la moglie di Grigori infatti ella ha sentito per tutta la notte gemere il malato nel letto vicino al suo sì l'ha sentito ma la sua testimonianza è estremamente inaffidabile ho conosciuto una signora che si lamentava amaramente di non aver chiuso occhio a causa di un cane ringhioso nel cortile eppure quel povero cagnolino come hanno accertato in seguito aveva abbaiato solo due o tre volte nel corso di tutta la notte ed è naturale una persona dorme e all'improvvisode un gemito si sveglia irritata che abbiano interrotto il suo sonno ma si riaddormenta subito dopo un paio d'ore si sente di nuovo quel gemito quello si sveglia di nuovo e si riaddormenta infine quel gemito si ode per la terza volta sempre dopo un paio d'ore in tutto tre volte in una notte indomani il dormiente si alza e si lamenta che qualcuno non ha fatto che gemere tutta la notte svegliandolo in continuazione ed è normale che abbia questa impressione negli intervalli fra un gemito e l'altro di circa due ore egli ha dormito e non lo ricorda si ricorda invece soltanto dei momenti in cui è stato svegliato e quindi gli sembra di essere stato svegliato in continuazione tutta la notte ma perché Smerdyakov non ha confessato nel messaggio scritto in punto di morte la coscienza lo ha indotto a fare una cosa e non l'altra ma di grazia la coscienza implica pentimento e l'omicida poteva non provare pentimento ma solo disperazione la disperazione e il pentimento sono due cose completamente diverse la disperazione può essere vendicativa e aliena dal desiderio di riconciliazione e il suicida nel momento in cui colpiva se stesso poteva avere doppiamente in odio coloro che aveva invidiato per tutta la vita signori della giuria guardatevi da un errore giudiziario che cosa c'è di improbabile in tutto quello che vi ho orora esposto ed è scritto cercate un errore nella mia esposizione cercate qualcosa di impossibile di assurdo se però c'è soltanto un'ombra di possibilità anche solo un'ombra di verosimiglianza nelle mie supposizioni astenetevi dal condannarlo ma nel nostro caso c'è forse solo un'ombra di probabilità vi giuro su quello che ho di più sacro che credo fermamente nella versione del delitto che vi ho appena esposto ma soprattutto soprattutto mi turba e mi rende furioso il pensiero che di tutta quella massa di circostanze accumulate dal pubblico ministero contro l'imputato non ce ne sia una una sola che sia anche solo in parte certa e inconfutabile eppure quel disgraziato rischia di essere rovinato da quella mole di fatti sì quella mole è terribile quel sangue quel sangue che grondava dalle dita da biancheria insanguinata quella notte scura lacerata dal grido parricida e quell'uomo che urla che cade con il cranio fracassato e poi quella massa di versioni testimonianze gesti grida oh tutto questo può influenzare può falsare il giudizio ma il vostro il vostro giudizio signori della giuria può falsarlo ricordatevi vi è stato attribuito un potere assoluto il potere di sciogliere o di legare ma tanto più forte è il potere tanto più terribile è la sua applicazione non rinnego una parola di quello che ho detto finora ma ammettiamo ammettiamo per un solo momento che io convenga con l'accusa sul fatto che il mio disgraziato cliente si sia macchiato le mani del sangue di suo padre è solo un'ipotesi lo ripeto io non ho dubitato nemmeno per un istante della sua innocenza ma supponiamo che l'imputato mio cliente sia colpevole di parricidio ascoltate bene quello che vi dico nel caso ammettessi una tale ipotesi nel cuore ho ancora qualcosa da dirvi perché sento che pure nei vostri cuori e nelle vostre menti ci deve essere un profondo conflitto perdonatemi se parlo così della vostra mente e dei vostri cuori signori della giuria ma voglio essere schietto e sincero fino all'ultimo anzi vorrei che tutti noi fossimo sinceri a quel punto l'avvocato difensore fu interrotto da un applauso piuttosto forte infatti egli aveva pronunciato queste ultime parole con una nota di sincerità così intensa che tutti probabilmente pensarono che egli avesse davvero qualcosa da dire e che quello che avrebbe detto in quel momento sarebbe stata la cosa più importante ma il presidente a quell'applauso minacciò ad alta voce di far sgombrare l'aula se si fosse ripetuto un simile incidente calò il silenzio assoluto e fetiucovie proseguì con un tono di voce nuovo vibrante di sentimento completamente diverso da quello con cui aveva parlato fino a quel momento un adultero del pensiero non è soltanto la mole degli indizi a rovinare il mio cliente signori della giuria proclamò no quello che rovina realmente il mio cliente è solo un fatto il cadavere del suo anziano genitore se si fosse trattato di un caso di omicidio di ordinaria amministrazione respingereste l'accusa in considerazione dell'inconsistenza dell'infondatezza e dell'assurdità dei fatti presi uno per uno separatamente o almeno esitereste a rovinare il destino di un uomo per mero pregiudizio nei suoi confronti pregiudizio che egli ahimè si è pienamente meritato ma qui non si tratta di un semplice omicidio ma di un parricidio questo delitto ispira soggezione al punto che l'inconsistenza e l'infondatezza stesse degli indizi a carico diventano meno inconsistenti e infondati persino nella mente meno prevenuta come assolvere un tale imputato e se avesse davvero commesso l'omicidio e rimanesse impunito ecco quello che sente ciascuno nel proprio cuore quasi inconsciamente istintivamente sì è una cosa terribile versare il sangue paterno il sangue di colui che mi ha dato la vita il colui che mi ha amato il sangue di colui che non ha risparmiato la sua vita per amor mio che è stato male quando io mi ammalavo sin da quando ero piccolo che ha patito per rendermi felice e ha vissuto solo della mia gioia dei miei successi oh uccidere un simile padre è inconcepibile signori giurati che cosa è un padre un vero padre qual è il significato di questa parola così sublime qual è l'idea sublime qual è l'idea sublime in essa contenuta abbiamo appena indicato almeno in parte che cos'è un vero padre e come potrebbe essere nel presente caso nel quale siamo tutti così presi per il quale i nostri cuori soffrono nel presente caso dicevo il defunto Fiodor Paolovic Karamazov non corrispondeva minimamente a quel concetto di padre che ora si è affacciato al nostro cuore questa è la disgrazia e infatti alcuni padri sono proprio una disgrazia prendiamo in esame questa disgrazia più da vicino non dobbiamo arretrare davanti a nulla signori della giuria vista la decisione che vi tocca prendere soprattutto non dobbiamo arretrare adesso e per così dire ricacciare certe idee come bambini o donne timorose secondo la felice espressione dell'abilissimo pubblico ministero ma nella sua ardente arringa il mio stimato avversario avversario ancora prima che pronunciassi una sola parola ha più volte esclamato no non affiderò a nessuno la difesa dell'accusato non cederò la sua difesa all'avvocato giunto da Pietroburgo io sono l'accusa eppure la difesa questo lo ha dichiarato più volte eppure si è dimenticato di menzionare che se questo terribile imputato è stato capace per ben 23 anni di sebare riconoscenza per una sola libera di nocciole donatogli dall'unica persona che era stata gentile con lui quando egli era ancora un bambino nella sua casa paterna una siffatta persona non può aver dimenticato in quei 23 anni di avere scorazzato a piedi nudi nel cortile sul retro della sua casa paterna senza stivaletti e con i calzonzini retti da un solo bottone secondo la testimonianza del dottor Garzenstube persona di grande umanità signori della giuria a che scopo esaminare più da vicino questa disgrazia e ripetere quello che tutti sanno già che cosa ha trovato il mio cliente una volta giunto da suo padre e perché dipingere il mio cliente come un insensibile egoista un mostro egli è sfrenato selvaggio violento e noi lo stiamo giudicando per questo ma chi è responsabile del suo destino chi è responsabile del fatto che nonostante le buone inclinazioni e il suo nobile e sensibile cuore egli abbia ricevuto un'educazione così disdicevole qualcuno gli ha forse insegnato il buon senso gli ha illuminato la mente con lo studio lo ha amato anche solo un pochino nella sua infanzia il mio cliente è cresciuto grazie alla protezione della provvidenza vale a dire come una fiera selvaggia forse egli era animato da un vivo desiderio di vedere il suo padre dopo tanti anni di lontananza forse ricordando la propria infanzia come in un sogno migliaia di volte aveva ricacciato i rivoltanti fantasmi che lo perseguivano da piccolo e con tutta l'anima aveva desiderato di perdonare e abbracciare il padre e invece che cosa lo aspetta viene accolto unicamente da cinici scherni sospetti e cavilli riguardo al denaro oggetto di contesa egli non ode altro che conversazioni e massime che danno il volto a stomaco pronunciate quotidianamente sorseggiando un cognacchino e infine vede suo padre che tenta di soffiare l'amante a lui a suo figlio con i soldi del figlio o signori della giuria questo rivoltante è crudele e quel vecchio si lamenta con tutti della mancanza di rispetto e della crudeltà del figlio lo svergogna in pubblico lo danneggia lo calunnia accoglie le sue cambiali per mandarlo in galera signori giurati queste anime questi uomini violenti sfrenati dal cuore apparentemente crudele come il mio cliente hanno a volte e questo accade molto di frequente in realtà un cuore tenero solo che non lo danno a vedere non ridete non ridete a questo mio pensiero il mio abile opponente poco fa ha riso spietatamente sul conto del mio cliente menzionando la sua passione per Schiller per il bello e il sublime io non avrei riso di questo se fossi stato al suo posto al posto dell'accusa sì questi cuori lasciate che assuma la difesa di questi cuori così spesso e così ingiustamente fraintesi questi cuori spesso bramano la tenerezza la bellezza la giustizia come in contrasto con se stessi con la loro violenza la loro crudeltà bramano questi valori inconsciamente ma li bramano davvero passionali e crudeli in superficie essi per esempio sono capaci di amare fino alla sofferenza una donna e di amarla di un amore spirituale ed elevato ancora una volta non ridete di me ciò accade molto spesso a tali nature solo che non riescono a nascondere le loro passioni a volte molto rozze ed è questo che salta agli occhi che viene notato mentre l'interiorità di quegli uomini rimane celata e invece le loro passioni si esauriscono rapidamente invece accanto a una creatura elevata e meravigliosa quegli uomini apparentemente rozzi e crudeli cercano la rigenerazione l'occasione di emendarsi di migliorare di diventare nobili e onesti nobili e meravigliosi per quanto questa espressione possa apparire ridicola ho appena detto che non mi sarei permesso di sfiorare la storia d'amore del mio cliente con la signorina Ferciovceva tuttavia una mezza parolina la potrei dire quello che abbiamo poc'anzi ascoltato non era una testimonianza ma solo il grido frenetico di una donna assettata di vendetta e non stava a lei oh no non stava a lei accusare lui di tradimento perché è stata lei stessa a tradire lui per prima se avesse avuto un po' di tempo per pensarci non avrebbe mai reso una tale testimonianza oh non credetele no il mio cliente non è un mostro come lo ha definito lei colui che fu crocifisso amava l'umanità alla vigilia della sua crocifissione dice io sono il buon pastore il buon pastore dà la vita per le sue pecorelle affinché nessuna di esse possa smarrirsi neanche noi dobbiamo permettere che l'anima di un uomo possa smarrirsi mi sono appena domandato che cosa sia un padre e ho esclamato che questa è una parola sublime un nome prezioso ma le parole signori giurati vanno usate onestamente e io mi azzardo a chiamare le cose con il loro nome con la propria denominazione un padre come il vecchio Karamazov assassinato non può essere chiamato padre non è degno di questo nome l'amore filiale per un padre indegno è una cosa assurda impossibile l'amore non può essere creato dal nulla solo Dio può creare dal nulla padri non esacerbate i vostri figli scrive l'apostolo con il cuore infiammato d'amore non è a beneficio del mio cliente che cito queste sacre parole ma le ricordo per tutti i padri chi mi ha autorizzato a predicare ai padri nessuno faccio il mio appello come uomo e cittadino vivo sfoco il nostro è solo un breve passaggio su questa terra commettiamo molte azioni malvagie e pronunciamo molte parole cattive allora cogliamo questo momento buono in cui ci troviamo tutti insieme per dire l'uno all'altro una buona parola ecco quello che sto facendo dal momento che mi trovo qui sfrutterò l'opportunità che ho non per nulla c'è stata concesta questa tribuna dalle più alte autorità la Russia intera ci sta ascoltando non sto parlando solo per i padri qui presenti ma a tutti i padri io grido padri non esacerbate i vostri figli sì adempiamo prima noi all'ammonimento di Cristo solo allora potremo permetterci di esisere la stessa cosa dai nostri figli altrimenti non siamo dei padri ma dei nemici per i nostri figli e loro non sono i nostri figli ma i nostri nemici e siamo stati noi a renderli tali con la misura con la quale avrete misurato sarà misurato anche a voi non sono io a dirlo questo è un precetto del Vangelo misura con lo stesso metro con il quale misurano te come possiamo biasimare i nostri figli se misurano noi secondo la nostra stessa misura non molto tempo fa in Finlandia una fanciulla una serva è stata sospettata di aver dato segretamente alla luce un bambino cominciarono a sorvegliarla e in un angolo del solaio dietro un mucchio di mattoni trovarono il suo baule della cui esistenza nessuno era al corrente lo aprirono e vi trovarono il cadavere del suo figlioletto neonato che lei stessa aveva ucciso nello stesso baule trovarono pure i cadaveri di altri due bimbi che la donna aveva partorito e che lei aveva soppresso appena nati fu lei stessa a confessarlo signori della giuria era quella una madre per i suoi figli si è vero li aveva generati lei ma era una madre per loro qualcuno di noi oserebbe chiamarla con il sacro nome di madre su siamo coraggiosi signori della giuria siamo persino audaci è quasi un obbligo per noi esserlo in un momento simile e non avere timore di certi pensieri e di certe parole come fanno le mercantesse moscovite che temono il metallo e lo zolfo no diamo la dimostrazione che il progresso degli ultimi anni ha coinvolto anche noi e diciamola apertamente che colui che genera un figlio non è ancora un padre un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno oh certo esiste anche un altro significato un'altra interpretazione della parola padre secondo la quale un padre anche se è un mostro anche se è un nemico dei propri figli resta pur sempre un padre per il semplice fatto di aver dato la vita ai suoi figli ma questo è diciamo così il significato mistico che non arrivo a comprendere con il mio intelletto ma che posso solo accettare per fede o per meglio dire sulla parola al pari di molte altre cose che non comprendo ma nelle quali la religione mi impone di credere ma in questo caso è qualcosa che deve rimanere fuori dalla vita reale nella sfera della vita reale che ha in vero i propri diritti ma che pure ci impone grandi doveri e obblighi in quella sfera se vogliamo essere umani e diciamo pure cristiani noi dobbiamo e siamo tenuti ad agire unicamente secondo convinzioni giustificate dalla ragione e dall'esperienza e che siano passate attraverso il crogiuolo dell'analisi insomma noi dobbiamo agire secondo ragione non irrazionalmente e non come in un sogno nel delirio al fine di non arrecare danno ad un uomo di non farlo soffrire e non sopprimere un essere umano ecco quella sarebbe una vera azione cristiana e non soltanto mistica quella sarebbe un'azione razionale e autenticamente filantropica a questo punto in più parti dell'aula si udirono applausi scroscianti ma Fetiukovie agitò le mani come per implorare che lo lasciassero finire senza interruzioni nell'aula calò subito il silenzio assoluto l'oratore proseguì signori della giuria voi credete che simili questioni possano sfuggire ai nostri figli nel caso siano già grandicelli è in grado di ragionare no non è possibile che noi non possiamo pretendere da loro una moderazione impossibile la vista di un padre indegno soprattutto se confrontato con i padri degni degli altri ragazzi coetanei inconsapevolmente suggerisce al giovane interrogativi inquietanti la risposta che convenzionalmente viene data a questi interrogativi è la seguente egli ti ha dato la vita tu sei sangue del suo sangue e quindi devi amarlo il giovane inconsapevolmente comincerà a riflettere ma egli mi amava quando mi ha dato la vita si domanderà sempre più perplesso è stato per amor mio che mi ha generato egli non mi conosceva ignorava persino il mio sesso in quel momento in quel momento di passione con la mente annebbiata dal vino forse e mi ha solo trasmesso un'inclinazione al bere ecco tutto quello che ha fatto per me dovrei amarlo per il solo fatto che mi ha dato la vita quando non gliene ha importato niente di me per tutto il resto della vita forse queste mie domande vi sembreranno brutali crudeli ma non potete esigere da una giovane mente una moderazione impossibile se cacci la natura dalla porta quella rientrerà dalla finestra e soprattutto soprattutto non dobbiamo temere il metallo e lo zolfo ma risolvere la questione così come prescrivono la ragione e l'amore per l'umanità e non come prescrivono le concezioni mistiche come dovremmo risolverla allora ecco come che il figlio vada dinnanzi al padre e gli domandi padre dimmi perché dovrei amarti padre dimostrami che io sono tenuto ad amarti e se quel padre sarà in grado di rispondere e di dargli una buona ragione allora ci troviamo in presenza di una vera famiglia normale che non si fonda su un pregiudizio mistico ma su principi razionali responsabili e sicuramente umanitari in caso contrario se il padre non sarà in grado di dare una risposta sarà la fine per quella famiglia quello non è un padre e il figlio acquisirà la libertà e il diritto da quel momento in poi di considerarlo un estraneo e persino un nemico la nostra tribuna signori della giuria deve essere una scuola di verità e di sani principi a questo punto l'oratore fu interrotto da un battimano incontenibile e quasi frenetico naturalmente non tutto il pubblico stava applaudendo ma una buona metà i padri e le madri presenti applaudivano dalla galleria dove scendevano le signore si udivano strilli ed esclamazioni c'era un gran sventolio di fazzoletti il presidente cominciò a scampanellare con tutta la forza che aveva era palesemente irritato dal comportamento del pubblico ma non si azzardava a sgomberare l'aula come aveva minacciato applaudivano e sventolavano i fazzoletti all'indirizzo dell'oratore anche alcuni fra i notabili seduti in quei posti speciali alle spalle della corte persone di una certa età con tanto di stelle sulla marsina tanto che quando il fracasso si fu acquietato il presidente della corte si limitò a ripetere la sua severa minaccia di far sgomberare l'aula e Fetiukovie eccitato e trionfante continuò il suo discorso signori della giuria vi ricordate quella terribile notte della quale si è tanto parlato oggi in cui il figlio si introdusse in casa del padre scavalcando lo steccato e venne a trovarsi infine faccia a faccia con colui che lo aveva generato il suo nemico e oltraggiatore lo ribadisco con tutte le mie forze egli non era corso a casa del padre per via dei soldi l'imputazione di furto è assurda come ha avuto modo di dimostrare in precedenza e non fu nemmeno allo scopo di uccidere che egli fece irruzione in casa del padre se avesse avuto quell'intenzione egli avrebbe avuto almeno le precauzioni di armarsi con anticipo invece egli afferrò il pestello di ottone istintivamente senza sapere neanche lui il motivo ammettiamo pure che egli abbia ingannato il padre con quei segnali ammettiamo che egli sia penetrato in casa ho già detto che non ho creduto per un solo istante a questa storia ma ammettiamo che sia andata in questo modo signori della giuria vi giuro su tutto quello che c'è di sacro se non si fosse trattato di suo padre ma di una persona qualsiasi che lo avesse oltraggiato egli dopo aver fatto il giro delle stanze ed essersi accertato che quella donna non fosse lì sarebbe scappato via a rotta di collo senza arrecare alcun danno al suo rivale forse lo avrebbe anche colpito spinto da una parte ma niente di più già che non aveva né tempo né voglia di farlo quello che voleva era solo sapere se lei fosse lì ma quello era il padre suo padre oh in quel momento contò soltanto che fosse suo padre l'uomo che lo aveva odiato sin da quando era bambino che era stato il suo nemico il suo persecutore e adesso il suo mostruoso rivale un sentimento di odio lo sopraffece involontariamente irresistibilmente gli annebbiò la mente tutto insorse in un momento fu un impulso di follia e demenza ma anche un impulso della natura che vendicava irresistibilmente inconsciamente come ogni cosa nella natura da violazione delle sue leggi eterne ma neppure allora egli lo uccise io lo affermo e lo grido ad alta voce no egli si limitò a brandire il pestello in un eccesso di disgustata indignazione senza avere l'intenzione di uccidere senza sapere che l'avrebbe ucciso se non avesse avuto quel fatale pestello in mano forse avrebbe semplicemente atterrato suo padre ma non l'avrebbe ucciso mentre fuggiva egli non sapeva di aver ucciso il vecchio che aveva atterrato questo omicidio non è un omicidio questo omicidio non è un parricidio no l'omicidio di un siffatto padre non si può chiamare parricidio un simile omicidio può essere assimilato a un parricidio solo per pregiudizio ma mi appello ancora una volta a voi dal profondo della mia anima ebbe davvero luogo quell'omicidio signori della giuria se poi lo giudicheremo colpevole egli dirà questi uomini non hanno fatto nulla per il mio destino per la mia crescita niente per insegnarmi qualcosa per rendermi migliore per fare di me un uomo questi uomini non mi hanno dato da bere e da mangiare e quando ero nudo in prigione non mi hanno fatto visita eppure mi hanno mandato ai lavori forzati siamo pari adesso adesso non devo loro più nulla e non devo più nulla a nessuno nei secoli dei secoli essi sono cattivi e anch'io sarò altrettanto essi sono crudeli e anch'io sarò altrettanto ecco quello che dirà signori giurati e giuro che con la vostra condanna non farete che facilitargli il compito alleggerirete la sua coscienza e gli maledirà il sangue da lui versato e non lo rimpiangerà allo stesso tempo allo stesso tempo voi sopprimete in lui la possibilità di essere ancora un uomo giacché egli rimarrà cattivo e cieco per tutta la vita ma volete forse condannarlo spaventosamente terribilmente con la punizione più terribile che si possa immaginare e allo stesso tempo salvarlo e rigenerare la sua anima per sempre se è così soffocatelo con la vostra misericordia voi credete sentirete come la sua anima trasalirà e rimarrà atterrita come posso sopportare questa misericordia come posso sopportare tanto amore me lo merito io ecco quello che esclamerà oh io conosco conosco quel cuore quel cuore selvaggio ma nobile signori della giuria esso si inchinerà davanti al vostro gesto esso bramerà un sublime atto d'amore esso si infiammerà e risorgerà per sempre ci sono anime che nella loro grettezza accusano tutto il mondo se soffocherete la sua anima con la misericordia se le darete una dimostrazione di amore essa maledirà il suo operato già che in essa vi sono molti buoni impulsi quell'anima si schiuderà e vedrà che Dio è misericordioso e che gli uomini sono buoni e giusti quell'uomo sarà atterrito e gli sarà schiacciato dal rimorso e dal debito sconfinato che gli sta dinanzi d'ora in avanti e allora non dirà siamo pari ma dirà sono colpevole davanti a tutti gli uomini e sono il più indegno di tutti con lacrime di pentimento e di cocente dolorosa commozione egli esclamerà gli altri uomini sono migliori di me essi hanno voluto salvarmi e non rovinarmi oh è così facile per voi compiere questo atto di misericordia dal momento che in assenza di alcuna prova reale sarebbe troppo spaventoso pronunciare il verdetto sì egli è colpevole meglio assolvere dieci colpevoli che punire un solo innocente la sentite la sentite quella voce maestosa che ci giunge dal secolo passato della nostra gloriosa storia tocca forse a una persona insignificante come me ricordare a voi che il compito della giustizia russa non è solo quello di stabilire il castigo ma anche quello di salvare e rigenerare gli uomini caduti lasciamo che siano le altre nazioni ad attenersi al castigo e alla lettera della legge mentre noi ci atterremo al suo spirito e al significato della salvezza e alla rigenerazione degli uomini caduti e se è così se la Russia e la sua giustizia sono davvero così allora avanti tutta Russia e non cercate di spaventarci non cercate di spaventarci con le vostre folli troiche davanti alle quali si fanno da parte con disgusto gli altri popoli non una troica scatenata ma la maestosa carrozza russa incederà composta e trionfale verso la sua meta nelle vostre mani è il destino del mio cliente nelle vostre mani è anche il destino della giustizia russa voi la salverete voi la difenderete voi dimostrerete che ci sono uomini a guardia di essa e che essa è in buone mani i contadinotti tengono duro così Fetiukovio concluse la sua ringa e questa volta l'entusiasmo del pubblico scoppiò incontenibile come una tempesta era ormai impensabile porgli un freno le donne piangevano piangevano anche molti uomini persino due notabili si scioglievano in lacrime il presidente si arrese e addirittura esitò a scampanellare attentare a quell'entusiasmo sarebbe stato come attentare a qualcosa di sacro così esclamarono in seguito le nostre signore l'oratore stesso era sinceramente commosso e fu a questo punto che i polit si alzò per muovere alcune obiezioni il pubblico lo guardò con odio come? che significa? proprio lui ha il coraggio di fare delle obiezioni cominciarono a mormorare le signore ma seppure avessero protestato tutte le signore del mondo con in testa la procuratessa cioè la moglie di polit kirillovic in quell'istante egli comunque non si sarebbe fermato egli era pallido tremante per l'emozione le sue parole le sue prime battute furono persino incomprensibili gli mancava il respiro articolava male perdeva il filo ma riprese ben presto il controllo di sé di questo suo secondo discorso riporterò però soltanto alcune frasi ci è stato rimproverato di aver imbastito dei romanzi ma che cosa è stata la ringa del difensore se non un romanzo sull'altro solo i versi ci mancavano Fyodor Paulovic che in attesa dell'amante lacera la busta e la getta sul pavimento si è stato persino riferito quello che avrebbe detto mentre era intento a questa sorprendente operazione non è forse questo un poema e dove sono le prove che egli abbia estratto quel denaro dalla busta chi lo ha sentito mentre parlava quell'idiota demente di Smerdiakov trasformato in una sorte di eroe baironiano che si vendica della società per la sua nascita illegittima non è forse questo un poema in stile baironiano è il figlio che fa irruzione in casa del padre lo uccide e al tempo stesso non lo uccide questo non è neppure più un romanzo neppure un poema questa è una sorte di sfinge che propone enigmi che essa stessa ovviamente non è in grado di risolvere se ha ucciso ha ucciso ma se l'abbia ammazzato non l'abbia ammazzato non lo capisce nessuno e poi proclamano che la nostra buona tribuna è una tribuna di verità e di sani principi ed ecco che da questa tribuna di sani principi risuona accompagnato da un giuramento la sioma che chiamare l'omicidio di un padre parricidio è soltanto un pregiudizio ma se il parricidio è un pregiudizio e se ogni figlio si metterà a chiedere a suo padre padre perché devo amarti che cosa ne sarà di noi che cosa ne sarà delle fondamenta stesse della società dove andrà a finire la famiglia il parricidio sapete non è altro che lo zolfo delle mercantesse moscovite i precetti più preziosi e sacri per il destino e il futuro della giustizia russa ci vengono presentati in una forma frivola e distorta solo per raggiungere il proprio scopo per conseguire la giustificazione di qualcosa che non può essere giustificato oh soffocatelo con la misericordia esclama il difensore ma il criminale non chiede di meglio e domani vedrete come sarà soffocato e non è troppo modesto da parte del difensore chiedere soltanto l'assoluzione dell'imputato perché non pretendere anche una borsa di studio in nome del parricida perché la sua impresa venga commemorata dai posteri e dalle nuove generazioni il vangelo e la religione vengono emendati quello è tutto misticismo il nostro invece è il vero cristianesimo già sottoposto al vaglio della ragione e dei sani principi e così innalzano davanti a noi un'imitazione di Cristo con la misura con cui avrete misurato vi sarà rimisurato esclama il difensore e istantaneamente conclude che Cristo ha predicato di misurare con la stessa misura con la quale ci viene misurato e questo dalla tribuna della verità e dei sani principi diamo un'occhiata al vangelo giusto alla vigilia delle nostre arringhe per dar sfoggio di un'erudizione con quella che è tutto sommato un'opera originale che può fare al caso nostro e può sortire un certo effetto secondo l'occorrenza sempre tutto secondo l'occorrenza invece Cristo ci ordina proprio di non fare così di astenerci dal comportarci in questo modo perché è il mondo perverso che agisce così mentre noi dovremmo perdonare e porgere l'altra guancia e non misurare con la stessa misura con la quale misurano i nostri oltraggiatori questo ci ha insegnato il Signore e non che vietare ai figli di ammazzare i padri è un pregiudizio e noi dalla cattedra della verità e dei sani principi non ci metteremo a demandare il Vangelo di nostro Signore che il difensore si degna di chiamare soltanto colui che fu crucifisso e amava l'umanità al contrario di tutta la Russia ortodossa che si rivolge a lui chiamandolo tu sei il nostro Signore a questo punto il Presidente intervenne per porre un freno al fervore dell'oratore e chiese di non esagerare di rimanere nei debiti limiti e tutte le raccomandazioni di rito che normalmente fanno i Presidenti delle Corti in simili occasioni e anche nell'aula c'era inquietudine il pubblico si agitava si udivano persino esclamazioni di indignazione Fetiukovie non replicò nemmeno si limitò a salire sulla tribuna per pronunciare alcune parole piene di dignità con la mano sul cuore e il tono di voce risentito e gli menzionò soltanto di passaggio e con ironia i romanzi e la psicologia e al punto giusto citò Giove ti adiri dunque sei nel torto il che suscitò numerose risatine di approvazione da parte del pubblico già che Ippolit Kirilovich era lungi dall'assomigliare a Giove poi riguardo all'accusa che egli insegnasse alla giovane generazione ad ammazzare i propri padri Fetiukovie con grande dignità disse che non si degnava nemmeno di rispondere riguardo poi all'imitazione di Cristo e al fatto che non avesse chiamato Cristo Dio ma solo colui che fu crucifisso e amava l'umanità il che era contrario all'ortodossia e non poteva essere detto da una tribuna di verità e sani principi Fetiukovie osservò che quella era un'insinuazione e che recandosi in quel luogo egli aveva fatto per lo meno affidamento sul fatto che quella tribuna si sarebbe astenuta da accuse oltraggiose per la mia persona in quanto cittadino e suddito leale ma a queste parole il presidente gli tolse a sua volta la parola e Fetiukovie con un inchino concluse la sua replica fra mormorii di approvazione in aula così Ippolit Kirilovich secondo l'opinione delle nostre signore era stato schiacciato una volta per tutte a quel punto fu concessa la parola all'imputato stesso Mitia si alzò ma disse molto poco egli era sfinito fisicamente e spiritualmente l'aria energica e indipendente che aveva avuto quella mattina entrando in aula era quasi svanita del tutto sembrava che quel giorno avesse vissuto un'esperienza che gli aveva insegnato e rivelato qualcosa di molto importante che prima non conosceva la voce si era indebolita non gridava più come prima nella sua voce risuonava una nota nuova rassegnata di sconfitta e sottomissione che cosa mi resta da dire signori della giuria è arrivata per me l'ora del giudizio la sento la mano di Dio su di me è arrivata la fine di un uomo dissoluto ma vi parlo come se mi confessassi a Dio del sangue di mio padre no non sono colpevole lo ripeto per l'ultima volta non sono stato io ad ucciderlo sono stato un uomo dissoluto ma ho amato il bene in ogni istante della mia vita ho cercato di correggermi ma ho vissuto al pari di una belva selvaggia ringrazio il procuratore ha detto molte cose sul mio conto che io ignoravo ma non è vero che ho ucciso mio padre qui si è sbagliato ringrazio anche il mio difensore ho pianto mentre l'ascoltavo ma non è vero che ho ucciso mio padre e non doveva nemmeno avanzare questa ipotesi quanto ai dottori non credete loro sono perfettamente in me è solo che la mia anima è in pena se mi risparmierete se mi lascerete andare pregherò per voi sarò un uomo migliore vi do la mia parola Dio mi è testimone se mi condannerete sarò io stesso a fracassare la mia spada sopra il mio capo e a baciarne i pezzi ma risparmiatemi non privatemi del mio Dio io mi conosco mormorerei contro di Lui la mia anima è in pena signori risparmiatemi per poco non cadde sul posto la voce ci si era rotta in gola pronunciò a malapena l'ultima frase dopodiché la corte procedette alla formulazione dei coesiti e a chiedere alle due controparti di formulare le loro conclusioni ma non mi dilungherò nei dettagli alla fine i giurati si alzarono per ritirarsi a consulto il presidente era molto stanco e così il suo ultimo ammonimento alla giuria fu piuttosto fiacco siate imparziali non vi fate influenzare dall'eloquenza della difesa ma ponderate ogni cosa ricordate che su di voi ricade una grossa responsabilità e così via i giurati si ritirarono e la seduta fu sospesa adesso ci si poteva alzare muovere scambiare le molte impressioni accumulate fare uno spuntino al buffet era molto tardi quasi l'una di notte ma nessuno andava via erano tutti così tesi ed emozionati che nessuno pensava al riposo tutti erano in attesa con il cuore sospeso ma forse non stavano proprio tutti con il cuore sospeso le signore erano in uno stato di isterica impazienza ma i loro cuori erano tranquilli la soluzione è inevitabile dicevano tutti si preparavano al sensazionale momento di entusiasmo generale devo ammettere che anche molti uomini erano convinti che la soluzione fosse inevitabile alcuni erano contenti altri acciliati altri stavano con tanto di muso quella soluzione non gli andava giù lo stesso Fetiukovie era fermamente convinto del suo successo era circondato da gente che si congratulava e lo adulava esistono disse a un gruppetto di persone come poi riferirono in seguito esistono fili invisibili che legano il difensore alla giuria questi fili si intrecciano e si avvertono già mentre viene pronunciata la ringa io ne ho avuto la percezione e si esistono abbiamo vinto noi state tranquilli e che cosa diranno adesso i nostri contadinotti disse irritato un signore grasso e butterato un proprietario dei dintorni avvicinandosi a un gruppetto di altri signori impegnati in conversazione ma non sono tutti i contadini ci sono quattro impiegati statali sì ci sono gli impiegati ribadì un membro della giunta distrettuale unendosi al gruppo e lo conoscete quel Nazarief Procior Ivanovie lo conoscete quel mercante con la medaglia uno dei giurati e allora quello ha un cervello fino ma sta sempre zitto per stare zitto sta zitto ma è molto meglio così quello di Pietroburgo non ha niente da insegnargli potrebbe insegnare lui a tutta Pietroburgo è padre di dodici figli pensate ma pensate veramente che non lo assolveranno gridava in un altro gruppetto un giovane impiegato nostro cittadino lo assolveranno di sicuro dispose una voce decisa sarebbe una vergogna un ignominia non assolverlo esclamò l'impiegato ammettiamo pure che l'abbia ammazzato ma ci sono padri e padri e poi si trovava in un tale furore potrebbe benissimo aver soltanto agitato il pestello per aria e atterrato così il vecchio peccato soltanto che abbiano tirato in ballo il lacchè quella è una teoria proprio assurda io al posto del difensore avrei detto direttamente l'ha ucciso ma non è colpevole andate al diavolo è esattamente quello che ha detto solo senza l'andate al diavolo no Michel Semenier quasi quasi ha detto pure quello si inserì una terza vocina beh signori in quaresima da noi in città è stata assolta un'attrice che aveva tagliato la gola alla moglie legittima del suo amante si ma non gliela aveva tagliata completamente fa lo stesso fa lo stesso aveva cominciato a tagliargliela che cosa ne pensate di quello che ha detto dei figli splendido vero splendido e del misticismo del misticismo che ne dite eh ma basta parlare di quel misticismo gridò un altro pensate piuttosto a quell'Ippolit e al suo destino da oggi in poi domani la procuratessa gli caverà gli occhi per via di quel mitienca lei è qui che dite se fosse stata qui mi avrebbe cavato gli occhi qui in aula è a casa col mal di denti e in un terzo gruppo forse andrà a finire che quel mitienca lo assolvono dopo tutto non mi meraviglierei se mettesse a soccuadro la capitale domani stesso prenderà una sbronza di dieci giorni oh quel diavolo eh il diavolo proprio il diavolo deve averci messo lo zampino in questa faccenda dove altro potrebbe stare se non qui beh signori devo ammettere che ha parlato con eloquenza tuttavia non si può andare in giro a fracassare il cranio ai genitori a colpi di stadera altrimenti dove arriviamo e la carrozza ve la ricordate la carrozza eh sì ha fatto di un carro una carrozza e domani farà di una carrozza un carro secondo l'occorrenza tutto secondo l'occorrenza che gente fina c'è oggi o giorno ma c'è giustizia qui da noi in Russia signori oppure neanche l'ombra ma squillò il campanello i giurati avevano deliberato in un'ora esatta non un minuto di più né uno di meno un profondo silenzio regnò in aula non appena il pubblico fu di nuovo seduto ricordo il momento in cui i giurati entrarono in aula finalmente non starò a ripetere le domande nell'ordine tanto più che me ne sono dimenticato ricordo soltanto la risposta alla prima e principale domanda del presidente ha l'imputato commesso il delitto a scopo di rapina e con premeditazione non ricordo le parole esatte seguì il silenzio assoluto il portavoce della giuria l'impiegato più giovane pronunciò con voce alta e chiara in mezzo al silenzio di tomba dell'aula sì è colpevole e la stessa risposta venne ripetuta ad ogni domanda colpevole sì colpevole senza la minima attenuante questo nessuno se lo aspettava almeno sulle circostanze attenuanti erano tutti d'accordo il silenzio di morte dell'aula non veniva interrotto era come se tutti fossero impietriti coloro che avevano desiderato la condanna al pari di quelli che avevano desiderato l'assoluzione ma questo solo per i primi minuti poi scoppiò un caos spaventoso fra il pubblico maschile molti erano soddisfatti alcuni si sfregavano addirittura le mani senza serare la propria soddisfazione gli scontenti erano come schiacciati si stringevano nelle spalle sussurravano pareva che ancora non ci si capacitassero ma dio mio in quale stato erano le signore pensavo che avrebbero fatto scoppiare una sommossa sulle prime fu come se non credessero le proprie orecchie e ad un tratto per tutta la sala si udì vociare ma che cosa significa che cos'è questo balzarono dai loro posti evidentemente pensavano che tutto potesse essere riconsiderato ribaltato in quel momento Mitya si alzò in piedi e gridò con un tono di voce lacerante protendendo le mani davanti a sé vi giuro su dio e sul giorno del giudizio che sono innocente del sangue di mio padre Katia ti perdono fratelli amici abbiate pietà dell'altra egli non riuscì ad andare avanti e proruppe in singhiozzi udibili a tutta la sala con una voce terribile a sentirsi che non sembrava sua una voce nuova e sorprendente che dio solo sa dove gli era sorta dalla galleria dall'alto dall'angolo più remoto si levò un lancinante urlo di donna era glushenka aveva supplicato qualcuno e l'avevano fatta entrare in un'aula prima della ring degli avvocati condussero via mitia la lettura della sentenza fu rimandata al giorno successivo nell'aula si sollevò un trambusto indicibile ma io non restai a sentire quello che si diceva ricordo soltanto alcune battute ad alta voce che odì all'uscita si beccherà una ventina di anni di miniera non meno e così i contadinotti hanno tenuto duro e hanno bello e sistemato il nostro mitienka di miniera di miniera